e signori benvenuti in quest'ultima giornata di Brawl Stars World Final siamo sempre qui, sempre in compagnia di Daniele ciao ragazzi, ciao a tutti carichi Daniele che spettacolo ci aspetta oggi è la giornata conclusiva, oggi vedremo chi sarà il campione mamma mia Daniele, io sto super in hype perché per noi italiani la finale non è qualcosa che c'è alla fine per noi la finale c'è subito, è subito, è tutto ora è tutto in questo momento e quindi ragazzi massimo hype perché stiamo per partire con lo scontro degli scontri vediamo al volo, le prediction degli scontri di oggi fatte dai caster, attenzione c'è un 50% 50-50, è vero, è vero, è vero Teddy e Ark sono nella parte di Totem e invece Reddy e Mr. Muskolo sono Z1 eh ma Reddy mi stava simpatico, pensa a te adesso non più adesso non più vedo però una grande differenza tra quello che hanno detto loro e quello che abbiamo detto noi vi facciamo vedere le nostre prediction ragazzi prima, quelle che avevamo fatto prima, il primo giorno è vero, ovviamente vedete che ci sono gli stalwart che sono stati io avevo puntato su di loro, purtroppo mi hanno deluso loro sì che non sono più miei amici ma adesso vi facciamo vedere le nostre nuove prediction definitive eccole qua ragazzi questo è come andrà secondo noi la giornata di oggi assolutamente raccontaci un po' queste prediction sì diciamo che io poi segretamente sul sito ho fatto cose però giustamente questa è la prediction che abbiamo dato e ragazzi ovviamente mettiamo in conto che da oggi già dal primo giorno ma da oggi non si scherza più tutte le partite saranno una vera battaglia eh sì, eh sì ragazzi io ovviamente tifo spudoratamente per l'Italia per i nostri ragazzi di Totem perché ragazzi quello che abbiamo costruito quest'anno è qualcosa di incredibile è un team praticamente tutto italiano che arriva fin qua è qualcosa di assurdo sì sì, veramente veramente tanta roba e oltretutto come hanno notato anche tanti ci sono quest'anno molti team europei che sono ancora in ballo meno male dopo l'anno scorso dove siamo saltati come sì, uno dopo l'altro sì, primi turni quest'anno ragazzi facciamo veramente faville e facciamo faville già dal primo round appunto col team Replay Totem che va a sfidarsi contro niente proprio di meno che gli ex campioni in carica gli Z Division 1 abbiamo qualche bella ripresa da potervi far vedere abbiamo tra l'altro la presentazione sul palco proprio in questo momento del caster del presentatore che appunto c'è qua a Parigi sta per dare il benvenuto alle Z Division 1 ragazzi piccola presentazione per questo team per chi non lo conoscesse primi nella loro regione primi nella regione Est Asia due slot disponibili per questa regione sono arrivati i primi con mille e due punti e sono tutti ragazzi che arrivano proprio dal Giappone eccoli qua tutti in fila ragazzi Kenji Moia Goku e Sitetampo ragazzi esatto che vediamo lì in mezzo Sitetampo sicuramente è quello più che abbiamo già sentito nominare in quanto a detta della maggioranza della community è il player più forte al mondo e quindi la difficoltà è subito al massimo per il team di Replay Totem la gente che abbiamo sentito fino adesso aveva detto chi vince questo Dani? Sì da tutti questo qua è lo scontro decisivo chi passa da questo round ha buonissime possibilità di arrivare in fondo e di alzare la corona la coppa la corona la coppa alza tutto alza veramente tutto si alza tutto ragazzi perché dovete cercare di capire che qua la situazione è veramente complicata abbiamo sul camp sulle torrette come vedete tre ragazzi dell'ex team Z che adesso si è appunto diviso in due divisioni Kenji e Moia Goku che abbiamo visti per la prima volta ieri appunto e hanno fatto veramente comunque un bel esordio sì Z a zero un po' più in difficoltà un po' più in difficoltà rispetto all'altro team ma di questo ne parleremo meglio adesso è arrivato il momento ragazzi di dare il benvenuto al team italiano Replay Totem eccoli qua rispettivamente entrano Mauri Joker e Maru che abbiamo avuto il piacere di intervistare proprio ieri è vero è vero abbiamo avuto l'opportunità anzi l'hai intervistato l'hai intervistato proprio te? beh comunque Dani era qua non è che si si ero dietro le quinte che vi guardavo facevo le facce brutte mentre mentre vi parlavi no non è vero ragazzi fate il vostro GoTotem il vostro tifo non è sprecato non è che va nel vuoto lo si rivedrà qua tutte le le centinaia le migliaia le decine di migliaia di volte che verrà vista questa live assolutamente assolutamente il vostro tifo rimarrà indelebile in questa chat e quindi ragazzi spammate spammate non abbiate paura fatevi sentire facciamo sentire calore a questi ragazzi che sono concentratissimi una bella inquadratura per i ragazzi di Totem è arrivato anche Inzo che non era giustamente sulla presentazione con il suo famoso taccuino in cui ha tutti i segreti tutte le strategie ragazzi se c'è qualcosa da sfoderare i ragazzi di Totem lo sfodereranno proprio ora esatto tutto ora è arrivato il momento veramente di tirare fuori l'assi nella manica i team che hanno passato giorno 1 e giorno 2 adesso si giocano veramente il tutto per tutto adesso o si rimane o si va a casa assolutamente sì l'ha detto anche Dani gli Z Division 1 non sono invunerabili si possono scalfire ieri sono stati scalfiti non una non due ma ben tre volte infatti nelle giornate precedenti sia ieri che l'altro ieri tutti i match sono finiti 3-0 tranne è vero questa è una piccola curiosità che abbiamo notato l'unico team anzi l'unica orga a questo punto che ha perso qualche set delle orga vincitrici sì delle orga ovviamente che hanno passato il turno è proprio i ragazzi Z Division quello che non avrebbe detto mai nessuno esatto infatti sono state battute 3-0 un sacco di orga bene di nota le ricordiamo molto rapidamente Reconic eSport i Vatra Gaming i Clash i Navi anche i Chasmac assolutamente i Navi come hai detto te e abbiamo gli Stalwart gli Stalwart il team su cui io avevo abbastanza puntato su cui speravo di vedere un po' di spettacolo gli Zest da parte l'Atam anche i Chasmac Brasil e appunto i Navi come hai detto tu sì abbiamo finito infatti sono loro sono loro questi sono i team che ci hanno abbandonato ma non fisicamente perché sono qua a godersi lo spettacolo ci presentano Ferre la prima mappa che deciderà già lo start di Z1 contro Totem ed è proprio arcodoppio se non ho visto male è una mappa molto schillata questa ragazzi sì 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 qua si parte subito sul difficile sul tecnico ma per oggi questo ci aspettiamo assolutamente ragazzi allora ti passo avanti per i ban dell'IZ poi oggi ti occupi oggi mi occupo di loro e oggi ti occupi di loro allora ragazzi i ban di Z1 sono Janet Crow e Max mentre i ban per quanto riguarda i Totem sono Pocho Stu e Carl finalmente un occhio di riguardo sto Carl sarà una buona mossa? io credo di sì vediamo il primo pick c'è ed è un bo ok dall'altra parte Z1 invece va con Penny e Bea esatto e la risposta arriva da parte di Ripley Totem per poi lasciare il terzo pick proprio all'IZ esatto esatto però già io noto un qualcosa perché il bo primo pick ottimo ma non ho capito la risposta dell'IZ con la Bea Bea comunque soffre il bo vogliono togliere vogliono togliere delle anti-tank vanno di Jin se Jin ce lo mette il nostro Mauri potrebbe assoluto darci delle grandi soddisfazioni e vanno proprio a mettere un Buster contro contro la Bea e voglio vedere questo Buster in arco doppio come funziona anche contro Penny non è proprio facilissimo da gestire assolutamente assolutamente diciamo che Buster con la ulti ha tantissime soluzioni e può anche neutralizzare per assurdo il gadget di Penny vediamo sono veramente curioso Dani perché Buster abbiamo visto ieri che comunque sia col Gear può essere veramente veloce nei cespulli di questa mappa arriva l'ultimo pick la Colette il team dell'IZ è totalmente anti-tank non so il poveretto che dovrà usare Buster come farà oggi sarà dura ma penso anche le altre lane non si divertiranno ora vediamo lo start io sono io ferre oggi sono in hype io voglio vedere queste partite sono curioso delle strategie che attueranno in campo e soprattutto del gameplay di questi ragazzi ma un po' di tutti la differenza qua sicuramente la farà il Buster poco ma sicuro ragazzi il Buster se la gioca bene può fare la differenza ma non è semplice ragazzi tra l'altro doppia lane per quanto riguarda il team dell'IZ Division 1 che vanno sulla sinistra appunto e vanno subito a prendere le gemme si portano in un leggero vantaggio sul mid sempre il Buster affiancato da il Gine di Mauri la comp praticamente è molto compatta stanno puntando a piazzare un player a sinistra anche se adesso Joker tenta l'attacco dall'altra parte Maru con la ulti la difesa di Sitetampo che giustamente come funziona Buster lo sa lo sa e va a schiacciare anche molto bene il Buster non mi aspettavo questo start da parte di Sitetampo che proprio senza indugio è infilato dentro Maru in tutti i sensi esatto si si l'ha colpito sicuramente molto bene lì il Buster è stata una scelta molto particolare arriva il grab di Mauri attenzione il grab di Mauri che va subito a ribaltare un pochettino la situazione ma c'è Kenji con con otto gemme otto gemme da tirare giù deve stare attento la mano di Mauri aspetta solo Kenji non so se hai visto c'è arrivato anche lo switch da parte di Totten hanno piazzato Joker a destra e Maru è sulla sinistra guarda Sitetampo è lì che lo aspetta sicuramente molto importante guarda il push di Joker bravissimo che prende la kill Sitetampo deve stare molto attento dall'avanzata di Maru sulla sinistra guarda Joker che ora la lane non la perde anzi push arriva anche Mauri in mid pericolosissimi lì Z schiacciati Z schiacciati potrebbe arrivare un bel push qua da parte di Totten in realtà stanno molto compatti non male il grab Sitetampo da parte di Mauri attenzione rimangono gli altri due player di Z1 e le male gemme sono ancora tutte lì si ritrova la parità ma ragazzi ancora tutto a decidere i ragazzi di Z1 non riescono più ad uscire Totten prende le 10 gemme ma non bastano non bastano ne servono di più non possono permettersi di lasciare ulteriormente attenzione la kill su Sitetampo ragazzi potrebbe arrivare Kenjin difficoltà e 500 di minute attenzione su il Maru arrivata attenzione la kill di Maru il grab su Mojagoku di Mauri ancora il terzo grab in una sola partita Mauri one shot nel frattempo raggiungono le 12 gemme qui arriva la kill arriva la kill di Mojagoku provano a riprendere un pochino di fiato arriva Mauri ancora parità ritrova ancora parità incredibile ragazzi grab a disposizione di Mauri non ci credo prende Kenjin ragazzi Mauri attenzione riesce a prendere la maggioranza delle gemme e ritorna in spawn Joker ragazzi la magia la magia 4 grab in una sola partita Mauri furioso ragazzi ma cosa abbiamo appena visto 4 grab in una sola partita l'ultimo sul mid che start che start ragazzi mamma mia veramente guarda qua che grab mamma mia pazzesco ragazzi ora sono curioso di vedere se aveva anche il gear quello là specifico per Jin ma in questo caso sembrava ne avessi anche 2 di gear sembrava ne avessi anche 2 di prolunghe sulla gittata esatto c'è da dire però che il primo round vinto ha sempre portato sfortuna fino adesso quindi non diciamo nulla per carità esatto non diciamo nulla per carità vediamo vediamo lo start subito molto buono per Z1 che prende il dominio della parte sinistra però adesso arriva lo switch come prima attenzione invece arriva la doppia lane a destra Joker e Maru tentano push eh sì qua guarda che bella che bella offensiva con questo Buster ragazzi e Maru un trattore con quel Buster un'altra ulti per lui ma Sitte Tampo arriva di là lo va a colpire lo va a colpire guarda Mauri è pronto vuole ancora una volta Mojagoku assolutamente sì ragazzi qua la rottura del buo è veramente importante va a rompere un mito importante il primo che era di Mauri arriva anche questa partita ragazzi le gemme sono sul Joker abbiamo Sitte Tampo con il gadget a disposizione per recuperare la vita devono stare attenti i ragazzi di Totem ma anche perché in questo momento hanno le gemme leggermente splittate il mid non è più anzi il gem carrier non è più Mauri ma in questo momento è Joker assolutamente sì Maru guarda come sta tenendo la occhio all'attacco però di Zeta su Joker che è one shot deve stare molto molto attento riesce a resistere molto bene ce l'ha dire qua Maru purtroppo va giù e qua c'è una presa di posizione importante da parte di Zeta che va a chillare sul però attenzione perché così potrebbe recuperare tutte le gemme Mauri recupera tutte le gemme Mauri in realtà non è male per assurdo un favore da parte di Sitte Tampo si è ancora aggiustata bene il vantaggio ovviamente degli Zeta devono recuperare i ragazzi di Totem a questo punto buono l'avanzata con il Buster che comunque è qualcosa di assurdo ragazzi veramente veramente buono guarda con questa ulti che lavoro che va a fare Mojagoku aspetta fino all'ultimo prende la gemma attenzione perché Sitte Tampo non torna indietro non torna indietro infatti tanta roba qua sicuramente il Brole sta facendo molto ragazzi il Brole sta facendo molto di nuovo una bellissima ultima parte di Maru qua Mauri rischia di andare giù attenzione a Sitte Tampo Sitte Tampo che prende una mina arrivano sulle 10 gemme non bastano per Zeta ragazzi non bastano arriva il pareggio esatto adesso la gemma dovrebbe esponare dalla parte di Zeta c'è Maru lì sul Kivala c'è una bella occasione push per entrambi i team vediamo come la vanno sfruttare bravissimo Sitte Tampo utilizza la ulti qua Mauri prova il push ma attenzione a Mauri da tenere d'occhio Mauri con il grab è pronto deve stare attento va giù le raccatta Maru e non fanno in tempo addirittura una ulti per andare a recuperare la gemma è stato veramente pazzesco allora la mossa di Sitte Tampo veramente perfect timing ma io si sta coprendo la bocca tanto se parla in giapponese non penso ci siano problemi pazzesco si coprono la bocca per non far vedere cosa dicono è incredibile comunque chissà cosa si saranno detti a questo punto mi viene da dire vediamo ragazzi la ripartenza sempre compatti sul mid i ragazzi di Totem cambia comunque completamente il setup lo vedete Sitte Tampo sulla line di destra hanno provato il Totem con il Gin Lane eh si provano il Gin Lane e lasciano tantissimo spazio a Sitte Tampo sulla line di destra che però non ne approfitta non avanza eh no guarda Maru però sempre con questo Buster bestiale ma Sitte Tampo qua lo gestisce veramente bene ma ha usato anche il gadget è divisore veramente tutto Sitte Tampo per buttare giù il lane Maru si e oltretutto questo cambio di setup non sembra aver dato grandi risultati per il momento perché vediamo un vantaggio da parte di Z abbastanza importante vediamo qua come se la gioca da gestire è veramente difficile deve sfoderare un bel push Maru per far avanzare i compagni di squadra anche perché lui il caro armato del team quello che deve portare avanti il tutto il suo team e grab di Mauri ancora ragazzi riesce a fare un ottimo grab a questo punto della partita è fondamentale l'ultima gem per il team di Totem e qua potrebbe killare Maru e ce la fa ancora la gem a favore di Totem la potrebbe prendere Mauri hanno le 10 gem e 8 gem di vantaggio possono iniziare la difesa e con Buster con la ulti carica questo sembra essere davvero fattibile per loro attenzione all'attacco dell'IZ arriva Maru con la ulti provano a resistere 5 secondi 4 3 2 1 e ragazzi Totem vincono il primo set qualcosa di incredibile qualcosa di incredibile complimenti complimenti a questi ragazzi ma il grab a tradimento nei cespugli di Mauri Mauri con quel grab ci guarda con quell'occhio Mauri Mauri con quell'occhio che ha grabbato veramente l'impossibile in questa partita bravissimo bravissimo mamma mia ragazzi se è tutta così questa partita è qualcosa di incredibile guarda qua le kill di sete tampo hai visto che ulti che ha fatto si è preciso ha questa bravura di utilizzare i muri con Carlo con Colette è l'abitudine di usare Carlo diventa proprio velocissimo nei suoi colpi è qualcosa di veramente pazzesco qua vediamo la gemma mamma mia quella ulti lì non se l'aspettava nessuno una ulti per andare a prendere una gemma è molto strategico mamma mia ragazzi veramente ora però volevo vedere se ah non ce lo fanno rivedere qua già alla fine del terzo era bello da rivedere il grab nei cespugli che ha fatto Mauri perché è andato a prendere in un momento il mid che proprio non se ne accorgeva e qua vediamo le statistiche ragazzi ben 8 kill per Maru e Mauri ma Mauri con Jin 8 kill ma Joker il player che ha fatto più DPS in realtà per su tutta la partita il player con più DPS ci siete tanto che in proporzione alle kill comunque ha fatto una prestazione veramente molto 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 importante sì 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 assolutamente adesso ci presentano ragazzi la mappa la mappa che sarà la protagonista del secondo set ovvero Ring di Fuoco Ring of Fire ragazzi è qualcosa di veramente masterato mi sembra da dire per un po' come arco doppio sono quelle mappe che ormai i player i team le conoscono a memoria se le sognano la notte nei loro migliori sogni parlare di masterato infatti è anche superfluo perché le mappe che vedete ovviamente sono state provate riprovate 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 a tutti i team centinaia di volte assolutamente io direi di partire al volo con i ban Z ragazzi i banano Raf Penny e Bea esatto e a seguire la risposta dei totem è di Griff Otis e Bell ok vediamo al volo i due pick di Z che sono rispettivamente il secondo e terzo pick del draft Max e Meg attenzione la Meg che se non sbaglio mi hai citato giorno 1 eh sì qua è veramente forte il primo pick per i totem è un Lu scelta comunque un po' più particolare per i team europei in genere viene sempre stato utilizzato un po' meno sì che comunque Lu brawler che su Ozone soprattutto sulle mappe ad una zona prende tanto 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 valore sì 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 veramente tanto valore per questo brawler viene riconfermato il Buster e infatti lo vogliono proprio utilizzare e prendono anche il Kale per togliere il counter la cattiveria della comp di Totem ragazzi anche un po' tematiche se così vogliamo dire queste comp non so se se vedi la la Super City contro l'hotel ghiacciato è vero è vero ora vediamo manca solo il pick anzi l'ultimo pick del team Z1 vediamo cosa andranno a mettere contro un Lu Buster e game arriva il crow è fastidioso il crow è veramente fastidioso fastidioso allora diciamo che qua a livello di matchup eh quel crow un attimo rimescola le carte ma però mi sento di dire una cosa un vero e proprio antitank non c'è eh no perché comunque la 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 mag per andare a fare dei danni su un Buster con la ult a disposizione deve usare la sua di ulti ma c'è il Gale che dovrebbe respingere la queen sulla carta potrebbero essere potrebbero essere messi meglio i totem vediamo subito lo start due mid per Z invece totem molto molto uniti tentano l'approccio entrambi dal mid si detampo che con mag fa un po' il giro eccolo però Maru che parte subito con la ulti fa prendere posizione a tutto il team sì assolutamente qua una ulti veramente molto efficace come potete vedere arriva il triple ralentamento per Z molto molto pericoloso però attenzione perché nel mentre Mauri ci piazza una ulti sulla zona sì però nel frattempo si detampo prende il posizionamento forse peggiore per la mag perché guarda lì riesce a tenersi letteralmente tra i player esatto è un qualcosa di assurdo guarda come la va a gestire ragazzi praticamente si è gestito tutto il team da solo si detampo insomma si fa sempre riconoscere devo dire la verità qua bella la ulti di Kenji difeso abbastanza bene Mauri e Maru un po' in difficoltà in questo caso possono avanzare di nuovo una volta con Maru però Maru un po' in difficoltà prova la ulti eccola lì la mag che potrebbe andare giù serve un recupero qua per il team di Totem molto complicato è lo start di Z fantastico sono già a 78 ma di la difficoltà loro l'hanno trovata proprio sul range e non possono neanche sfruttare molto le lane perché questo tipo di team deve giocare compatto e si devono per forza passare tutti dal mid sono contento che hai ricordato quello che ti dicevo ieri sulla mag secondo me è uno dei broader veramente più forti in questa sì diciamo un pochino sottovalutato perché è uno di quei pick che non viene messo spesso ma può trovare uno spazio come in questo caso veramente fantastico qua vediamo i tifosi dell'Izeta sempre sempre pronti a tifare anche come staranno sicuramente facendo i nostri cari italiani in ascolto ma ragazzi si riparte e vediamo come si sviluppa questo secondo match, vediamo se è proprio un qualcosa a senso unico o se magari si cambia qualcosa attenzione perché Totem tenta una tattica diversa Joker e Maru all'assedio proprio letteralmente della base avversaria eh ragazzi buona buona l'idea di andare a pushare sulla lane e ridurre un pochettino quello che è lo svantaggio che è dato dalla gittata qua sicuramente si detampo va a falciare Maru difficile difficile molto molto complicato questo match per il team Replay Totem piazzano una bella ulti nel mid sempre con il Ludimauri la comp non è male ma li permette di fare qualche percentuale qualche percentuale in queste fasi qua sì esatto devono cercare di rendere il tutto più efficace anche negli altri momenti ecco diciamo così arriva un'altra ulti è un'altra bella ulti di Mauri che fa prendere un pochino di tempo e recuperano anche vita attenzione bella la giocata di Mauri in questo caso arriva un'altra bella ulti a parte di Maru che fa prendere tanto valore al team e notare come la ulti di Maru sia stata rivolta sempre un po' più leggermente verso si tempo che con questa mag è davvero pericoloso esatto guarda qua come sfruttano anche bene il push qua la ulti di Joker potrebbe essere fondamentale vediamo se la sfrutta bene non la sfrutta non la sfrutta qua si te tempo tanto in push tiene la ulti evidentemente per per il push infatti si te tempo che addirittura riesce a mettere a segno la falciata su Maru Maru prova a fare il tutto per tutto per i suoi compagni e riesce a indebolire anche Moya Goku rimane Mauri da solo ma purtroppo non ce la fa questo set letteralmente mangiato da da Lizetta che con Meg ha avuto un pic veramente troppo forte ma ti dirò sono contento veramente che hai notato questa cosa che ti dicevo di Meg si anche perché me l'hai detta diverse volte se non sbaglio anche nel o nel corso dell'anno insomma nelle ultime finali mi è rimasta questa cosa che te mi dici di Meg appena l'ho vista mi è subito venuto a mente infatti qua ha avuto tantissimo valore Meg c'è stato proprio un momento spero che lo facciano rivedere in cui la Meg si è gestita completamente tra tutto il team che era respawnato quindi era full vita esatto ecco questo momento che poi si è appiazzato a sinistra poi a piazzare a sinistra è diventato veramente ingestibile ora ti farò un'osservazione dimmi se ho visto bene anche secondo te sulla partita di Arco Doppio il Buster è stato quel pick in più anche perché riusciva sempre a pushare la lane e portarsi magari anche due nemici dalla sua parte per buttarlo giù qua purtroppo mi è sembrato quel pick che ha pesantito ha pesantito qua non ci stava qua forse hanno hanno cercato addirittura vediamo il Joker con zero kill e in generale le statistiche del team to item qua sono state un po' più così il matchup poteva essere buono ma non abbiamo considerato la gittata eh sì la gittata non l'abbiamo considerata qua Z ha appena visto il Buster ha cercato proprio di counterarlo il più possibile con tutti i brawler con una gittata maggiore secondo me ci sono addirittura il Buster è stato messo dopo perché se ci pensi è stato fatto il primo pick il Lou si risposta Max e Meg e dopo è stato messo il Buster con il Gale la scelta è stata messa solo alla fine dopo aver visto Buster direi scelta azzeccata assolutamente sì ragazzi ecco per esempio se Totem volesse replicare addirittura 3 su 3 il Buster qua forse potrebbe però guarda Z guarda Z che arriva al ban Z con Raph Penny e proprio Buster ragazzi però lasciano libero il Carl qua attenzione perché potrebbe essere un errore fatale questo vediamo Carlo libero il Carlo ci danno libero l'Iz i ban appunto a seguire sono Penny e Raph mentre dall'altra parte sono Griff Gale e Surge ok vediamo intanto il draft il primo pick qua è stato di Totem se non sbaglio con Max e invece Z la loro risposta al momento è un Crow e vediamo il loro secondo pick sì 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 assolutamente segue il il pick per per l'Iz e sicuramente Crow è una buona risposta perché essendo un brawler malus e con lo slow va a ralentare Max sul suo punto di forza la velocità esatto esatto poi comunque i dot del veleno lo sappiamo sono sempre molto fastidiosi e arriva Lotus che è sicuramente un bel meta brawler da utilizzare l'abbiamo visto tante volte in questi due giorni forse potrei dire uno dei brawler uno della top 3 più piccati eh sì qua è particolare è particolare ora però abbiamo l'opportunità di vedere la comp tra poco di Totem al completo e poi ancora una volta l'ultimo pick che spetta a Z sì l'ultimo pick che spetta a Z è sicuramente un pocio è un pocio però vuol dire che sta arrivando qualcosa però pocio non ce lo vedo col crow non mi metti un pocio risposta a crow però hai la max puoi provare il tutto per tutto ah ma se volesse provare sai cosa vogliono fare il secondo gadget di di pocio quello che toglie il malus che toglie anche il mute di Otis toglie toglie rallentamento sono matti praticamente una compa a car armato sono matti vuol dire che sta per arrivare un terzo da supportarmi vuoi dire così eh mettono un carle così lo togono anche a a sitetampo a a il Z beh qua è tanta roba particolare come comp è tanta tanta tanto tanto forte allora qua Inzo posso dire potrebbe aver sfoderato l'asso nella manica ma la comp è buona l'idea del pocio è buona qua c'è un'idea un'idea particolare però bisogna vedere cosa rispondono probabilmente arriverà un antitank a sto punto più che altro perché il valore qua ce l'ha il carle a me preoccupa un ipotetico supplementare perché poi il pocio da scarico non fa più niente ed è se arrivano se arrivano ai supplementari è tosta da gestire eh sì qua è complicata devono devono giocarsela ai totem in maniera perfetta fino a che il pocio può fare il pocio eh sì ah beh però giustamente ci fanno notare dalla chat grazie che i banni erano tutti antitank eh sì quindi in realtà hanno to cioè la ems in realtà è quella alla donna si detampa tra l'altro c'è stato lo switch però diciamo che quell'antitank che sarà performante per carità ma poteva arrivare di peggio ecco diciamo sì 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 vediamo subito Maru all'attacco sulla destra dall'altra parte Mauri e Joker sulla sinistra arriva subito la prima kill per Z1 stanno cercando di accerchiare i ragazzi di totem rimane solo Mauri con Pocio eh qua ragazzi l'inserimento sulla lente sinistra alla parte di totem non è andato benissimo bella la kill che non arriva in realtà la schiva molto bene e guardate l'inserimento di Sitetampo che tenta la giocata in mezzo a due ancora la ulti di Sitetampo prova il miracolo non ci credo non ci credo ragazzi eh non ce la fa mamma mia lo riescono a gestire ma veramente per il roto della cuffia mamma mia qua gocciolina di sudore che scende per i ragazzi di totem ma guardate ancora Sitetampo rallenta molto anche la Emsk comunque è un'altra ottima scelta contro una comp come questa però attenzione attenzione a Maru attenzione che ce la fa Maru riesce a trovare un bellissimo spazio grazie al passaggio del compagno mamma mia ragazzi che bella intesa tra i ragazzi di totem loro devono giocare proprio su queste cose qua veramente bravi eccolo che arriva di nuovo con la speed Maru pericoloso e c'è ancora il tiro di Mauri ragazzi gol ma dov'è passata ma è passata sotto le gambe di quel crow ragazzi una magia che bellissima comp che bellissima comp che hanno tirato fuori mamma mia ragazzi ripartono subito ragazzi di totem comunque guarda che la Emsk non avevo considerato anche la parte di slow della ulti della ulti cioè guarda che la Max ha praticamente due brawler su tre che la rallentano il terzo in realtà la muta proprio in realtà attenzione però perché Joker è subito è stato chelato sull'etapo ragazzi il push di Mauro e il gol di Joker ragazzi ma cosa stanno combinando i totem sono subito sull'ultimo gol per il set point e guarda Joker e ci prova lì è un po' difficile è rallentato bene è gestito bene è un po' difficile anzi lì deve stare attento forse Mauro allo spot è qua classico contropiede proprio da football sì 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 lì non hanno non hanno perso l'occasione vanno sull'ultima parità devono tenere il sangue freddo deve stare attento Mauri a sinistra c'è Mauro che lo punta con la ulti provano infatti ad andare a destra c'è Joker che viene rallentato è qua bella gestione da parte di Joker crevata del Crow sì non avrei mai detto il Mauri rimane con 29 di vita non va giù è riuscito a vincere il match up contro Otis eh sì sì fantastico guarda Joker come si muove con quella max attenzione il movimento sempre sulla lane di destra Mauri timidamente si muove ma la lane di sinistra sembra molto calma per il momento da solo attenzione perché c'è l'attacco che prova a tirarla via l'attacco di Sete Tampo il passaggio che in G Sete Tampo è vabbè ha fatto veramente un bel catenaccio bravi 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 ha fatto veramente un bel catenaccio però assurdo come abbiano evitato la lane di sinistra eh sì il pocio di Mauri irremovibile irremovibile è lì fermo non l'ha toccata lì forse Mauri un po' un errore restare lì fermo è rimasto però ha visto che riusciva a tenere bene probabilmente era magari sicuro della lane non pensava succedesse il disastro però attenzione all'attacco di Totten c'è Maru subito lì in porta e questo è il gol ma la cattiveria lo start è una roba non si lasciano un momento di respiro l'uno con l'altro Mauri attenzione ultima disposizione potrebbe creare un buon push con i compagni qua vediamo la view su tutti i volti dei ragazzi concentratissimi li vediamo parlare qua c'è la ultima Maru pericolosa potrebbe essere il gol del 2 a 0 c'è arrivato anche il gadget di Mauri potrebbe arrivare una hit importante il doppio di Mauri full team ragazzi tutti giù sono andati tutti giù non so se hai visto si è messa anche le mani nei capelli Maru pensava esatto pensava di poter fare il miracolo eh ragazzi che robe pazzesche qua il Maru prova una ultima va a vuoto perché c'era la Ems e non aveva molto spazio eh sì voleva provare a mettere subito pressione ma poi non si è accorto attenzione l'attacco di Zeta One Totem un attimo in difesa prova Mauri sulla destra sono veramente concentratissimi ragazzi attenzione però si è tempo occasione di gol si è tempo qua la magia anche per lui eh non si è capito veramente da passato eh fatto un bel tiro mamma mia ragazzi che roba però attenzione subito allo start aggressivo di Totem come sempre due a sinistra però difendono bene c'è un bel push ma la si è tempo con la Ems rimane in piedi c'è niente da fare qua la dovrebbe mettere in angolino Joker lasciare la palla in mid non riesce a prendere la palla ci pensa Maru infatti la toglie lui però deve andare in respawn e qui c'è un po' l'errore eh ce l'hanno fatta ce l'hanno fatta il comeback di Zeta qua c'è un po' stato l'errore eh sì 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 la parte lì finale gestita un pochino male ma erano in difficoltà comunque era una situazione molto molto particolare comunque ragazzi vi faccio notare come le partite siano combattutissime è fattibile è fattibile si può fare ragazzi si può fare non è non è qualcosa di impossibile la comp era buona e si può fare sì sì draft fantastici comp fantastiche ma sapevamo che oggi le prestazioni di entrambi i team sarebbero state alle stelle che non ci avrebbero deluso non so quante magie anche qua non so quante magie abbiamo già visto in un set solo sì ragazzi veramente un sacco di gol è come se e gli zeta quando vedono che stanno andando giù si risvegliassero tirassero fuori hanno sempre quel che in più comunque totem su foot qualcosa di eccezionale ma con che comp poi si sono messi a giocare ah qua che poteva tirare con la ulti addirittura scegli il rallentamento questa è veramente la bella si fattiva normale l'allentamento cioè per esempio io da ignorantissimo avrei tentato esatto però io non sono un campione a differenza di si detampo che invece ha scelto una via che per noi esseri umani pensa quanti brawler si è preparato come si è preparato perché emze le è capitata così potevano capitare mille altri brawler eppure e invece con la emze ha sfoderato un livello impressionante qualcosa di pazzesco era già pronto era già pronto qualcosa di veramente di pazzesco ma anche moya goku ti faccio notare le sue 10 kill queste hanno un bel peso le statistiche dei totem veramente equilibratissime ma io sono rimasto dal loro gameplay io da una compa del genere non mi aspettavo un gameplay così emozionante soprattutto perché hanno avuto dei non so come chiamarli dei lampi dei flash degli sprazzi di giocate allucinanti pazzeschi qua adesso vediamo un pochettino la fase di ban siamo su pit stop qua si passa a rapina una delle mie modalità preferite se non la anche la mia modalità preferita allora qua lo vogliamo dire lo vogliamo dire l'ho già detto in chat ricco work ragazzi lo vogliamo dire che oltretutto i totem bannano carl signor ferro e dall'altra parte ha messo ringhio quindi in realtà e abbiamo visto che il ringhio poi un pochino può tripulare contro il ricco vediamo se insomma mi dà questa soddisfazione max arriva max e i banni nel frattempo li vediamo al volo sono segnita carl ed ems per il replay totem e dall'altra parte invece penny bonny e surge ok vediamo il secondo pick per il team totem ed è ricco eccolo e qua ragazzi ricco arriva inso mi ha sentito inso mi ha sfoderato ricco e per me questa non cioè è già una soddisfazione così è già vinta così sì sì non c'è altro esito in questa partita cioè deve finire in un modo solo cioè veramente qua li z per vincere devono rompere il sistema ragazzi ragazzi e ora vediamo cosa si inventeranno qua qua non ce n'è potrebbero regattare tanti counter perché c'è Stu libero che è molto pericoloso c'è Otis ok Otis semplicemente forte è comunque un possibile counter ma Delico se la può giocare bene e ora surge ha imbannato loro stessi quindi in realtà ci può stare esatto esatto ora un trouwer come terzo pick no un trouwer come terzo pick potrebbe essere pericoloso per Z anche perché Totem ma sto giro ce l'ha l'ultimo pick arriva il Buzz Buzz non è male però adesso i Totem hanno il terzo pick loro Inso qua ce l'ha in mano Inso qua deve sfoderare la giocata che devo dire la verità ha già sfoderato anche su put perché io rimango che quella comp lì mi ha un attimo stregato sì no le comp di Inso comunque non sono state per niente male sicuramente una quarta testa si vede sì in tutti i sensi anche nella ground sì si vede Barley arriva il trouwer arriva il trouwer comunque sono comp rischiose perché il Buzz è tutto sulle spalle di Rico adesso esatto più che altro poi un Buzz a piede libero per la mappa che gira è pericoloso sì giustamente il ragionamento del coach è stato hanno un solo wallbreaker che è Riggio deve caricarsi tantissime ulti per riuscire a rompere tutto e infatti fanno un po' di cambi danno il Buzz a Sitte Tampo tutto sulle spalle del player su cui c'è la massima attenzione la massima aspettativa notare come abbiamo dato il gear del recupero della vita a Otis è vero e qua ragazzi partono subito lane di destra dominata guarda Mauri come entra in area con e questi sono danni se non sbaglio è arrivato Sitte Tampo alla difesa di Maru ma fa veramente tanta fatica potrebbe andare giù Sitte Tampo lo difendono lo difendono qua Z1 che si salva a pelo dall'altra parte Joker sta tentando il possibile per non far passare nessuno è qua un po' sbagliato il timing del gadget Sitte Tampo che prende il via ha fatto una bella doppia qua Sitte Tampo deve stare attento adesso Joker che vuol provare a passare deve stare molto molto attento Sitte Tampo che punta Sitte Tampo da solo in cassa e arriva purtroppo il gadget di Maru che se non sbaglio era anche l'ultimo non è andato benissimo con il gadget attenzione però a Mauri Mauri che può passare da sinistra però c'è Sitte Tampo che subito tenta l'ingaggio a campo aperto ma non ha l'ulti ha l'ulti il Mauri però che riesce a zonare molto bene la parte di sinistra può andare a Joker mi sa che va giù era stato disattivato qua Mauri va a fare un po' di danni ma non può fare più di tanto in realtà Mauri comunque impaninato da tutto il team Z qua Joker con il Rico riesce ad avanzare attenzione Sitte Tampo però che ha l'ulti si sposta sulla lane del Barley continuano a cambiare lane in una maniera esagerata ragazzi non devono far passare nessuno Z che hanno proprio chiuso le porte devono togliere più che altro il Buzz ma attenzione doppia ulti sbagliato mi sa che era un troll ma no no voleva puntare palesemente la cassa che si è spostata no no mi sa che era poteva essere anche un trollettino quello lì ah dice addirittura non lo so perché doppio doppio errore da parte Sitte Tampo eh non lo so ho sentito anche la reazione nella stanza è stata un po' molto strana come reazione è stata sì tutti si sono chiesti ma cosa è appena successo anche perché ti giochi qua Mauri deve andare due bottiglie ancora qualcosina basterebbe sedici eh niente pochissimo mamma mia ragazzi vi giuro forse l'ha giocata più strana eh sì non l'ho non l'ho capita sinceramente gli è scappato il guantino eh potrebbe essere un errore sai e guarda infatti si asciuga le mani perché era un attimo aveva le mani sudate gli è partito eh 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 comunque dobbiamo dirlo purtroppo gli Z sono al match point è vero è vero è vero è vero lo dobbiamo dire e qua si giocano il tutto per tutto guarda Sitte Tampo subito a sinistra che ha preso bene l'ingaggio con il Rico di Joker sì e qua si piazzano subito in attacco e oltretutto aggiungerei guarda comunque come fanno subito in mid aggiungerei un'altra cosa ho difeso eh hanno difeso molto bene però aggiungerei anche che eh il il buon Sitte Tampo si sta si sta continuando a smarcare ogni ogni possibile counter ogni possibile rischio di morte si continua a spostare di lane guarda un attimo in mid un attimo in lane è sempre mamma mia la cattiveria comunque la ulti di Joker era un qualcosa di incredibile peccato per la conclusione perché l'ha lasciato con 900 di vita qua i danni in cassa di Totem sono tanti ma attenzione perché la cassa di Z scende eh sì e c'è Mauro infatti che continua a martellare con il deal del danno attivo eh sì con il deal del danno attivo non molla eh Sitte Tampo lo ignora vogliono tentare tentando il tutto per tutto eh prova tutto per tutto eh Sitte Tampo ha preso anche il power up qua il vantaggio è grande e possono andare a chi a stuggere la cassa e ce la fanno ragazzi ce la fanno ragazzi i Totem purtroppo vengono battuti dall'Izeta eh sì 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 purtroppo ragazzi non c'è stato veramente niente da fare contro questo colosso eh questo vediamo vediamo Sitte Tampo che va a stringere subito la mano ai ragazzi di Totem è il primo ad andare a stringere la mano tutti ce l'hanno messa veramente tutta eh non era facile i pick c'erano le skill anche ma veramente hanno trovato contro qualcosa di incredibile sì hanno trovato l'Izeta in una forma impressionante ma soprattutto Sitte Tampo che si è sempre fatto riconoscere in una forma incredibile ho apprezzato l'ho già detto diverse volte ma ho apprezzato tantissimo i draft di Totem mi sono piaciuti veramente tanto forse tornando indietro eh anche se ha fatto tantissimo danno il bombardino sarebbe stata forse l'unica cosa che avrebbe cambiato eh allora ci stava però contro un contro il buzz già più danno più anti tank però comunque non è mancato il coraggio di provare non è mancato il coraggio di provare da parte del team guarda guarda il man of the match eh che strano che strano ah ragazzi per chi non ha ancora votato se non avete ancora finito di prendere la skin mi raccomando scegliete il man of the match per punti praticamente sì sì ragazzi il man of the match lo potete votare a vostro piacimento che dire che dire ragazzi è stato veramente è stato veramente uno scottolo pazzesco io sono ancora più un incredulo per quello che abbiamo visto mamma mia vabbè diciamo una partita degna dell'inizio di questa giornata eh sì 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 vediamo vediamo adesso che ci fanno vedere probabilmente chi avrà preso l'MVP ma lo sappiamo già anche per chi ha votato sul sito ragazzi siete tempo come detto prende l'MVP e adesso vedremo come andrà anche perché tra poco ci presenteranno il prossimo match yes qua vediamo potrebbero avere degli ospiti sappiamo che ci sono vediamo un po' ragazzi perché vi abbiamo organizzato qualche qualche sorpresa in live vediamo vediamo se per caso ma qua giustamente non siamo da soli la burocrazia c'è e vediamo se riusciamo a far arrivare l'ospite o meno sarebbe veramente tanta roba sì sì in ogni caso ci dovrebbero essere ci dovrebbero essere degli ospiti che potrebbero fare la loro apparizione abbiamo il bracket prego prego andiamo a vedere il bracket aggiornato vabbè aggiornato a una partita sola esatto vediamo ZDV1 che avanza e ci spoilerano il prossimo match che sarà stamina contro Team Keso esattamente e non solo perché abbiamo anche nella parte nella parte sotto gli altri due match che vedremo oggi che sono Tribe Europa contro l'ZDV0 e Tribe Nord America contro l'SK che a sto punto sono o non sono il team europeo con più chance di vincere il mondiale i Tribe Gaming dopo aver fatto secondo me gli SK dicevo ah SK ma io prima di espormi però SK potrebbero far cose anche perché ZDV0 abbiamo visto che non sono proprio al massimo c'era un team europeo ogni match up dei quarti eh sì grande risultato per l'Europa grande distribuzione e quant'altro comunque mi danno l'ok c'è l'ospite io ragazzi vi saluto solo per poco ma vi lascio in compagnia di un ospite veramente speciale assolutamente sì ragazzi abbiamo due minuti di tempo per intervistare un un altro player in player di tanti giochi in realtà ma un altro collega un altro compagno di squadra di Replay Totem ragazzi lo facciamo apparire ed è il buon Sparksone eccolo ciao ragazzi come state noi guarda abbiamo appena ricevuto una batosta ma siamo comunque ancora molti in hype per tutti gli altri scontri io sono senza voce ho urlato hai fatto benissimo hanno giocato benissimo hanno giocato alla grande però siete tempo è andato veramente tutto è assurdo siete tempo è un mostro qualcosa del genere e quali sono state le tue sensazioni durante il match io ci ho creduto fino alla fine anche io perché hanno giocato benissimo Mauro ha fatto partitone ho giocato pazzesche anche Maru Joker però Inso ha fatto dei pick bellissimi il lavoro di analisi di Karu e Alex dietro si è visto e tanta tanta roba veramente ho visto Sitte Tampo che aveva per ogni pick che aveva sempre la super pronta sempre la super pronta lo spam di super con Ems con Buds incredibile sempre la super pronta abbiamo anche visto che si asciugava le mani ad un certo punto perché era davvero tanto 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 anche lui agitato alla certa anche lui diciamo che comunque per quanto loro possano essere forti non c'è un livello più alto di quello che trovano qua quindi possiamo dire comunque anche quest'anno di aver dato del filo da torcere ai campioni in carica nel frattempo stanno facendo entrare gli altri team ma abbiamo ancora 30 secondi quindi ti faccio un'ultima domanda molto rapida e ti chiedo per quanto riguarda i prossimi scontri che vedremo ci sono ancora tanti team secondo te qual è il team favorito proprio che vedremo vincere proprio una domanda facile i campioni del mondo quali saranno secondo te beh i Z1 secondo me sono i favoriti secondo me i Tribe America secondi favoriti secondo me ah attenzione Tribe America ok perfetto mi hanno portato anche un regalino bellissimo visto grandissimi la ricarica l'energy drink proprio di Ems ok di Ems di Max vabbè ragazzi ormai sono partito Sparksone io direi che ci abbracciamo mandiamo un bacio grandissimo a tutti i nostri colleghi di Totem che sono a Milan Games Week un saluto se ci state guardando un bacio grandissimo e noi ci becchiamo alla prossima ovviamente la storia di Totem è solo all'inizio quindi chissà siamo all'inizio ragazzi ciao ragazzi a presto ok nel frattempo la presentazione dei team Stamina e Team Keso che stanno entrando in campo eccoli qua sono pronti nel frattempo una domanda sul sito qual è la modalità in cui il team Keso ha dato il meglio lo scopriamo subito la risposta giusta è dominio ragazzi quindi in dominio il team Keso ha performato al meglio nel frattempo è tornato Dani eccomi ed eccoci qua con due team che non hanno bisogno di presentazione eh sì allora abbiamo Stamina e Team Keso li vediamo già prepararsi sul palco ragazzi com'è stato quest'ospite speciale vi è piaciuta la presentazione adesso vediamo il secondo scontro ricordiamo che oggi vedremo tutti gli scontri fino alla finale tra tutto Stamina che sfoderano cos'è una jersey sopra una jersey una double jersey esatto più jersey più tutto più tutto più abbiamo il team questi due team ragazzi che abbiamo già visto nelle giornate precedenti vi do un po' di informazione giusto per rispolverare la vostra mente abbiamo da una parte il team Stamina che ha vinto ieri con un bellissimo 3-0 anzi nel primo giorno quindi l'altro ieri con un bellissimo 3-0 contro il team Clash buttando fuori il team più forte della parte Latam Sud e quindi in un certo senso confermando la supremazia della parte Latam Nord America mentre dall'altra parte abbiamo Team Keso il team Keso che ragazzi contro Stalworth ha sfoderato una prestazione inaspettata ma più che altro per noi e tanti altri inaspettata è stata la prestazione di Stalworth molto molto sotto la media e Team Keso si sono fatti trovare più pronti che mai ricordiamo ragazzi nel team Keso eh si eh si team ricordiamo anche per rappresentare un pochettino le bandiere eh si spagnolo tutto spagnolo quindi non solo europeo ma proprio la Spagna esatto e direi menzione speciale del diciamo del capitano assoluto ovvero Alvaro si Alvaro youtuber insomma che non ha bisogno di presentazioni creatore del team Keso e l'avevo già parlato ieri e oggi anche in veste di cast non potuto fare oggi non potuto fare veramente mentre dall'altra parte abbiamo l'Istamina rispettivamente Bobby canadese OJ canadese Zar messicano e Fade il coach degli Stati Uniti esatto unico player messicano del team il buon Zar e il team dell'Istamina si è qualificato ai mondiali con 795 punti con la terza slot su tre quindi eh quasi in extremis sulla parte nordamericana esatto invece il team Keso se non sbaglio in Europa è stato il quarto il quarto su 6 con 641 punti anche se le sue performance non sono state delle migliori durante l'ultimo periodo è quello che stavo per dire ma adesso al mondiale sono arrivati con una forma strepitosa e direi si sono hanno fatto già dimenticare tutto quello che avevano fatto hanno già tirato un colpo di gomma esatto già cancellato tutto e adesso sono un team da temere assolutamente sì voi ragazzi diteci in chat al volo secondo voi chi si porterà a casa il passaggio del turno e oltretutto ragazzi a questo punto chi andrà ad affrontare i temibili Z1 assolutamente sì chi vince questo match va dritto contro l'Z1 ma allora a questo punto Ferre ti dico dopo tutta la preparazione al primo match la frase classica che ti ho sentito dire da questa mattina che chi vince giustamente cioè chi avrebbe vinto il primo match poteva essere effettivamente il grande grande favorito Z1 adesso sono pericolosi eh i Z1 adesso sono veramente pericolosi noto anche una cosa molto particolare che è la differenza di pronostico tra stamina e team keso è la stessa che c'era tra Z1 e team totem ah sì sì e non ho visto le percentuali vabbè totem era 39% team keso 38 praticamente identico quindi vediamo se invece il risultato perciò in questo caso sia totem che team keso sono gli underdog eh sì 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 assolutamente i ban del team stamina te li vado a presentare molto rapidamente sono pocio squeak e max invece dall'altra parte team keso banna gas brock e jean inizia il draft stamina con tic subito un thrower prima scelta un thrower da parte di bobby una scelta molto particolare in layer cake e dovrebbe costringere alla rottura il team keso che invece risponde con una penny e con un otis quindi assolutamente senza rottura questa è secondo me un posso dire un errore da parte loro è una scelta molto particolare diciamo che anche loro comunque hanno bannato diversi brawler per fare wall breaking tra cui brock e anche il jean tramite il grab però un griff a questo punto si poteva prendere si poteva prendere un riglio si poteva prendere un boh c'erano tante possibilità ma c'erano sicuramente tante alternative e dall'altra parte invece stamina continua il suo draft indisturbato e va per janet e si vanno con una janet su zar e arriva il loro ultimo pick che vediamo arrivare in questi 15 secondi il terzo pick quindi l'ultima scelta sarà per il team keso che dovrà cercare di sfruttare questo questa possibilità arriva l'ash particolare e a maggior ragione adesso serve wall breaking cioè se non mettono un wall breaker qua ragazzi cioè griffa farebbe e arriva il carl attenzione io non vedo ma cosa come possono cosa stanno combinando come possono cosa stanno pensando cosa vogliono fare non capisco ma diciamo che se si sta attenti al carl potenzialmente per gli altri due basta il tick il carl potrebbe dashare su tick si però appena si diciamo si tiene sotto controllo si gestisce il carl il resto è tutto tutto tick non lo so magari hanno qualche strategia team keso non penso che vadano vadano veramente no anche perché viste le prestazioni di ieri però guarda stamina con che cattiva la stella blu e vanno anche a killare ma sbaglio o quello che abbiamo lì a destra è un hash veramente cromato cromato doratissimo doratissimo vediamo un pochettino qua l'ulti di di hash nel frattempo il carl addosso a tick non sembrano preoccupati in realtà deve arrivare bobby per far tornare in alto il carl vediamo se boss oggi ci delizierà con qualche perla vediamo ragazzi arriva subito lo switch da parte di stamina giustamente il carl è l'osservato speciale anche perché è l'unico che può dar fastidio al tick javi però non riesce arriva un bel push da parte di carl che però viene gestito molto bene è ancora un'altra ulti però e viene chiamato di nuovo cioè ragazzi il team dell'istamina sta dominando hanno preso giusto la stella blu che hanno solito perso i ragazzi di team che so con i ragazzi di carl non so se potrà andare in maniera tanto diversa questa partita sai ferre mi sembra molto senso unico al momento secondo me c'è stato un grave errore nella fase di draft da parte di team Cheso insomma startare così è già un problema anche perché oggi i team già non concedono niente se poi diciamo ora magari regalare è un po' eccessivo però insomma si concede un pochino troppo nel draft poi magari non c'è nemmeno tempo per recuperare bisogna stare molto attenti eh sì ragazzi bisogna cercare di adesso in realtà c'è stato un po' di recupero da parte di di Cheso con queste kill un 10-15 un 10-15 però serve quel qualcosino di più serve ancora uno sforzo e soprattutto servono due kill servono due kill però faccio notare Zar che cala giù la sua ultima in realtà arriva la kill sull'Hash molto importante aspetta perché qua team Cheso potrebbe fare il ribaltone alla fine riescono a mutare il buon Ash e no però arriva il full team mamma mia neanche la kill neanche la dopo proprio il full team eh no proprio hanno dato una risposta durissima ai ragazzi di Stami eh sì 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 qua purtroppo è un bel errore di draft hanno tentato tutto per tutto comunque il team Cheso ma partono già da diciamo una condizione di deficit subito allo start nel frattempo ricordiamo anche comunque i team che stanno giocando oggi se i team che hanno perso al primo round si portano comunque a casa 15.000 dollari i team che sono arrivati a oggi fino a qua portano comunque a casa 30.000 dollari e ragazzi c'è da dire che team Cheso eh ha già portato così a casa un ottimo risultato perché è al suo esordio mondiale sì assolutamente eh grande prestazione per ora per loro e soprattutto appunto per l'esordio non non facile assolutamente sì e qua vediamo sempre stamina che continuano a prendere il via praticamente è un quasi replay del primo match molto molto difficile da gestire invece dall'altra parte il match per team Cheso che purtroppo non riesce nemmeno a vederlo il vantaggio ogni tanto eh sì ragazzi il team Cheso in questo primo match ha avuto tanta 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 difficoltà eh guarda Bobby che continua Bobby qua però può essere killato facilmente infatti attenzione però eh attenzione al recupero ma qua Giavi giustamente rimasto in base regala le tre stelline al team stamina 13 a 9 però attenzione perché qua c'è un piccolo cambiamento dato che la stellina blu è passata dal lato del team Cheso e ricordiamo che in caso di pareggio il team Cheso potrebbe fare un miracolo sì infatti una doppia kill potrebbe bastare per il vantaggio infatti guarda qua manca solo una stellina devono stare attenti per il team Cheso devono stare molto attenti qua i ragazzi di stamina potrebbero prendere l'1-1 boss è molto pericoloso Bobby con metà vita deve stare attento sotto la metà vita l'attacco finale vediamo se per caso riesce sta prendendo veramente anti danni è molto schiacciato in base qua il team Cheso riesce a trovare la kill arriva la doppia anche su Ash e riesco ad andare sul 16 a 3 e portare a casa il pareggio qua si intravedeva c'era proprio l'aria di comeback team Cheso molto bravi nella fase finale della partita Ash ha letteralmente smesso di pushare e team Cheso nonostante i gravi deficit a nostro dire sulle pink in realtà ha fatto veramente tanto Otis si vede che è un metabrawler Karl si vede che è un metabrawler e hanno fatto il loro lavoro eh sì 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 comunque diciamo che per team Cheso due partite al cardiopalma e la seconda spuntata veramente a pelo vi ricordo che Ash sono 8100 HP da tirare giù e nessuno dei 3 brawler fa tutti questi danni quindi è veramente da tirare giù a spinimento l'Ash eh sì anche perché il piccone di Karl se non si gestisce bene parte e poi torna con un certo delay e nel mentre Ash può far cose assolutamente sì vediamo il push di stamina molto molto pericoloso giustamente Boss tenta l'attacco qua c'è un full team molto bravi la ulti di Javi precisa team Cheso sbottato completamente qua eh sì 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 assolutamente allora niente da da aggiungere sui pick a questo punto perché hanno anche se a questo punto dovessero comunque vincere gli stamina io direi che il team Cheso ha fatto quello che aveva pensato di fare con questa comp si dipende tanto dalle giocate del Karl purtroppo se il Karl comincia a non potersi più smarcare li diventano problemi ma se si lascia un minimo di spazio a Boss poi tutto il team gira veramente veramente molto meglio e nel frattempo ragazzi abbiamo una situazione di leggero vantaggio per il team Cheso 30 secondi di spoluzione del team Cheso che si sta schiacciando in base eh stanno provando a sfiancarli in tutte le maniere mancano 25 secondi adesso vediamo cosa si inventeranno gli stamina per provare a prendere almeno una kill Boss sarebbe fondamentale da prendere eh sì ragazzi vediamo vediamo cosa riescono a combinare eh deve stare molto attento Ale potrebbe già regalare due stelline preziose ma non molla qua già vi è stato bravissimo con la ultima che ha andato a fare e team Cheso va a vincere il primo set ma cosa hanno combinato mamma mia team Cheso veramente finalmente sta riuscendo fuori da da questo brutto periodo e lo sta facendo proprio qua con noi in questa world final Daniele ma sono partiti con un draft un po' particolare sicuramente non al top prima partita a questo punto mi viene da dire di studio per loro e poi ci hanno sfoderato questa performance incredibile ma non vorrei che fosse anche un po' cioè una vittoria data la performance anche un po' di ristamina che dal secondo game non sono riusciti più a esprimersi al meglio e anzi sono calati si hanno veramente calato molto l'istamina evidentemente il team Cheso ha capito come gestirli e qua vediamo veramente l'esultanza di Alex SJ che ha dato veramente tutto in questa partita complimenti e nel frattempo ragazzi eh guardalo mi sono partite anche le cuffie scatenato scatenato tanta tanta roba e per il resto ragazzi ricordiamo che comunque gli stammina a differenza di team Cheso sono di casa sono un team che anche l'anno scorso era arrivato al mondiale e proprio l'anno scorso furono l'ultima vittoria che fece il team Totem prima dello scontro contro l'IZ yes e nel frattempo volevo rubare un momento ah volevi un attimo per si proprio proprio al volo per ringraziare tutti i ragazzi che ci stanno seguendo in particolar modo chi ci sta supportando con le sub e le iscrizioni se volete supportarci ovviamente lo potete fare gratuitamente sia con l'iscrizione sia con la sub che vi dà un sacco di vantaggi con Amazon Prime addirittura è gratuita vi basta fare punto escamativo Prime in chat un semplice doppio login con il vostro account Twitch e il vostro account Amazon Prime e potete abbonarvi gratis avere tutta una serie di vantaggi sia da me che dal buon Daniele che trovate ovviamente sul link che vi lasceranno adesso i moderatori in chat il ringraziamento è stato l'ultimo sub giusto per insomma ringraziare uno ma in realtà sono tantissimi sì assolutamente è il buon Dami Dami un bacione terzo mese di sub ciao bello noi ovviamente ragazzi vi ricordiamo di seguire la live sia sul sito brostarts no event.brostarts.com devo stare attento alla pronuncia perché poi se no i signori oscuri sparano sì mi falciano detto questo ovviamente per la massima interazione vi invitiamo anche a passare il live sul canale di Ferre per avere proprio quel contatto diretto che in un'occasione del genere è essenziale detto questo direi di cominciare ad osservare il draft il secondo draft di questo di questo di questo secondo match yes infatti infatti abbiamo i bann da entrambi le parti sono Stu Otis e Crow per stamina e invece dall'altra parte team Keso banna il Carl Gas e Ems se non sbaglio questa volta il primo pick è stato di team Keso con Raph dall'altra parte invece stamina con Griff e Buster yes arrivano quindi due pick di risposta da Keso a questo punto e per ultimo arriva il terzo pick da parte di stamina che sarà quello in teoria che avrà il controllo sulle comp e ancora un altro hash arriva un altro hash è un pick un po' particolare soprattutto in risposta dall'altra parte c'era stato un Griff quindi è esatto è un po' così vediamo se effettivamente questo matchup sarà favorevole entretutto su sala giochi di cristallo posso dire Griff pick fantastico prendono anche Bea che va a togliere un altro gran mid all'istamina sì mid anti tank sicuramente è importante per per il team Keso che però si trova dall'altra parte un Buster e quindi potrebbe rimandarle letteralmente indietro la Bea vediamo adesso quale sarà l'ultima risposta degli stamina alla comp del team Keso anche perché sono curioso dato che insomma Raph Ash e Bea sono una comp solida ma secondo me hanno già delle ottime alternative e qua al Bo direi perfetto perfetto proprio mid contro mid Bo sulla carta dovrebbe essere più forte di Bea sicuramente hanno un deficit di gittata i ragazzi di stamina e Bea infatti garantisce il colpo più lungo del team però questo non vuol dire nulla perché comunque di base le comp sono molto sul medio raggio come scontro bisognerà vedere il gameplay sia del griff che del buster di stamina in risposta anche all'ash e raff all'in doppia per stamina per provare subito anche per team Keso ma si allarga subito sul mid della Bea e garantisce un gran controllo in realtà al team quindi buono il movimento qua Javi purtroppo prende una raffica intera di frecce da parte del Bo molto pericoloso infatti in questo caso il Bo sulla Bea perché con poche frecce può mettere subito in difficoltà e portare il mid avversario almeno a metà vita si in realtà è stato abbastanza pesantuccio lì vediamo un attimino ragazzi guarda comunque l'ash come tiene bene anche se adesso riceve pure la rottura della zona guardalo boss la cattive si sta muovendo molto bene boss mamma mia che schivate bravissimo boss in questa fase in tre per buttare giù l'ash di boss impressionante devo dire che anche Javi attentissimo con la Bea si tiene il 3k per avere lo scudo si e abbiamo anche un SSJ con ringhio che sta dando veramente il meglio di sé vediamo cosa c'è stato un cambio lane addirittura viene tolto il griff sull'ash e viene mandato il buster il griff sull'ash si in effetti era un buon posizionamento e sono andati a spostare guardalo Javi che può recuperare in tutta tranquillità le gemme e qua addirittura viene ripoweruppato boss attenzione al team Keso il team Keso qua ragazzi si porta sul set point per il suo secondo set che potrebbe di fatto garantire un risultato veramente veramente importante eh sì 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 tanta roba per ora comp fantastica e anche performance fantastica ma non pensavo il l'ash funzionasse così bene l'ash in realtà non è stato male ma secondo me è stato delettato molto il risultato delle skill perché hai visto quando in campo aperto boss ha schivato praticamente i colpi di tutto il team quel frangente lì fa capire che il pick è importante ma fino a un certo punto ok sì poi ci deve essere il player che dà quel che ha il pick che lo rende performante al massimo noi di Caster ovviamente possiamo capire fino a un certo punto capire e commentare fino a un certo punto i pick delle squadre perché comunque spesso sono dettati da i cosiddetti main brawler quindi da quei brawler che sono particolarmente graditi dai player ogni player giustamente ha dei brawler una serie di brawler che riesce a utilizzare meglio evidentemente Team Cheso si sta muovendo con questa corrente di pensiero perché si è visto proprio con quell'ash quanto boss fosse preparato sì 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 anche se in questo caso finalmente Zara con Griff si fa vedere sulla carta comunque Griff su quella lane doveva essere veramente non dico counter ma quasi e qua lo sta dimostrando primo match che si è fatto prendere un attimo forse in preparato non si aspettava magari che boss con Ash rendesse così bene e vediamo adesso che Zar segue proprio è l'ombra di boss hanno fatto subito uno switch veramente ottimo hanno preso un buon posizionamento e stanno provando a recuperare le gemme anzi adesso passano avanti eh sì ragazzi adesso hanno questo leggero vantaggio ragazzi team di stamina che vanno a riconfermare anche con l'ottava gemma mettono anche un bel c4 in mezzo per garantire sempre una buona protezione del insomma dello spawn delle gemme serve l'ultima eh guardalo Bobby a vincere attenzione qua è molto preciso qua Bobby ok addirittura qua OG va a prendere tutte le gemme qua diciamo che stamina finalmente dà un po' un colpo di coda perché si stava un pochettino facendo schiacciare in questi match si diciamo che si sono dovuti dare una svegliata anche perché perdere subito il primo game con una comp del genere oltretutto abbiamo visto adesso le potenzialità di questa comp non anche il primo game magari poteva non finire così esatto esatto e ragazzi a questo punto diciamo che la situazione cambia perché con una win da parte di stamina si riapre tutto si riaprirebbe tutto perché si andrebbe in parità ragazzi secondo me gli scontri di oggi Daniele ne parlavamo anche prima della live difficilmente saranno dei 3-0 assolutamente difficilmente saranno dei 3-0 poi oddio bisogna vedere ma a questo punto i team che ci sono siamo in una fase avanzata di questa world final difficilmente si vende così la pelle bisogna dare il 100% e bisogna tentare tutto per tutto ma infatti li vediamo questi scontri difficilmente ci sarà un risultato così schiacciante esatto e oltretutto ricordiamo che comunque da prediction nostre ma anche del pubblico come avete visto il team stamina era particolarmente sopra a team cheso e invece team cheso veramente ci sta sorprendendo in positivo vediamo comunque ancora una situazione di parità 4 gemme a testa e vediamo adesso cosa si inventano i ragazzi del team cheso bella la combo di javi e boss per far avanzare quel lash che ci sta facendo sognare javi che va a prendere anche paura oggi scusatemi che indietreggia in spawn e qua il team cheso prende veramente un gran posizionamento la ulti di zar sulla destra ragazzi riesce a fare una doppia ulti tanta roba qua e qua javi tenta di tenere schiacciato zar altre due gemme per loro alla decima che spona lì davanti precisissimo javi con il timing e qua potrebbero aver messo in cassaforte la vittoria si ragazzi team cheso può andare a prendere il secondo set contro ogni aspettativa bravissimo attenzione ragazzi arriva pure la kill sul gem carrier e il team cheso va a vincere il secondo set veramente veramente bravi mamma mia ragazzi il sogno per l'Italia forse si è fermato ma per l'Europa sta continuando la grande Dani esatto come dicevo prima piccola curiosità in ogni partita dei quarti abbiamo riuscito cioè siamo riusciti a piazzare noi come regione europea un team direi un risultato fantastico per noi europei e di cui possiamo essere solo che orgogliosi assolutamente sì ragazzi qua vediamo un po' di replay di questo secondo set mi dispiace dire che al momento attuale non come avevi predichato tu ma almeno come avevo predichato io la terza giornata sta andando all'esatto contrario per cosa? per tutte le partite perché abbiamo votato totem stamina e al momento attuale siamo su Z1 e team cheso ora bisognerà vedere questa partita se il team cheso continuerà con vediamo al SSJ con energia strepitosa sembra quasi Zulan mamma mia ragazzi ora dobbiamo dobbiamo capire un po' questi team cheso perché io a questo punto ti dico se passano contro stamina potenzialmente con un 3 a 0 team cheso diventano pericolosi eh sì la partita contro un ipotetico Z1 team cheso potrebbe diventare il match che ci farà sognare vediamo non mi aspettavo comunque questa performance da parte del del team giallo blu assolutamente assolutamente il team cheso ci sta sorprendendo e e immagino in questo momento come si starà sentendo il nostro collega Alvarito eh sarà veramente scatenato scatenato sì abbiamo incontrato pochi secondi prima di cominciare la live ci siamo augurati buona fortuna eh era bello carico era bello carico anche lui come noi lo eravamo e lo siamo assolutamente assolutamente e ripartono ovviamente con quello che potrebbe essere il terzo e ultimo set eh sì e se veramente vediamo un 3 a 0 così sarebbe veramente pazzesco perché sarebbe proprio il contrario questo sarebbe veramente clamoroso i bann da parte di stamina sono Iris Gin e Bonnie invece dall'altra parte team cheso con Grif Eve e Gas bannati esatto il primo pick è stato un Brock la risposta è una Piper che potrebbe sembrare strano perché Brock è anche un counterino se andiamo a vedere però comunque hanno bannato la Iris quindi hanno un counter in meno molto importante esatto poi comunque stiamo parlando di una mappa in KO abbastanza aperta e Piper si sa con i gadget è sempre molto molto pericolosa assolutamente sì nel frattempo arriva il secondo pick che è una max vanno a concludere adesso la loro comp il team cheso che può restare sul sulla lunga agitata ma in realtà potrebbe anche sbilanciarsi su un tank da andare a togliere agli avversari con una max eh sì qua le alternative sono veramente tante stamina rimane in sospeso dei due pick di team cheso ma mette un po' di pressione bisognerà capire ora team cheso la loro strategia il coach cosa sta chiedendo ai compagni e soprattutto cosa sta escogitando bello lotus che è un pick veramente bilanciato che può avere un match up praticamente ha un match up buono un po' con tutti direi scelta safe ma sempre nel meta anzi nel pieno del meta eh sì arriva anche il terzo pick a questo punto per concludere la comp di team cheso vediamo come adotteranno qual è la loro comp definitiva e come affronteranno questa out in the open ed è proprio bella quindi è ufficiale team cheso vuole giocare questo scontro totalmente con i long e qua le stamina hanno facile un pick di un tank da abbinare alla max e sparare proprio contro gli avversari è facile tra virgolette perché in realtà il tank è molto rischioso sì anche perché potenzialmente è una combo con Otis e Pell che diventa un qualcosa di eccezionale dato che vieni disattivato e ti vengono aumentati anche i danni che prendi infatti ah e fanno proprio il contrario invece vanno a mettere un tick diciamo che giocarsi il terzo set con il tank sarebbe quell'azzardo forse un po' eccessivo quando pensi che potresti andare fuori sì è vero è vero beh ma abbiamo visto comunque che i team fino adesso anche se rischiavano andare fuori e perdere parecchi soldini non hanno esitato a rischiare esatto esatto giustamente oggi ti giochi tutto per tutto e se non vuoi andare a casa una certa devi anche tentare il rischio magari quel pick che lì per lì sembra una pazzia e poi magari è proprio quello che ti dà la vittoria assolutamente ragazzi vediamo un pochettino qua come si riparte come è la situazione vediamo comunque il gear dei ragazzi di team che eso entrambi utilizzano sia belle che Brock è il gadget della ricarica dei colpi quindi sarà veramente molto spammoso il loro team è qua bella la combo comunque in mid con Bell e Brock praticamente c'è stato un attimo di bombardamento su Zar infatti ha già usato un gadget qua molto bravo Zar con le schivate nell'utilizzo di Max è molto bravo non ha veramente non c'è niente da dire dall'altra parte deve stare attento Javi arriva la kill su Javi che si è esposto davvero troppo contro la Piper di Stamina Bobby infatti ha fatto veramente un gran lavoro qua sbaglia completamente la ulti Bobby l'1v1 qua sbaglia completamente la ulti Bobby errori abbastanza grave Boss contro G Boss qua al dominio del campo e addirittura fa sprecare pure il gadget lì secondo me è stato un po' un errore l'utilizzo del gadget a quel punto a questo punto G non aveva molte possibilità di vincere quell'1v1 anche perché di campo ce n'era ancora a disposizione e zonarlo tutto era impossibile di conseguenza Boss quell'1v1 l'avrebbe vinto comunque un po' eccessivo ma guardate ancora Bobby un gadget oltre tutto con la star power c'è un colpo potenziato e anche allungato quello là era un colpo devastante assolutamente sì ragazzi bella la ulti di Ale però attenzione forse non ha i colpi sufficienti per esistere eh no ok ok vanno tirare giù le broche non è riuscito non è riuscito nel suo intento la testa di OG che ha fatto sprecare almeno due colpi fantastica anche perché poi Zare ha potuto pushare dritto per dritto senza problemi eh sì ragazzi vediamo ripartire il team stamina che ha veramente l'ultima occasione per vincere questo questo scontro eh di sicuro la situazione per loro non è delle delle migliori eh assolutamente anche perché perdere questo primo game potrebbe potrebbe mettere Team Keso in un in una situazione molto molto vantaggiosa anche perché si avvicina il match point sì tra l'altro ricordiamo che dopo questo match ragazzi rivedremo in campo gli Z di Vision Zero questa volta contro attenzione i campioni in carica europei nella parte cioè delle Brawl Stars Championship ovvero i Tribe Gaming Europa quindi pronti per anche lo scodro successivo che sarà veramente molto molto importante c'è il jump della testa di OJ nel frattempo questa giocata veramente particolare direi e Alex SJ fa un'espressione molto strana eh sì 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 oggi ci prova il tutto per tutto prova il jump ma ormai era troppo tardi ha provato veramente una giocata molto molto strana vediamo a questo punto il team che si mette in una posizione non fantastica ancora di più hanno due game da vincere per fare la storia sì abbiamo visto anche il coach Dance che ha dato diversi consigli ad Alex SJ e abbiamo visto diversi cenni con la testa sono carichi ora la tensione è tanta il team Cheso deve provare a chiudere adesso vediamo cosa riescono a fare ragazzi ma devono stare attenti alla piper di Bobby sempre molto pericolosa anche perché inizio match ha tutti i gadget a disposizione potrebbe creare delle situazioni molto spiacevoli per team Cheso anche perché potrebbe prendere la subietà numerica come succede adesso Bobby ancora viene preso la doppia attenzione non è ancora una doppia in realtà grande gestione di Zar viene preso adesso oggi che rimane da solo ancora una volta 2v1 per lui vediamo come lo gestiscono ma gestito alla perfezione e quindi ragazzi attenzione perché team Cheso con questa va al match point e qua e qua è quel match sinceramente io mi sarei aspettato tutto da questa partita tranne un 3-0 Cheso ma proprio erano sfavoriti e stanno vincendo 3-0 ma infatti prestazione impressionante non so se vinceranno proprio questo game anche perché Bobby è partito non so se l'hai visto con uno start impressionante una hit gadget e già la prima kill in 5 secondi paradossalmente gli stamina erano sfavoriti contro team team Clash proprio ieri con lo scontro che c'era stato o il primo giorno no il primo giorno se non sbaglio e stalwart team Cheso era il primo giorno se parlavi del no io parlavo del team stamina che il primo giorno hanno vinto 3-0 contro i Clash quando comunque alcuni erano addirittura sfavoriti adesso sta succedendo il contrario erano favoriti contro il team Cheso e sono all'ultimo game per che potrebbe portarli alla sconfitta 3-0 assurdo comunque oggi far delle previsioni è veramente difficile anche perché cioè sta succedendo di tutto ma è anche un po' il bello delle competizioni l'anno il mondiale veramente ragazzi sta riservando diverse sorprese e il team Cheso sicuramente è un po' la rivelazione guardalo Bobby che utilizza l'ultimo gadget a sua disposizione per prendere una kill perciò superiorità numerica per il team stamina ha le SSG in difficoltà va giù dalle mine e vanno a prendere il punto e stamina si salva attenzione non è detta l'ultima parola potrebbero ancora effettivamente ribaltare tutto ragazzi però veramente l'irrigo della sorte stava veramente per portare uno scontro di un team favorito a perdere 3-0 invece a differenza del primo giorno devo dire però stamina che si stanno affidando troppo anzi veramente troppo all'unica win condition ovvero quel gadget di Bobby che se per sbaglio una volta non itta lì sono disastri eh sì ok comunque sono ripartiti abbiamo oggi con il Tic sulla parte di destra che sta giocando contro il Lotus lo sta tenendo anche abbastanza facilmente ovviamente il suo compito resta quello di zonare il lavoro poi di diciamo la firma finale la devono mettere i compagni con delle kill arriva il dot su Zar eh sì dot importante diciamo che prendere Max o Piper è una mossa fantastica sono i due brawler centrali della comp di stamina si si va tolti quelli si va a perdere veramente tanta solidità eh deve stare attento Bobby one shot attenzione viene killato Zar va giù anche Javi Bobby con 42 di vita prende la doppia la recupera l'ultimo la doppia con 42 di vita Zar qua e Bobby scusatemi sfodera la giocata veramente un gran lavoro ripartono subito adesso vediamo lo start perché per assurdo adesso c'è il set point per stamina per provare a recuperare e mettere un po' di pressione al team Cheso Bobby non so se avete visto ha usato un gadget da praticamente max range e non ha avuto troppo effetto di conseguenza un gadget in meno per lui ed è fondamentale per il suo team eh sì ragazzi qua insomma la situazione si complica sembra che gli stamina stiano tirando fuori il potenziale che fino adesso era rimasto un po' nascosto bello il gadget bellissimo per andare a colpire Zarr e lo porta anche one shot guarda come deve indietreggiare che idea questa tanta creatività ma boss in questi giorni Zarr one shot attenzione deve stare attento un'altra hit di boss che è devastante con quella bell però va giù Javi è Bobby un cecchino guardalo guardalo attenzione a boss va giù anche lui all'SSJ ragazzi va giù e il team stamina va a vincere il 7 ma quindi non è uno 3-0 mi sembrava assurdo infatti infatti a un certo punto gli stamina si erano veramente spenti cioè io ho detto cavolo qua non lo vincono sì sono andati ad un passo da un disastro incredibile ma Bobby non era convinto di questa cosa ha detto il 3-0 mi sta stretto meglio meglio ricominciare e fare un comeback con Piper devastante in questo set è stato lui che ha riportato sul team tra i suoi gadget i colpi incredibili è stato veramente veramente bravo sì ragazzi infatti c'è da dire che il team stamina qua ha veramente fatto molto ha fatto anche delle giocate creative come la testa per cercare di gestirsi tre player si sono dovuti inventare un po' di tutto ho visto morire un po' Javi appunto facilmente con Otis tante volte ha cercato dei push che non ha concluso bene eh sì si è un po' spento si è un po' spento invece quello che è partito è proprio questo qua al centro delle torrette di stamina proprio lui Bobby Rez no Bobby con Piper è stato guarda una doppia maha mia con 42 di vita la cattiveria impressionante veramente un grandissimo un grandissimo lavoro un grandissimo lavoro e ragazzi a questo punto la situazione si riapre il team stamina e guarda un po' le stats di Bobby 9 kill per lui e quasi il DPS più alto ma quello che fa impressione è la quantità di kill addirittura 9 kill a disposizione per Bobby è riuscito è riuscito quasi a fare tutte le kill del team keso insieme per una è vero è vero è vero abbiamo un bel render tra l'altro su una mappa di haste molto molto bella una rapina santuario ragazzi o save zone i ban sono subito stati fatti per il team stamina sono Brock Bell e Bonnie 3B 3B BBB BBB dall'altra parte invece team keso che banna Piper Bell e se non sbaglio chi era l'ultimo Colette BBC eh sì scusa BBB PBC esatto va bene ok mi stava per uscire un attimo una cosa che era eccessiva e nel frattempo ragazzi il primo pick è molto particolare per team keso il beat il beat giustamente è stata tolta Colette è stata tolta Bell mi dico che team keso voleva proprio il beat eh sì eh sì primo pick voleva è una cosa che abbiamo visto anche l'altro giorno fatta da totem in realtà eh sì 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 bisogna togliere comunque i brawler particolarmente fastidiosi per beat anche perché ha una meccanica insomma particolare come lo sapete beat penso sia a mani bassa il brawler più lento di di brostarts di conseguenza bisogna creare in parità con surge in realtà è vero il surge con il primo livello il surge con il primo livello riesce a essere ma forse no forse anche il surge il primo livello è più veloce di 8bit un pochino più veloce un piccolo beat eh sì ha bisogno della torretta ha bisogno magari di una max volendo che non è bannata però max no perché qua non avrebbe rovinerebbe un po' tutto la sinergia della comp il team che ha bisogno di una rottura a destra la può trovare con un ringhio ma ringhio come secondo pick a questo punto non ce lo vedo contro griff e iris non so chi potrebbe arrivare potrebbe arrivare un colt se proprio vogliono skillare ma è un po' tanto rischioso difficile difficile e invece arriva colt vogliono skillare ragazzi è difficile non era non era un problema no a quanto pare non era un problema e soprattutto i dps del team che eso sono tantissimi tra beat e colt qua i danni non mancano sono veramente tanti e infatti adesso arriva otis pure otis che è una bella abbinata ma che comp bella la comp questo questo draft è una comp per vincere per vincere il tour questa è una comp che ti fa andare potenzialmente alle semifinali ora io non vorrei che avessimo fatto tipo adesso la gufata più grande della storia però secondo me team keso qua ragazzi ha fatto un draft tanta roba ora voglio voglio capire l'ultimo pick di stamina perché anche qua io fossi il coach avrei un po' di difficoltà eh sì carl carl contro otis il colt esatto esatto deve andare contro colt che comunque deve stare molto attento vedremo le skill qua secondo me dipenderà tanto dalle skill del colt infatti ora poi vedremo chi sarà l'utilizzatore anche perché ha una responsabilità veramente grande e dall'altra parte anche il carl secondo me sarà quel pick che andrà usato alla perfezione è di nuovo un altro scontro che si vince con le lane cioè devono devono andare assolutamente a mettere l'otis contro il carl i ragazzi ovviamente di keso viceversa devono togliere l'otis dal carl bella la rottura di Ale che preferisce tenere i due muretti diciamo quelli esterni che però secondo me non è una grandissima idea perché il carl è proprio su quei tipi di spot lì che dà il meglio di sé eh sì in realtà qua c'è subito una doppia il team keso non è una doppia perché già semplicemente si è rallargato è il bit che è partito un po' in difficoltà eh vabbè ci sta rallentato senza ulti e devo dire che OG qua con la Iris sta andando veramente bene oh la pippata mamma mia la Iris di OG che non ci sta lui vuole il comeback attenzione e questi sono danni eh qua sono parecchi danni sono metà cassa ragazzi 50% eh preciso preciso proprio svizzeri svizzeri eh lo sai che non sta Daniele è distratto in questi giorni ragazzi comunque eh abbiamo la Iris che ho visto un glitch ha sparato un colpo in più cosa è successo? si è fosse talmente veloce che ho visto partire un colpo in più da parte di Iris impressionante e guarda lo Zara che riesce a tagliolare però non so se riuscirà a fare tantissimo no una hit però ne arrivano due da parte di oggi eh sì 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 oggi veramente prestazione impressionante con Iris incredibile ma sta affaticando Boss bello bella la risposta dell'Iris sul sul beat più che altro bello anche l'azzardo di Colt anche se sta facendo un po' di fatica eh Carlo lo sta tenendo veramente bene poi coordinatissimi il team stamina qua Zara con Carl potrebbe andare all'attacco ma guarda come li stanno gestendo mi sa che stamina quel quel 2 a 1 gli sta un po' stretto vogliono il comeback guarda Zara cosa sta evitando a Zara secondo me in questa partita ha l'NVP proprio ha schivato veramente una qualità di colpi per Zesca potrebbe meritarse anche solo con questa giocata arriva con la ultima ma gestito dritto gestito benissimo oggi comunque con Iris mostruoso continua la sua cavalcata in mid boss non sta riuscendo a muoversi giocata un po' sporca quella del Colt andrà dritto con la ulti non mi è piaciuta un po' eccessiva proprio un po' eccessiva ma attenzione perché tentano chiude no 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 lì è chiusa è chiusa e non ce la fanno niente ragazzi allora gli stamina vanno a un punto dal set point del pareggio un punto dal set point del pareggio ma non mi aspettavo a parte oggi ha fatto uno start impressionante ha carriato il mid con una velocità impressionante ma non pensavo Bit facesse così tanta fatica ma io non pensavo che Zarre fosse così forte c'è stato l'errore di Ale o forse voleva voleva togliere prima anche i muretti ha provato a fare la doppia rottura ma non ce l'ha fatta non lo so mi sembra si voleva fare forse una una rottura unica non so se voleva usare un gadget solo per far tutto non lo so bene cosa voleva fare però o questo o l'altro un minimo errore ci deve essere stato qua si è posizionato veramente bene attenzione stava per fare qualcosa di incredibile però adesso potrebbe esserci la risposta di stamina perché Zarre lì pronta a sinistra si è posizionato dall'altra parte oggi sta facendo il panico vediamo un po' arriva con la testa punta boss punta ah no punta il tip guarda la cattiveria rimane Bobby contro due gestito molto bene da Javi all'SSJ potenziato sulla lane di sinistra è da solo potrebbe salire no indietreggia perché ha due player in lane molto complicata per lui la situazione qua il push di Carl che trova quasi la cilma viene gestito mamma mia viene gestito anche bene in realtà l'unica cosa il team Chieso che va a fare veramente tanti danni ha preso parecchio vantaggio eh sì l'unica cosa Ale non ha non ha più gadget a disposizione e magari quella L che gli è rimasta a sinistra farebbe molto comodo se non ci fosse se non ci fosse perché quel Carl da lì non lo fa passare c'è difficilmente riesce a passare eh li rompe parecchio le scatole secondo me o con il primo o con il secondo gadget c'è stata una rottura bella la ulti di Colt che però non si concretizza bene ha fatto il pelo sulla sinistra la rasatura sulla sinistra del griff bella qua la ulti di Bobby che va la doppia hit e qua Stamina provano un attimo a recuperare perché per ora il vantaggio è per Team Keso no cosa ho visto ho visto all'SSJ che ha provato ad andare a hitare la Iris ma era veramente difficilissimo e qua notare la Iris che va a fare una kill guarda OG la doppia di OG ragazzi scatenato scatenato un po' di bloc importante da parte di boss ma non riescono ancora a concretizzare e qua rischiano di prendere il 2 a 2 63 a 47 si giocano tutto per tutto ci sono ragazzi parità eh no vinta eh no la parità viene superata abbondantemente ragazzi OG si tipa pure e riesce a fare ancora una hit stavano arrivando i danni da parte del Team Keso stavano arrivando il Team Stamina torna in parità eh vogliono tentare tentano il comeback mamma mia ragazzi ma io non vorrei che adesso il Team Keso poverini subiscano un comeback eccezionale che roba ragazzi Alvaro starà sudando grosso eh eh sì 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 Dani ma siamo secondo me c'è solo eh sì io già Dani dopo dopo questo dopo questa partita ci sarà un un piccolo un piccolo pit stop mi sa prima di ripartire eh sì ci sarà un pit stop per me avrai le 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 è il momento di farti chiudere il cane insomma è il momento giusto è il momento giusto ho già l'ospite pronto allora eh sì 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 l'ospite delle tre lettere ragazzi no comunque adesso a parte gli scherzi eh abbiamo abbiamo le statistiche prima di tutto abbiamo le statistiche ma ma infatti qua qua spunta un player solo oggi con i ries ragazzi impressionante lo start del primo game è stato qualcosa di incredibile penso abbia fatto la kill su oddio su boss nel modo più veloce possibile penso abbia preso un paio di hit piene è riuscita a stroncare il beat subito e infatti la prima partita il primo game è stato carriato da quella performance eh sì ragazzi hanno fatto veramente un grandissimo lavoro e c'è da dire che più più di così ragazzi cioè cosa cosa poteva cosa poteva fare il team Keso contro una fuoco del genere non mi sento di dire che il team Keso abbia giocato male sinceramente no no infatti qua il team stamina che se proprio devo trovare qualche qualche difetto troverei qualche difetto sul colt ma era veramente che poi ha giocato al massimo delle sue potenzialità e effettivamente il Kallen Lane era particolarmente ostico ma quello che ha dato qualche in più sono proprio le prestazioni dell'istamina che hanno fatto quello switch hanno aumentato il ritmo e hanno aumentato il numero di colpi presi e tutto cioè le prestazioni sono proprio aumentate si è visto nel frattempo arriva il primo pick da parte dell'istamina che è un Otis con i ban di Stu Lu e Semino dall'altra parte invece team Keso ban Griff Penny e Crow tutti i brawler molto fastidiosi sì in Dwelling Beatles ho anche detta distesa degli Scarabay attenzione oggi mi sfoderi la giocata ti sfodero ti sfodero i scarrafoni invece del Scarabay eh sì sono rimasto un attimo stunnato dalla giocata complimenti eh sì la bell la bell io ogni volta che la vedo sono contento perché è veramente un pick che mi piace tanto vedere e qua è una delle mappe in cui bell si può utilizzare lane anzi secondo me è da utilizzare è vero è vero ha molto range e tiene benissimo la lane oltretutto laterale si può sfruttare anche per i rimbalzi magari una hit in mid che poi rimbalza sempre quel che è in più la particolarità di questa mappa è che le lane hanno più gittata hanno più spazio rispetto al mid esatto di conseguenza gioca molto sulla media gittata mentre invece le lane giocano più sul long infatti la bell lane potrebbe però guarda la comp del team che eso si affida veramente a tutti i long range possibili immaginabile e a questo punto i brawler dasher sono un attimino da escludere vero da dire si potrebbe optare per una penny classica che però è stata bannata ma ti dirò secondo me qua un Carl dipende poi da chi lo utilizza però immagino già una combo gas Carl di un Z1 sarebbe una cosa di qualcosa di illegale secondo me invece gli stamina potrebbero fare l'errore mettono Brock se non fosse arrivato Brock il terzo pick poteva essere tranquillamente un tick esatto e probabilmente il coach degli stamina lo sa e ha detto evitiamo scongiuriamo subito questo rischio evitiamo il disastro anche perché in questo set ragazzi non c'è possibilità di tornare indietro chi vince qua io ti dico anche un gin adesso come terzo pick addirittura e qua si gioca sulla gittata adesso l'azzardi l'azzardi così ah Buster bello apri tutto e tieni Buster effettivamente contro Bea anche sicuramente allora qua le scelte sono due il Brock aspetta ovviamente il terzo pick di Team Keso per scegliere il gadget che dici? sai che non lo so perché potenzialmente un Brock con il gadget del salto potrebbe essere più utile se poi dall'altra parte non c'è bisogno di aprire assolutamente sì però però non saprei vediamo ah Pam eh Pam allora invece sì che devi tenere il gadget che apre perché se ti piazza la torretta davanti alla base praticamente hai perso se non spacchi Pam sto pensando come possono essere io non dico più niente sul draft perché prima abbiamo fatto i complimenti al draft del Team Keso e poi è finita male ma ricordiamo ragazzi che comunque non è finita male ma ora io ci misbilancio il draft vincente con dell'Istamina attenzione l'ha detto è perché comunque la rotura di Brock che rompe i suoi stessi muri e non vogliono subito che Pam provi a mettere la torretta però alla faccia dello start degli Stamina la cattiveria di Bobby provano la rottura sui loro muri e vogliono provare a piazzare il Buster davanti alla alla base per qua ZAR tanta roba non so se hai visto la chi di destra proprio ha tolto l'avversario come come quando si cambia il sacchetto di Alimodizia proprio proprio con una cattiveria unica guarda ZAR però che attento dove vuole rompere? no vuole tenersi proprio il ah vuole il colpo ok attenzione usare il colpo per avere quella gettata in più per la gettata in più mamma mia però gli Stamina ragazzi hanno piazzato hanno piazzato il Buster lì davanti è finita ma la comp è superiore sì tanta tanta roba la comp qua è tanto superiore devo dire che ogni volta che c'è la possibilità di vedere Otis che gioca poi anche nella lane dritto per dritto sfoderà quel che guarda Bea che non riesce a fare niente guarda Bobby più che altro cioè Bobby non lo teni più no Bobby diciamo che ha messo le radici da KO si è un attimo si è un attimo trasformato è diventata la sua versione finale la forma perfetta mamma mia Bobby veramente qua allora senza nulla togliere agli altri due agli altri due ma questo turno ha veramente tirato fuori tanto anzi forse in ogni partita c'è stato un po' insomma come posso dire un player dell'istamina che ha giocato meglio per ogni set forse prima in KO abbiamo visto Bobby e poi nell'ultimo set abbiamo visto Rapina un pochino più OG magari anche con Iris si è destreggiato particolarmente ah beh si è vero ma in realtà se la cambiano quasi ogni game però devo dire che Bobby potrebbe essere la punta di diamante oggi del suo team anche perché sta dimostrando delle skill impressionanti ora vediamo però Team Keso si prova a reagire perché di solito come succede anche in queste partite nel secondo game il team avversario un pochino si adatta al gameplay degli avversari di conseguenza prova a trovare qualche modo per counterare anche qualche solo piccolo dettaglio come ci hanno insegnato anche i player e lo staff con cui parliamo qualche piccolo dettaglio fa la differenza e si può cambiare i risultati della partita eh ragazzi qua vediamo ad esempio uno start completamente diverso perché il team Keso sta sta sicuramente facendo uno start completamente diverso vediamo ZAR che toglie subito la torretta e a questo punto bella questa view con le cam di tutti i player guarda guarda stamina la pulizia con cui ripuliscono la zona oltretutto però bisogna stare attenti perché qua team Keso un pochino di vantaggio l'ha preso ma lo stanno rimangiando tutto si qua la stamina sta proprio facendo un bel comeback ed è il comeback che forse è arrivato il colpo di Boss non pensavo nemmeno avresse preso la hit in diagonale su Bobby ha preso una hit imbarazzante ma guardate ancora Boss con Bell ha tirato fuori le skill mamma mia guarda che bella la ulti qua con un time rapidissimo mamma mia Bobby la tripla complimenti una delle prime se non la prima che vediamo mamma mia ragazzi io vi ricordo che abbiamo visto un solo 3 a 2 fino ad oggi ed è stato quello di Chasmac contro ZZero ma stamina e team Keso ci stanno regalando veramente un secondo perché manca il finale pazzesco ragazzi ce l'hanno fatta vanno a vincere il comeback secondo match ma che comeback hanno fatto staccano i fili spaccano tutto ma spacca tutto anche la torretta tocca ricomprare la nuova ragazzi uno dei comeback più belli che abbiamo visto da 2 a 0 a 3 a 2 ma io devo dire merita tutti e tre ma Bobby l'osservato speciale mamma mia così vincono il mondiale se giocano così vincono il mondiale veramente a questo punto io ti dico lo spettacolo dello spettacolo come magari nel calcio con due player molto famosi che non vado a nominare in questo momento per il prossimo match sitetampo contro Bobby mamma mia veramente sarebbe qualcosa di pazzesco alla fine della fiera si riconferma il risultato che avevamo detto il team stamina è nato a vincere come avevamo predictato il migliore dello scontro ci abbiamo vabbè io qua l'evp vabbè io sinceramente l'ho già detto il pubblico è d'accordo con noi comunque sì però io voglio premiare un altro che secondo me è passato un po' un po' in sordina non lo dico neanche abbiamo ufficialmente la prima semifinale ragazzi che sarà quindi Z division 1 contro stamina e tra poco ragazzi ci saranno due team che però vi lascio presentare a Daniele in questo breve break ok ragazzi è arrivato il momento finalmente come abbiamo annunciato prima di far bannare Ferre da Twitch è arrivato quel momento allora abbiamo finito la prima metà dei quarti ragazzi fateci sapere cosa ne pensate di questi match io e Ferre già siamo devastati anche perché il livello degli scontri è fantastico ed è altissimo questo comeback allucinante stamina hanno sfoderato la prestazione del secolo dall'altra parte Tim Keso comunque che se ne va a testa alta ho visto un po' di disperazione negli occhi di di alesssj che ci è rimasto particolarmente male come ah vogliamo ci dicono che c'è anche la possibilità di avere un ospite e allora e allora perché non non intervistare questo ospite lo sistemiamo un attimo ragazzi e poi e poi gli facciamo qualche domanda vediamo un po' allora preparati con le cuffie così poi così poi switchiamo ormai ospite che conoscerete molto bene ve lo facciamo sì sì ve lo facciamo vedere tra pochissimo voi ragazzi che dite chi è questo ospite misterioso vediamo se qualcuno lo indovina negli ultimi secondi c'è qualcuno dice mauri addirittura ok allora ragazzi eccolo qua inzo sempre un piacere averti qua ormai questi giorni ti sfruttiamo al cento per cento fate bene allora com'è io ovviamente ti faccio un grande un grande gg per il match non è finito nel migliore dei modi ma comunque ci avete regalato delle emozioni veramente veramente forti c'era tanto tifo in chat ovviamente per voi l'unico team che rappresenta l'italia ma ci avete fatto divertire purtroppo insomma Z1 ha avuto la meglio ci vuoi dire qualcosa riguardo quel match? sì beh sicuramente noi abbiamo cercato di dare il massimo e penso comunque i ragazzi vengono giocato molto molto bene anche come comp e sì strategie comunque preparazione penso che non ci siano stati grandi problemi forse tranne le sette di Hotzone ah ok Hotzone lì c'è stata un po' di difficoltà l'ultimo pick di Crow sì lì abbiamo un po' forse rischiato giocando Guildbuster però sì in linea di massimo io ero anche abbastanza contento con le scelte che abbiamo fatto e anche sicuramente con come hanno giocato i ragazzi cioè secondo me sono strabravi sono stati veramente bravi complimenti di Z cioè sono i migliori bisogna fargli complimenti ovviamente te non ci hai sentito ma i ragazzi lo sanno io sono rimasto incantato dal tuo draft perché diciamo lo gestisci te no? facciamo io insieme a Joker sì ok dal tuo draft di Foot bellissimo quel pocio Max e il Carl se non sbaglio comp spettacolare peccato che abbia funzionato solo all'inizio perché dopo ci hanno rimontato sì 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 ho visto è stata una partita molto particolare ma lì ci avete regalato un paio di magie dei gol incredibili è stata la partita che penso abbia tenuto tutti incollati allo schermo anche perché vi alternavate un gol preso un gol fatto cioè era devastante veramente molto bella da vedere io a questo punto però ti voglio chiedere una cosa a proposito dei draft che ci stiamo parlando in questo momento il tuo draft cioè insomma il draft che avete fatto te Joker su Rapina il bombardino ultimo pick eh sicuramente può sembrare strano perché comunque avevano già piccato ovviamente Buzz eh esatto proprio lì voleva arrivare però e avevano anche forse un roof che può aprire però cioè bisogna comunque considerare che Rapina adesso è diventata una modalità molto veloce ok dove si fa tanto danno cioè sia Brock che comunque lo stesso Barley i personaggi così eh o 8-bit fanno tanto danno molto velocemente quindi eh noi l'abbiamo preso perché comunque era molto buono sia contro Otis che contro Roof ok e poi avevamo anche comunque lo sloper Buzz che non era un matchup impossibile e infatti la prima partita è stata molto molto combattuta sì molto combattuta penso abbiamo perso di un 7% una cosa del genere sì sì e la seconda invece mi ha fatto un po' più fatica perché sì comunque è sempre difficile giocare contro un Buzz cioè indipendentemente dal personaggio che avessimo preso ovviamente Buzz ha delle meccaniche un po' strane eh sì quindi riesce a vincere anche contro counter come Colette per esempio sì 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 ho capito ti può sfoderare quella giocata magari con uno stun sì esatto cioè noi l'abbiamo preso perché comunque avevamo tanto danno con Enrico abbiamo poco danno comunque abbiamo una velocità con la max e ci serviva altro danno e quindi Barley ci sembrava una buona opzione ecco ok ok va bene ti ringrazio per le risposte io allora a questo punto ti chiedo un pronostico per gli altri due match ma mi sa che non lo so se questo filmatino dobbiamo vederlo no mi sa mi sa di no evitiamo al massimo gli lasciamo un po' di sottofondo ai ragazzi un pochino più basso a questo punto gli altri due match un pronostico allora guarda se vuoi ci sono ok è difficile 3-2-0 allora io penso che vincerà Z ok mi hai visto molto forti però ovviamente in quanto team europeo cerco di supportare i tribe anche se comunque Z-0 ieri hanno fatto molta fatica sì però penso che dopo lo spavento di ieri oggi siano molto più concentrati e comunque anche si motivati ecco di dimostrare che sono un top team come probabilmente il loro team gemello e va bene gli Z-1 che hanno giocato contro i noi invece per l'ultima partita che ricordiamo per chi ci sta guardando sono invece i tribe gaming nord america contro gli SK secondo te qua chi la porta a casa è anche lì un po' lo stesso discorso secondo me vedo più forti i tribe i tribe e i perché hanno avuto una partita molto molto difficile sì comunque una partita difficile sulla carta che hanno dominato contro i navi che secondo me è un avversario insidioso quindi pensano che siano anche più preparati gli SK per questo questo palco comunque il pubblico che sembra di no con tutte le cuphe che abbiamo però si fa sentire eh lo sentite poi si sente sì anche comunque i caster e tutto quanto si sente ah riuscite a sentire anche i caster che sono di lato magari se quello francese soprattutto ah ce l'avete tutta l'arena ah ok ok sentite poi gli urli ok ok e allora ah però l'unica cosa già che abbiamo mi sa ancora qualche mi sa un minutino poi dobbiamo dobbiamo lasciarci volevo parlare perché noi abbiamo discusso eh durante il pranzo della partita Z a zero contro Ciasmak con Ferre e altri quella che è stata molto combattuta ma secondo te lì c'è stato eh tutto c'è questo casino insomma questo 3 a 2 poi con il rischio anche di Ciasmak della vittoria perché su K.O. si sono giocati veramente era quasi un 50 e 50 ma c'è stato un difetto lì di mentalità degli Z a zero che sono partiti un pochino troppo alla leggera e magari come detto anche oggi si presentano molto più carichi concentrati e avranno una prestazione diversa o cosa c'è stato lì secondo te secondo me molto più semplicemente i Ciasmak non avevano nulla da perdere ok quindi sono partiti molto molto sciolti e mentre magari comunque i Z a zero avevano più pressione perché anche loro ovviamente due su tre sono campioni del mondo eh vabbè sì esatto e poi invece ovviamente nel momento di maggiore difficoltà hanno hanno ingranato e comunque si sono dati una mossa e hanno dimostrato cioè chi sono veramente quindi ok che comunque hanno rischiato eh no no sicuramente sicuramente però comunque una grande prova di forza rimontare da sotto 0-2 eh sì 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 ok ah qua stavano facendo stavano inquadrando anche i community manager vabbè giustamente ci sono tutti è arrivato anche Ryan non l'ho mai conosciuto quindi chissà che sia la volta a voi ah sì va bene va bene ah detto questo io mi sa che ora vediamo se abbiamo sempre qualche minuto che sto io che sto io questa partita ah attenzione al posto di Ferre vediamo vediamo voi ragazzi che dite sostituiamo Ferre con Inzo per una partita allora qua intanto hanno già preparato vabbè giustamente è tutto pronto per Tribe Gaming EU Z Division Zero voi avete qualche domandina al volo per Inzo vediamo un po' se esce fuori qualcosa ah dicono fate tre caster sì sì ormai ragazzi abbiamo preso possesso del 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 Twitch di Ferre è nostro è fatta io devo votare qua che sennò ah appunto te come sei messo con io sono a 700 ma non ho mai votato dovevi votare prima quando ero ho perso il tempo adesso perché stavo parlando per quello poi ragazzi se Inzo non prenderà la skin sarà colpa nostra poi peccato peccato che comunque la skin non è nemmeno male no infatti Mauricio là me l'ho anche fatto usare se abbiamo provato è tanta roba è bellina è bellina poi si sa comunque le robe gratis fanno fanno sempre scalpore oltretutto il primo giorno non so se il giorno 2 e oggi c'era ma Kairos travestito da Edgar ma aspettate questo ve lo facciamo vedere non so se facciamo in tempo ah no peccato c'era Kairos veramente con un travestimento particolare qua intanto vediamo scendere in campo ovviamente dei ragazzi che conosciamo veramente bene il team Tribe Gaming EU con partendo da sinistra Lena Drage e il signor Tom tra l'altro loro hanno un tifo veramente hanno tanto supporto avendo due team ovviamente hanno pubblico sia europeo che nordamericano ecco c'è una domandina Inzo per guadagnare qualche punto però non so se non so se fa in tempo in 15 secondi quale membro di Tribe Gaming EU ha vinto le finali mondiali in passato Tom per il pubblico questa la sapevo anch'io aiutiamo votiamo anche per Ferre ma anche io e lui abbiamo preso giustamente noi possiamo seguire la live un pochino per voi è più facile per noi è un pochino più facile siamo qua senza senza dover andare sul palco e possiamo votare senza problemi vediamo ma dai tanto ce la fai a prenderla anche te i punti sono abbastanza sono abbastanza fattibili ecco qua un po' di un po' del tifo guardate ragazzi il signor Kairos comunque ti dicevo della skin di Tara il primo giorno si è presentata Paola anche il secondo penso l'abbia fatto anche oggi a questo punto ok dall'altra parte Z Division Zero Kuro Aciapi e Tensai eccoli guardali carini che salutano introdotto con loro sono riuscito a fare la foto poi devo recuperare anche la foto con voi che per assoluto sono riuscito a fare la foto con gli altri con voi non abbiamo ancora avuto la possibilità e magari poi ci troviamo volentieri volentieri pensavo mi dicessi con gli Z1 che dopo ti dicevo beh sono amico all'ora e ti potevo aiutare ecco ah beh se c'è la possibilità assolutamente ovviamente sto cercando di per poi magari creare qualche contenuto anche solo per ricordo personale far la foto con tutte le persone cioè il più più possibile tra caster player giustamente perché insomma questi eventi non capitano spesso ed è bello avere tutti i player c'è tantissimi team da tutto il mondo che magari i team europei potrebbe anche capitare di trovarli da qualche parte tutti invece quelli che vengono da altre parti del mondo è molto più difficile no ma infatti è questa comunque la parte più bella di essere a questi eventi che comunque trovi persone con cui magari parli online tutto l'anno e poi ti incontri alla fine dove è la competizione più importante ed è bello perché comunque cerchi di interagire un po' e comunque tanti sono amici anche quindi è sempre bello che poi non so voi proprio come sia il team totem che anche per gli altri team europei quante sono le possibilità a parte magari quando si avvicinano questi eventi di fare scrim con i team dell'altra parte del mondo tipo magari i tribe NA o anche solo l'IZ che stiamo vedendo qua e che avete anche affrontato non so durante l'anno no è praticamente impossibile cioè noi pur non qualificando ci abbiamo un po' sfruttato l'MSI per scrimmare contro tutti i team e aiutarli però però sì per quanto riguarda il resto dell'anno non si può fare niente c'è troppo di lei magari si gioca un po' per divertirsi qualche uno contro uno però nient'altro insomma questi tornei sono anche un modo per poter affrontare veramente tutti e potersi allenare al meglio esattamente è per quello che sono anche così equilibrati secondo me perché vedi vari meta uno contro l'altro e si capisce cosa è davvero forte nel gioco e non cosa è forte magari in Europa o in Giappone eh sì perché qua si unisce tutto o in America esatto eh molte info tante cose interessanti mi raccomando ragazzi prendete tutto perché quando abbiamo questi ospiti soprattutto un coach come come Inso che ne sa veramente veramente tante abbiamo perso quasi quasi la tua idea di castare il primo match con me io ci sono per il primo set ci sono sì sì ragazzi c'è stata la conferma anche perché il proprietario del cane è scappato comunque li vedo bene sul palco sono un po' lontani però non vedo persone particolarmente nervose né da un lato né dall'altro ah dici li hai sempre visti no sì adesso che stai parlando intendo eh no no sembra abbastanza tranquilli ma ieri una cosa che abbiamo visto è che Z di Vision Zero erano veramente tanto in difficoltà con Chasmac ma anche quelle volte che li hanno inquadrati sul 2 a 0 loro erano sempre lì tranquilli col sorriso cioè erano veramente poi magari la tensione c'era perché comunque stai perdendo 2 a 0 quello tutti con un po' di sano come dire nervosismo adrenalina e cose così fanno sempre bene ah ok allora ragazzi a questo punto facciamo anche vedere ringraziamo Inzo per tutto il tempo dedicato in questi giorni a noi anche a tutti in chat ovviamente farà farà tanto piacere averti visto in questi giorni sono stati bravissimi eh Ferri vabbè non so se l'avete sentito ovviamente ha fatto i complimenti ai ragazzi di Totem ha detto che hanno fatto veramente una performance incredibile è quello che gli abbiamo detto anche noi guarda un po' di un po' di sano tifo e un po' di complimenti ai ragazzi e niente tanti complimenti grazie per il supporto andrà meglio l'anno prossimo comunque noi abbiamo dato il massimo ma sì sì tanti complimenti in bocca al lupo per tutti i futuri impegni e competizioni grazie grazie mille ciao buon cast grazie vai Ferri già che Inzo è ancora qua con noi dico che andando vabbè c'è il delirio fuori c'è il delirio ho incrociato la tua famiglia e sono super orgogliosi di te ovviamente anche di altri ragazzi però insomma ho incontrato ho incontrato la famiglia e sono veramente contenti quindi dai prossimo anno si riparte e ancora grazie perché comunque ci avete regalato un bellissimo spettacolo assolutamente assolutamente ma la prima cosa infatti sono stati i complimenti per loro perché questo se vuoi lasciarmelo se no prendevo pure mi lasciavo qua il telefono ok allora eh no Dani come ti dicevo fuori perdonatemi ragazzi ma c'è veramente il delirio ho incontrato un tuo iscritto decisamente con tanti punti esperienza diciamo così con tanta tanta esperienza di una certa età ah ok hai capito di chi parla ma vabbè insomma abbiamo tanti iscritti che comunque sono più grandi di noi eh si ma era è un papà yes ok hai capito chi è l'ho incontrato ed è un super papà perché aveva due figli con lui che quando abbiamo visto ci sono nominati gli occhi io ho fatto due foto al volo però veramente ho incontrato prima la bambina di Inso poi loro spettacolo e poi imbagno il delirio giusto un attimino e niente però no veramente le emozioni qua sono pazzesche dopo ti darò anche un pochettino a te il cambio e vedrai vedrai ah si si vado si 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 poi al prossimo match vado vado io un attimo al volo in pausa comunque si per fortuna ho avuto già l'opportunità di incontrare questo super papà che salutiamo tanto se sta guardando la live ha capito che stiamo parlando di lui e abbiamo già avuto l'opportunità di fare le foto e tutto anche perché appena mi ha visto mi hanno subito braccato il primo giorno oltre tutto le abbiamo incontrato io forse l'avevo anche già visto ma non l'avevo non ho modo di riconoscermi no ma è difficile anche per esempio i ragazzi ieri ci hanno fermato due che addirittura hanno chiesto di noi a quei due ragazzi ma giustamente non diamo mai un volto al nome online di conseguenza è difficile più che altro mi è dispiaciuto un po' perché questi due ragazzi erano veramente super emozionati avrei voluto stare lì a parlare con loro mi sarei messo anche veramente a fare una partita a Brawl Stars con loro perché sono super super emozionati mi hanno detto Ferre ti seguiamo però non c'è tempo perché qua sono già partiti sono partiti ufficialmente i Tribe contro Europa contro gli Z Division Zero non so se è già la tua antecipazione allora per ora stavamo parlando con Inzo di un po' di tutto gli abbiamo fatto fare anche i pronostici per questi match ovviamente lui ha dato Z Division Zero come favoriti anche se giustamente da player europeo anche lui Inzo qual è stava tifando per i nostri team europei esatto che sono rimasti dall'altra parte invece Tribe NA contro SK Inzo ha dato per vincitori i Tribe NA ah sì addirittura ha detto sono veramente in forma io tra l'altro sai che ho incontrato sempre sempre che ho incontrato tantissima gente ma non tutti lì Guy e Pedro e gli ho detto ragazzi good luck good luck come on erano belli carichi però è incredibile perché loro come i totem quando li vedi le auguri buona fortuna è come se non ti sentissero hanno già la mente lì sono già lì con la mente totalmente e li vedi proprio che da una parte apprezzano ma dall'altra proprio sono totalmente ma devi avere quella mentalità lì già anche ore prima probabilmente la testa è lì è totalmente lì sono focus scream allenamenti anche se ti allontani un attimo che magari giustamente fai una pausa perché sono umani anche loro ma sei sempre collegato mamma mia ragazzi comunque nel frattempo sono partiti e come potete vedere c'è un vantaggio per l'Izeta è un vantaggio un vantaggio bello importante qua purtroppo arriva il miss del grab di Drage e Aciapi ne può approfittare schiva anche il gadget ha fatto un finto Aciapi ha fatto un finto una finta ulti gli è andato adesso poi è venuto via gli ha fatto una finta e Drage giustamente per essere sicuro ha provato a usare il gadget ma queste sono finezze veramente da campione del mondo eh sì qua tanta tanta roba ragazzi c'è veramente poco da dire qua vanno a vincere il primo game l'Izeta però il primo game che non ha sempre dato fortuna esatto esatto io poi finita questa partita devo ricordarmi di dirti cosa ha pensato Inzo perché ti ricordi a pranzo raccontato che ci siamo messi a parlare appunto della partita Z-Zero contro Ciasmak ok ho chiesto anche a Inzo le sue considerazioni ed è uscito qualcosa di interessante poi ti dirò mi raccomando ragazzi se non glielo dico ricordate assolutamente e te lo ricorderò perché anche io comunque sono curioso nei momenti in cui ci sono gli ospiti di sapere che cosa dicono comunque nel primo tempo siamo partiti con il secondo match degli Z-Zero contro i Tribe e vediamo un pochettino come si comportano il vantaggio è subito da parte dei player giapponesi che perdono difficilmente il mid ora che l'hanno preso stanno lì Squeak è molto fastidioso ma comunque rimangono saldi nel mid assolutamente questa è inoltre anche una mappa dove chi tiene il controllo della parte centrale si porta veramente insomma un grande vantaggio perché come puoi vedere chi si porta chi si porta il vantaggio cioè chi prende la parte centrale prende veramente un grande controllo esatto poi ha anche la possibilità diciamo di essere proprio invisibile agli avversari non si sa da dove sbucherà per sparare è un vantaggio molto molto importante non so qua se qualcuno tra Tribe e ZZero è andato a mettere magari un gear della visione che potrebbe essere utile in queste occasioni vediamo se poi ci daranno una grafica per capire qua Dredge tenta un grab al buio e purtroppo non va e invece quello che va è il vantaggio dell'IZ che aumenta esponenzialmente assolutamente si ragazzi qua la giocata si commenta veramente da sola perché è solo una delle tante kill delle tante giocate che vanno veramente a sommarsi al vantaggio importante che stanno assumendo l'IZ Kuro e Tensai già che sfoderano il pin e addirittura Ciapi invece sfodera un pin da un'importanza incredibile ovvero quello del campione del mondo che solo lui e pochi altri hanno la situazione si sta scaldando penso che forse si può veramente tastare con mano toccare con mano ragazzi perché l'IZ stanno vincendo in maniera veramente schiacciante questo primo set forse nella fase di picche ban è venuto a mancare qualcosa ma vediamo adesso con il secondo set cosa succede dubito comunque sia di nuovo in un in un comeback no dubito che ci sia un 3-0 ecco dubito che ci sia un 3-0 secco tutti a casa così e basta perché non sono venuti qua esatto vedere il team che ha fatto top 1 in Europa perdere magari 3-0 con un team comunque assolutamente di tutto rispetto anche perché ricordiamo per l'ennesima volta che 2-3 sono campioni nel mondo cioè comunque sono player di livello altissimo e allora dato che ci sono i replay io ne approfitto per chiudere questo discorso allora parlavamo di Chasmac contro Z-0 e le considerazioni di Inz sono state soprattutto per Chasmac diciamo che lui la prima cosa che mi ha detto è che Chasmac sono entrati in campo senza cioè non avevano niente da perdere e magari quello è stato anche quel cambio di mentalità che ti faceva giocare anche più spensierato di quello che potevi essere che ovviamente di base la tensione c'era per entrambi però Chasmac non aveva niente da perdere dall'altra parte invece c'era Z che hanno comunque un po' come anche l'altro team Z un po' di ansia perché comunque le aspettative sono altissime il team Z-0 ha due campioni del mondo che partecipano nel team di conseguenza magari c'è stata anche questa cosa e poi comunque Inzo ha detto che il risultato finale è anche per gli altri team una prova di forza cioè loro hanno recuperato hanno fatto un comeback allucinante e questa qua è una prova di forza veramente importante quello ha avuto tanto peso mentale anche per noi che commentavamo figurati quanto è stato schiacciante per i ragazzi di Team Cheso che non sono più riusciti a recuperare esatto esatto è stata una quelli di Chasmac hanno fatto hanno fatto hanno avuto un bel colpo una bella batosta e soprattutto anche gli altri che tipo come ora Tribe Gaming insomma hanno davanti un team che sanno che insomma non si arrende e soprattutto ha delle skill veramente importanti si stavo giusto confondendo scusatemi il nome ma anche perché tra l'altro le partite sono state molto simili sono stati l'unice 3 a 2 che abbiamo visto ma sono state partite molto simili anche come dinamica perché c'è stato quel vantaggio del team che poi ha perso perché è arrivato sul match point quindi per fare il terzo set invece no l'altro team ha sempre recuperato in un caso appunto l'Izeta e nell'altro caso l'Istamina però c'è stato comunque questa similitudine comunque qua riparte una bomba con dei pick dei ban molto interessanti i tribe vanno a togliere Feng Grom e Semino dall'altra parte invece ZZero va a togliere Bonnie Brock e Tick esatto il primo pick è per il team tribe che va a mettere una Eve giustamente siamo in Golden Hunt Gulch invece dall'altra parte il secondo e terzo pick di questo draft sono Janette e il Jin da parte di ZDVZero esatto vanno quindi a concludere la comp i tribe prima con un gas che sicuramente può dare un po' più di solidità soprattutto alla Eve che al momento attuale ne è sprovvista e invece il terzo pick che a questo punto lascia un attimino diverse possibilità perché ecco qualcuno a cui mettere lo scudo una possibilità molto particolare direi quindi praticamente Eve era quasi un pretesto era quasi era quasi una pinta era un esca aveva cambiato completamente tutto sembrava una di quelle comp che se la giocano da distanza e invece improvvisamente la svolta si gira completamente su un tank e a questo punto si possono mettere un antitank gli Z lo metteranno si spera ma più di quello non possono fare esatto esatto anche perché potenzialmente potrebbero andare a mettere come è successo su arco doppio contro totem una Colette che fa il suo dovere ma in questo caso c'è anche Gas che cambia le carte in tavola perché Colette se arriva Buster scudato penso sia quasi impossibile che lo butti giù ma si è buggato un attimo si è buggato un po' tutto si è l'esce la grafica non si è vista benissimo è arrivato Otis è arrivato Otis beh giustamente per andare a mutare eh si 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 per forza ma è lo scudo di Buster in teoria potrebbe andare a gestire l'ulti di Otis chi? lo scudo di Buster potrebbe gestire l'ulti di Otis assolutamente rimbalza ti ribatte anche il colpo in questo caso si ti ribatte anche la stellina eh quindi quello potrebbe eh guarda Ciapi che non ci credo mamma mia riesce ad andare a killare ha buttato un attimo il gadget perché in qualche maniera le nasi era salvato ma poi compensa con i colpi pazzesco comunque è particolare la scelta della Eve ma guardate in questa fase come riesce a sfruttare anche l'acqua e non essere vincolata ai corridoi qua Tom rimane veramente eh da solo da solo in gran difficoltà però si è caricato la ulti vabbè prova a non far caricare le ulti agli avversari diciamo che il suo compito come ultimo rimasto in campo è stato portato a termine però è comunque molto difficile assolutamente nel frattempo comunque vi ricordo un attimino la nazionalità dei player abbiamo per quanto riguarda Drage e Tom due player direttamente dalle UK dalla Gran Bretagna mentre il buon Lena con il Buster è l'unico player in tutto il World Final in tutto il Mondiale che porta la bandiera della Svizzera e invece vabbè invece dall'altra parte per le qua ti illustro io le nazionalità dei tre avversari di Tribe Gaming immaginate un po' ragazzi Aciapi dal Giappone Kuro dal Giappone e pensate un po' Tensai guarda un po' dal Giappone anche lui sempre dal Giappone l'unica grande bandiera che li unisce ma pensate sarebbe comunque sempre più probabile se dovesse continuare così questo scontro che la finale potrebbe essere un Tribe con uno Z contro Z se dovesse vincere invece Tribe potrebbe il prossimo turno la semifinale potrebbe essere un Tribe contro Tribe potrebbe essere un Tribe contro Tribe e lì il pubblico andrebbe invisibilio anche perché come diceva anche a Inz e come giustamente si sono accorti un po' tutti dato la presenza di due team hanno un pubblico sugli spalti veramente importante eh sì ragazzi veramente veramente importante e vediamo vediamo cosa succede ovvio che pensare a uno scontro in finale Z contro Z vorrebbe dire veramente qualcosa di pazzesco gli Z sarebbero riusciti così a portarsi a casa due riuscirebbero così a portarsi a casa due Priceful enormi i due più grandi e soprattutto metterebbero i puntini sulle I sulla loro dominanza in tutto il mondo cioè immagina mettere i tuoi due roster in finale mondiale di Brawl Stars vuol dire che su Brawl hai potenzialmente il primo e il secondo team i due team più forti sei il numero uno a tutti gli effetti non ce n'è comunque ragazzi vediamo un pochettino guarda Ciappi che sgattaiola da dietro Ciappi riesce a fare un'ottima kill e la kill anche Itens ha il full team mamma mia da fare con gli Z ma cosa andate a combinare a Ciappi ma non l'hanno visto mamma mia bravissimo ha dato il via a un'azione impressionante veramente ragazzi pazzeschi e e niente c'è veramente poco da dire qua vanno sul vanno sul set point gli Z eh sì gli Z vanno e gli Z ancora una volta distruggono ragazzi però giustamente noi speriamo a questo punto come abbiamo fatto sia per Totem in un comeback anche perché i nostri team europei devono andare avanti purtroppo su due degli scontri che abbiamo visto le due vittime sono stati appunto i due team europei eh sì ragazzi sono sono stati veramente sfortunati comunque i team che hanno incontrato gli Z a questo a questo punto non ne non so non so cosa come potrebbe continuare questo scontro eh bisogna vedere io spero comunque che tra i giustamente si impegneranno al massimo ma come vedete le difficoltà sono tante e vediamo magari i prossimi draft devono tirare fuori non lo so come farebbe un mago il coniglio dal cilindro deve uscire qua la giocata il problema è che tante stavano continuando a sparare al basta si sono decimati si sono decimati a soli non ho capito però comunque hanno tirato giù il gas che per assurdo ma dall'altra parte è che loro sparano e poi quando torno dietro i colpi schivano comunque anche quelli non è un problema praticamente invulnerabili schivano qualunque cosa vabbè comunque qua oddio ora io non so a ciapi ma se riesce a fare un miracolo a ciapi fa una doppia ragazzi io qua esco e la pausa la faccio fino a fine live direttamente sarebbe veramente tanto pesante prendere una doppia adesso è veramente difficile comunque guarda l'atteggiamento di Renai e Tom che stanno a 15 metri di distanza da ciapi non vogliono rischiare niente e anche perché sanno che insomma qua non si scherza e soprattutto perché potenzialmente con la doppia da ciapi vincerebbero già il set eh sì ragazzi non è non è facile no qua ciapi si tiene la ulti non tenta la giocata quella quella unica però adesso parte con un buon vantaggio sì qua diciamo che Team Tribe ha la possibilità di andare a fare quel punto che li porta almeno in parità su queste set hanno tentato il predict ma dall'altra parte è eccessivo molto molto eccessivo 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 hanno tentato un predict incredibile ah qua c'è Kuru col grab attenzione a Kuru eh e Dregge potrebbe essere a rischio mamma mia ha rischiato veramente tanto ragazzi ha sfiorato il palloncino attenzione l'NA sempre con tante hit prova scudato anche qua in formazione a carro armato supera i 10.000 di vita per un attimo ragazzi ma guarda che continuano a sparare ma Kuru continua a bombardare lo scudo l'NA va giù l'NA va giù Tensai e a Ciappi sono gli ultimi rimasti ma giù anche a Ciappi Tensai è l'ultimo attenzione qua il drive che potrebbero andare a recuperare qualcosina finalmente attenzione Tensai è lì sull'orlo del Baratro ci pensa Dregge con la ulti senza proprio nessuna non lascia nessuno spazio ragazzi mamma mia hanno recuperato hanno recuperato magari quel predict fallito malamente purtroppo che poi per assurdo è stato bellissimo perché si sono proprio divisi entrambi tre da una parte e tre dall'altra è stato spettacolare diciamo che questo scontro comunque si vede che per i tribe è diventato bello complicato perché abbiamo praticamente i tribe che sono passati da ieri dove si sono sfidati con gli Zest sono passati subito a questo scontro contro il team degli Z proprio un salto di qualità pazzesco ragazzi diciamo che la difficoltà è aumentata esponenzialmente vediamo qua subito uno dei tre del team Z andare giù e lascia in inferiorità numerica il suo team di conseguenza tribe potrebbe mettere un primo pallino blu sul tabellone hanno la possibilità di andare sul set point se dovessero sfruttare bene questa situazione qua molto bravo l'enacch va a utilizzare l'ultimo e ci sfoggia anche il pin che viene di cui parleremo di cui parleremo meglio perché insomma Kuro qua direttamente decide di rientrare non lasciare spazio ha provato magari con l'ultima hit a caricarsi un pochino di più il grab ma attenzione a questi tribe ragazzi sul set point vediamo vediamo potrebbero fare un bel come back non l'avevo nemmeno visto a Ciapi che si era inserito praticamente nel cappello di Kuro entrambi gialli me l'ero un attimo perso vediamo ragazzi è comunque tanta roba tutto il team Z è molto schiacciato c'è l'enacch è molto pericoloso con la ulti dall'altra parte Tom che mantiene la pressione vediamo vediamo Kuro che ovviamente deve caricarsi il grab prima possibile eccolo è l'ultima hit mancava preciso attenzione Tensai che one shot va giù Tensai ragazzi è qua e la situazione inizia a pendere tanto verso la parte dei tribe che purtroppo non riescono a sfruttare quella ulti di Yves Yves che comunque devo dirtelo è stato un po' il pick più esotico di questo scontro prova a salvare il compagno l'enac non ce la fa diventa un 2v2 lo scontro ma oltretutto sono riusciti a sparare in uno spiraglio proprio si l'hanno preso proprio per i capelli e per il capello anzi e l'hanno chillato veramente con tantissimi danni fa la stessa cosa con l'enac non ce la fanno è disattivato va giù va giù mamma mia cosa fa Kuro gli Z che si alzano dietro i tribe a far festa quelli lì che sono andati a fare Z in mezzo ai tribe hanno un bel coraggio comunque ragazzi mamma mia che cosa hai pensato dobbiamo tornare a casa e qua veramente si dimostra il fatto che Kuro e gli altri due player che sono stati affancati a Sidetampo durante cioè nella Z Division One se non sbaglio Kenji e Mojagoku sono comunque player deni di nota sono altrettanto insomma schillati se così vogliamo dire nel frattempo ragazzi si riparte con questo questo scontro che sembra giocarsi tutto a destra nello stretta proprio si ma spettacolare che poi sul finale dell'altro guarda Kuro con quel grab quanta vuole c'è di prendere Drage Drage poveretto viene veramente lo va a prendere mamma mia Elena ha disattivato e va giù mamma mia ma Aciapi Aciapi con Otis è qualcosa di impressionante ragazzi che come back io non so se hai visto Ferre nel finale della partita precedente il dot di Aciapi era arrivato cioè ha messo anche il dot ha aiutato il suo compagno che poi Kuro ha fatto la doppia leggendare ma uno dei due aveva il dot cioè lui riesce a mettere sti colpi impressionanti però nonostante il dot si è riservato di colpire prima il Buster perché comunque il Buster era quello che faceva più danni cioè è assurdo come situazioni molto complesse vengono gestite molto bene in spirali di tempo molto corti cioè questo che è assurdo hanno una capacità cioè hanno una riflessione e dei riflessi perché sono due cose diverse che è impressionante sì hai detto bene una riflessione e dei riflessi veramente impressionanti ed è per questo che ragazzi in chat io vi ricordo che state veramente vedendo uno spettacolo assurdo cioè questo è il mondiale di Brawl Stars questo è il momento più alto dell'anno del competitive e di questo gioco perché ragazzi questo sembra veramente un altro gioco rispetto a quello che vediamo tutti i giorni sui nostri canali social qua siamo a livello massimo indipendentemente da quello che uno possa portare tra push ladder ma anche solo spectre di tornei qua il livello si è alzato tantissimo ah piccola curiosità tornando a quello che ha detto Inso questa cosa succede anche che il livello si alza esponenzialmente perché giustamente tanti team non possono scrimmare uno contro l'altro anche per i problemi della distanza sì e dei server esatto esatto tra lag e tutto non si può scrimmare durante l'anno per esempio prendiamone due che stanno combattendo in questo momento Trib Gaming EU non può fare scrim regolari con Z di Vision Zero anche per la distanza e come dicevi giustamente tu per i server sì e poi arriva il momento del mondiale che è un po' il momento della verità sempre no si inglobano tutti i meta come ha detto anche Inso perché giustamente qua poi non si parla più di meta europeo cos'è forte in Europa cos'è forte in Giappone o d'altre parti si ingloba tutto e vengono fuori veramente i veri blower più forti del gioco le vere combo più forti del gioco eh sì veramente ragazzi è qualcosa di assurdo comunque a questo punto andiamo al terzo set ragazzi che potrebbe effettivamente essere l'ultimo però se continuano così cioè la paura c'è Dani abbiamo già annunciato un paio di volte che potrebbe essere un 3 a 0 e ci hanno sempre smentito per fortuna non so se qua però Z di Vision si è tanto d'accordo qua il 3 a 0 ci potrebbe stare per come stanno giocando perché la differenza è importante io vi ricordo un pochettino quello che è stato il diciamo il passato di questi team giustamente in chat ci dicono gufate un po' sti Z perché qua sono infermabili avete ragione bisogna gufargli un po' questi Z che sicuramente vinceranno lo scontro e prenderanno sicuramente questo terzo set esatto con un 2 a 0 lo prenderanno un 3 a 0 netto insomma abbiamo a parte gli scherzi ragazzi pensate gli Z come hanno giocato ieri ieri anzi nella seconda giornata hanno fatto lo scontro più sofferto esatto hanno giocato contro i Chasma Gaming Brasil hanno rischiato di perdere con un 3 a 2 all'ultimo l'hanno spuntata e poi c'è stata anche quella interruzione dell'iPad c'è stato c'è stato un po' di tutto c'è stato quel momento però è assurdo che questi che questi team riescano una mossa sorpresa nel mio collega caster che mi attiva faccio cose sono rimasto grazie scusate ragazzi un attimino ho fatto un effetto speciale Daniele sono rimasto mi vede operare nella regia che stiamo gestendo comunque magari che poi a fine live me lo dimentico prima di partire con il draft ti interrompo un secondo ragazzi complimenti a Ferre voi non avete visto il lavoro dietro le quinte di questo uomo ha creato delle grafiche in questi giorni ha sistemato praticamente senza senza togliere qualche merito a me ma almeno il 90% di quello che avete visto l'ha creato tutto e sistemato tutto Ferre beh oddio comunque c'è una regia dietro che fa il 90% diciamo a parte il setup con monitor cam che quello per noi era impossibile da sistemare perché giustamente veniamo da un altro stato e io di contro dico che Daniele sicuramente è stato il terzo anche il quarto e anche il quinto occhio che non ho per ragioni insomma legate a madre natura perché tutte le cose che sfuggivano lui le aveva sempre sotto controllo chat aggiornamenti tutta la nostra schedule praticamente l'ha gestita lui praticamente non siamo stati fermi un secondo in questi in questi in questi giorni perché in realtà c'è stato molto più del semplice casting e veramente io ero sempre in ritardo e lui invece era sempre puntualissimo sempre gestito tutto alla perfezione quindi te la restituisco così ecco grazie stanno scendendo delle lacrime virili a entrambi assolutamente assolutamente ragazzi ragazzi abbiamo detto come hanno giocato le Z Division Zero e abbiamo e abbiamo guardiamo anche al volo come hanno giocato i Tribe Gaming ovvero hanno vinto 3-0 ieri contro le Zest per chi non lo per chi non lo sapeste per le jersey ok e l'orario ah ok e bisogna no 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 ho detto poi vediamo vediamo cosa abbiamo mandato la ok ok no perché ci dicono che tra l'altro c'è una poi ne parleremo ti ricordi ma sono stati avvisati non lo sapeva ah addirittura ci è arrivata la risposta ok 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 comunque nel frattempo ragazzi abbiamo ufficialmente tutto il il draft completo i banner li vedete i pick altrettanto sono rispettivamente una Ems un Gale e un Ash in risposta a una Janet che viene cambiata viene data attenzione un Carl e un Barley siamo in Sneaky Field Barley sulla lane dell'Ash ma in che senso ma in che senso Barley sulla lane dell'Ash scusatemi Quadrage può avanzare però attenzione perché viene gestito viene gestito parecchio viene gestito ma guardate guardate gli ZZero ragazzi che qua cominciano un attimo il Barley che va a far gol cioè mi mancava qua iniziano un attimo a dosare che non stiamo prendendo mentre signori oscuri fanno cose oscure vediamo che sono stati cambiati i colori ecco eh sì no comunque nel frattempo ragazzi ma è tripla ulti per il team ZZero hanno sempre l'ulti pronto ecco il commento che c'è stato prima da parte di Sparks visto che tu mi hai parlato dei commenti di Sparks mi diceva se ci fate caso gli ZZero hanno sempre l'ulti pronto anzi si tratta un po' che ha sempre l'ulti pronto la usava e ce l'abbiamo sempre così qua Ciappi fa un bel inserimento posso dire che la cosa che noto è che purtroppo perché vabbè Z sono contro un team europeo perciò è un purtroppo questa partita qua ce l'hanno in pugno eh sì mi sembrano mi sembrano veramente in controllo non al 100% quello che viene dopo eh sì qua si nota e i tribe ragazzi c'è da dire che comunque sia avevano chiuso la la Brawl Stars Championship come top team con 894 punti erano il primo team su sei delle slot riservate all'Europa cioè guardate la gestione in questo caso cioè sono lì non fanno passare nessuno non hanno ansia di segnare e stanno stanno aspettando cioè stanno letteralmente aspettando però poi vorrei vedere Kuru a campo aperto cosa combinerà anche se non sembrano impensierite da questa cosa eh ragazzi sì io continuo a guardare questo Barley contro Ash che sta dominando tutto lui ma dall'altra parte in realtà potremmo anche soffermarci sul Karl che sta dominando contro il Gale esatto qua le NAP può provare lo stun ma è talmente lontano che farebbe tempo farebbe in tempo a finire l'effetto e guardiamo un po' ora in campo aperto come avranno deciso di approcciare sia i Tribe che i Z la ultima di Lena potrebbe trovare la kill doppia ulti di Lena non riesce a trovare la kill e non riesce a trovare nemmeno Tensai non ci arriva Dregi senza palla non riesce a carare occasioni ah arriva Tom con la palla attenzione e ora si giocano il tutto per tutto arriva la ulti viene killato però Tensai arriva arriva un'altra kill c'è Dregi Dregi non sbaglia ragazzi 2v1 bravissimo Dregi riesce a prendere il gol su questi Z ma con una fatica devastante è forte è veramente è veramente sfiancante ragazzi devono giocarsela proprio fino all'ultimo ma bellissimo il gol anche perché è riuscito a fare la finta a due player non a uno solo ne ha mandati due a casa mamma mia ragazzi veramente però a questo punto mi sa che Z ha trovato un attimo bellissimo gol di Dregi sì assolutamente con Ash e oltretutto era l'unico brawler che poteva fare una roba del genere anche perché ha tanta vita ha potuto reggere un attimo qualche colpo in più sì 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 ma era contro due comunque e poi una perla incredibile perché ha beccato quell'angolino o quasi angolino insomma a sinistra dove nessuno del team ZZ è riuscito ad arrivare guarda Kuru qua cosa si inventa cosa si inventa riesce in mezzo tu a resistere usando il suo gadget del rallentamento una ulti anche su Lena guarda come ma cosa va a fare Kuru ragazzi è ancora ancora ragazzi però tra i mamma mia non ne passa uno non ne passa uno e non ne passa uno però se continuano così potrete fare il replay della partita precedente anche perché Z devono segnare prima del del voglio vedere voglio vedere il DPS a fine partita e Kuru ha già il DPS più alto adesso cioè perché voi ragazzi guardate il DPS ma guardate anche con che brawler poi sono stati fatti cioè guardalo rallentamento e giù torte alla frutta mamma mia ragazzi stanno avendo una gestione del campo impressionante però attenzione perché anche i tribe ci sono fanno veramente tanta fatica però resistono la partita precedente è stata non so una partita di logoramento Z sta cercando di logorare in tutte le maniere tribe e però Drage è riuscito a sfoderare una perla impressionante eh ragazzi sì tanta tanta roba veramente eh guardalo Drage giustamente in difficoltà addirittura Kuru gli salta addosso gli salta addosso con Barley cioè io non ho mai visto un Barley killare così un Ashe ma soprattutto Barley su campetti incolto non si vede tanto spesso soprattutto se poi hai anche come matchup Ashe contro insomma veramente pazzesco ragazzi cioè sembra veramente che a sto punto qualsiasi brawler mettano sì possono usare un po' quello che vogliono Z Z division zero mi ha sempre dato l'idea di essere quel team un pochettino più scarso dei due no eh però attenzione qua c'è il push da Chapp eh guarda guarda che hanno viene killato molto bene l'occasione per Drage per tirare no ma viene killato eh guarda Tensai ma Tensai senza gear del danno comunque qua scommetti che hanno usano tantissimo il gear del recupero della vita loro sì ma io ho visto qualche scream loro mi sono informato anche perché insomma Tensai è un personaggio pubblico e hanno usano tantissimo velocità e visione come combo di gear non so se anche in questo caso è così ma guarda come avanzano minacciosi al momento Tribe stanno riusciando qua il pubblico tra l'altro è emozionatissimo cioè pubblico veramente colpito sul collo è quella lì è una dei content creator ah che poi te ti sei perso c'è Kairos vestito da Edgar gli hanno messo anche il scusate l'ignoranza cos'è il mascara intorno agli occhi ma dove è passato ma dove è passato ma sotto guardalo guardalo Kairos no non ci credo è il cosplay di Edgar gli hanno messo anche il mascara le maniche pure le maniche decisamente corte fantastico fantastico ma io sono un attimo rimasto ma Kuru dov'è che l'ha fatta passare c'era un altro spazio che noi non avevamo visto io ragazzi non ho parole diciamo che Kuru probabilmente gli è rimasto un attimo di traverso il tiro di direggio di prima gli ha detto ti restituisco tutto quello che ci hai dato con gli interessi e qua ragazzi se Traibera sul set point adesso Z è sul match point e guarda Kuru qua c'è il tiro c'è ragazzi il bombardino il bombardino che si svincola prendendo la kill e segna mind blowing mamma mia ragazzi mamma mia ragazzi ma cosa stanno cosa stanno facendo questi questi Z la porta più larga per il Giappone palesemente esatto gli hanno allargato la porta ragazzi non ha avuto senso attenzione però Dreij che vuole un attimo riscattarsi prende una bella kill e mantiene anche la furia c'è solo Aciap Aciapi che prova proprio una giocata personale però mi sa che questa gli costa l'uno a uno un po' eccessiva riesco a gestire bene qua i tribe vanno sull'uno pari ragazzi e qua si gioca il tutto per tutto ancora una volta diciamo che qua tribe sono veramente con l'ultima spiaggia attenzione però ormai si giocano tutto ragazzi però guarda che comunque mamma mia Dreij si prendeva la palla attenzione il gol e arriva e arriva e riescono a fare questo set finalmente mamma mia ragazzi attenzione ce l'hanno fatta che sudata ma guarda che comunque 3-0 non lo vediamo neanche oggi neanche in questo match no no impressionante ma sto set di foot è stato qualcosa di senza senso e comunque tribe hanno dovuto fare la loro miglior performance possibile immaginabile contro un bombardino si 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 assolutamente hanno dovuto inventarsi l'impossibile non ho mai visto un bombardino gestire qua riguardiamo il gol di Dreij bella finta bella è davvero un gol incredibile o no ci chiede il sito eh sì direi di sì direi abbastanza direi abbastanza qua cos'è l'azione ah qua c'è il ah ma non avevo visto il passaggio di sponda ma che cacchio di gol hanno fatto non l'avevo visto completo di sponda proprio poteva quasi far gol volendo e invece è comunque tirato ha fatto comunque il passaggio ma è un capolavoro è un capolavoro ragazzi ma in che senso ma che cacchio era comunque qua bellissimo anche il comeback di tribe allucinante non ho parole vabbè ragazzi z su un altro pianeta non c'è niente da fare ah è già arrivato abbiamo l'ospite abbiamo l'ospite pronto sì sì però dovrò aspettare ancora un set perché ecco almeno un set almeno un set qua ragazzi sembra veramente complicato no no vi assicuro ragazzi perché qua dice voleva segnare ma ha sbagliato 21 kill tensai hai visto hai visto 21 kill sono non mi sentite ragazzi perché sono senza parole manco su code fai 21 kill esatto è un qualcosa di incredibile incredibile 21 kill ma cos'è 21 kill ma poi 21 kill con quale brawler cioè dici non lo so ora non mi venerebbe nemmeno in mente ma magari con una piper magari cioè sono quei brawler magari con un con un carl ah per esempio anche come ha fatto si detampo un carl usato in quella maniera lì può fare tante ma poi ti vedi le statistiche bombardino contro 21 kill già lì il bombardino era curu mi sa ah è vero allora aspetta era usava allora non la genet la genet mi sembra genet ragazzi mi confermate era era barley no genet era ragazzi chi è che ha avuto le 21 kill no no usava genet si si genet me lo confermo in chat no no barley era curu sono abbastanza sicuro e avete avete visto i danni i danni di curu però ah è vero il dps il dps di curu il dps di curu l'avete visto ragazzi tornate dietro con la line esatto 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 ditecelo per favore perché mi è sfuggito più di 330 330 danni mamma mia cioè c'aveva Ash su cui ne poteva fare di danni però mamma mia no ma statistiche hanno perso l'izeta questo set ma con con una performance che ha lasciato tutto il mondo a bocca aperta letteralmente ed ecco l'onrico che arriva per i tribe come terzo pick dopo aver preso Stu il suo counter forse più temibile ma in hard rock mine non era ancora stato piccato ricco ma come si fa ma come si fa a non mettere ricco in hard rock mine e qua poi se no il signor ferre mi si offende e arriva il pocio io ragazzi non vedo come possano vincere l'izeta così però ci hanno ricco dai ma posso dire che da quando sono sul 2-0 la esoticità delle comp è aumentata esponenzialmente per l'izeta e io non vorrei che fosse come un discorso che abbiamo già fatto anche al tavolino che li stanno un po' facendo ballare ma ma si dicono cioè non vedono non vedono il set come un qualcosa che magari rischiano di andare in parità ma come una cosa per testare esatto loro sono in scream in questo momento non vorrei che fosse così io non lo so non lo so hanno comunque un livello mostruoso no ma dai ragazzi come fanno a battere ricco lì scusatemi ricco sta dietro il muro spara killa dai per favore non me lo riesco a immaginare hanno anche stue i tribe e hanno pure preso il counter anche pocio contro stue cioè poi lo usa tom non è che tom ha installato Brawl Stars ieri cioè ragazzi dai per favore non esiste questa cosa che ricco qua perde tribe gaming mi raccomando tribe sul 2-2 punto cioè non ci sono altre cose ragazzi vediamo vediamo Kuro comunque un po' in difficoltà dall'attacco di tom sulla destra arriva l'aiuto di Lena tom riesce comunque con Lena andare a killare deve stare attento Tensai perché si sta a Ciappi sta un po' prendendo troppo dove va a mettere il mortaio dove lo mette il mortaio e lì non lo toglie nessuno ha messo il mortaio in bagno praticamente ci l'ha messo in casa sul tente guarda mette pure il barile un abuso edilizio cioè guarda e ancora e ancora ma cosa sta facendo a Ciappi sta alzando il livello del suo team cioè si sta proprio portando tantissimo e guarda guarda che pressione che è riuscito a mettere ma sono giocate di un livello impressionante e Kuro no beh qua l'ulti di Tom un po' più via eh no e guarda Kuro no ma veramente cioè qua posso dire che a Ciappi forse ha fatto una delle carriate più grosse c'è dove ha messo il mortaio ha fatto tutto lui cioè ha carriato un intero team perché ragazzi non so se avete capito quello che effettivamente c'è la complessità di quello che è appena successo uno da solo ha alzato il livello di un team che stava pushando li ha abbassati sì li ha portati tutti in base e di conseguenza poi il suo team ha cominciato no il contropush e gli ha fatto riprendere campo uno da solo però ha fatto tutta questa cosa ha preso tutta la lane sua ha cominciato poi ad allargarsi sul mid e questo fa anche capire quanto sia importante il lavoro di ogni singola lane ragazzi bella qua la kill di Lena qua Lena ha un po' di astio contro contro quel pocio sono costretti a fare un cambio lane a mandare Tom con Rico sulla Penny non vogliono che passi più a Ciapi cioè Ciapi deve rimanere in base sua forse è una buona idea il cambio lane anche se lo spot di Rico lì è un po' sprecato però riesce a tenere meglio guarda guarda Lena che comunque fa veramente tanta difficoltà appena Kuro inizia il ciclo di ulti appena Kuro inizia a curare e guarda Drage poverino che non riesce a tenere prende le gemme pure ma guarda ma cosa stava facendo ma lo sai che ora io un attimo ragazzi perché sono curioso ma sono quasi sicuro al 100% ora io voglio vedere la prossima hit che prende Kuro perché se c'ha la ulti vuol dire che aveva già programmato tutto c'aveva la ulti era l'ultima hit se metteva se metteva una hit tornava in base sì sì ma ti sicurava e tornava ma sono senza senso questi ragazzi vabbè qua riescono a tirare giù Rico ma sono vero non hanno un senso ragazzi hanno un livello impressionante hanno una coordinazione una gestione della partita assurda che comunque i Tribe stanno veramente cercando il tutto per tutto l'enacqua purtroppo viene preso Kuro ancora l'avanzata voleva provare a togliere la torretta ma non riesce per questioni di tempo ragazzi qua serve veramente una ripartenza a parte di Team Tribe perché questo ricordiamo è il match point eh ma guardalo Kuro e ragazzi qua c'è totalmente da solo in mid Tensai con 10 gemme può anzi addirittura 14 grazie anche guarda Tom ma cosa stanno facendo vanno in spawn degli avversari vanno in spawn degli avversari a chiudere il match ma scusa ma i rossi non giocano sopra in genere ma cosa è successo ragazzi le Z Division Zero vanno a vincere contro i Tribe in una maniera assurda se vieni schiacciato in base cosa fai vai nella base degli avversari che è libera 7000 IQ un livello oltre vi rendete conto di cosa abbiamo visto cioè sono andati a chiudere la partita nello spawn degli avversari e ricordiamo loro giocano senza coach tutto fatto da soli ma non hanno un senso cioè ora io non vorrei essere esagerato che dite fate troppe complimenti a Z ma dove le vedete queste cose ma chi le fa chi le fa lo spin era evitabile però in effetti lo spin era evitabile ma immaginatevi voi in un quarto di finale finire in base avversaria con tutte le gemme sul match point insomma un po' particolare ragazzi se la finale è Z Division Zero contro Z Division One ma se giocano così chi è che può fermarli è la domanda io a sto punto qua ci chiedono di votare il miglior vabbè ma tra loro è impossibile votarne uno io ho scelto lui anche se in realtà chi ha votato ho votato anch'io ma perché mi è piaciuto tanto però in realtà non sai prima quando ho fatto quelle 21 kill cioè veramente 21 kill qua di nuovo Kuro con 8 kill questo questo è il pocio eh quello è il pocio cioè Kuro è il pocio e allora io a questo punto Ferri vado un attimo in break che dici eh sì perché adesso è il turno del prossimo ospite ragazzi che è già pronto Dani lo è andato a ritirare e adesso vi parleremo di ritirare di persona il delivero dei content creator è un personaggio che ho avuto modo di conoscere di persona per la prima volta qua a Parigi e in realtà lo conoscevamo già da parecchio tempo non è probabilmente uno youtuber in realtà è molto di più e lo presentiamo lo ripresentiamo perché in realtà è già apparso in questi giorni ragazzi ecco voi il buon Franci Artist salve buongiorno Franci come va tutto bene tutto a posto hai visto questo mondiale o io tutto è grande cioè questo è proprio il mio paradiso praticamente sì infatti ti vedo molto a tuo agio ma mi piace è la prima volta che vedo streamer italiani col setup con i tre monitor e c'è tipo un'emozione no perché io ti vedo sempre da Twitch piace dallo schermo ok quindi è fico è molto fico sì tanti schermi tanti stream deck ipad tre schermi sì sì c'è tutto abbiamo più più ipad che schermi tra un po' ma al di là dell'alber l'emozione che ci sta trasmettendo questi schermi pazzesca perché guarda qua che bracket che c'è lo facciamo rivedere un attimo la situazione attuale due team z ai semi in semifinale e tribe nordamerica l'ultimo team no no il penultimo team nordamericano e l'ultimo team europeo è rimasto gli SK che dovranno andare a giocarsi la partita per andare contro le Z ma io ti ho fatto venire qua perché so che insomma tu hai veramente ti sei veramente sviluppato in una in una direzione completamente diversa da noi altri content creator tu lo dice il nome sei un artista sì e sei un artista delle skin esatto sono partito a fare fan art cinque anni fa in beta mi pare a giugno che era anche il mio compleanno ero hype pazzesco per blowstars ok e l'ho scaricato mi ricordo che c'erano 15 brawler 15 brawler ora ce ne sono tipo quasi 70 quasi siamo più sui 60 adesso però abbiamo 63 però ne abbiamo superati sì siamo sui 61 quindi più o meno siamo lì sì però siamo giustamente sono quadruplicati da sì 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 tantissimo content però ha detto 63 non è che magari sa già qualche cosa no 60 62 non lo so vabbè una cosa è certa i brawler saranno sempre di più i competitive sarà sempre più complesso ogni anno lo spettacolo è più incredibile ma l'altro giorno tu mi raccontavi hai raccontato qua poi mi hai raccontato anche in privato perché abbiamo avuto anche il piacere di mangiare insieme che insomma tu disegni skin e mi hai raccontato un sacco di aneddoti interessanti e quindi volevo chiederti una skin che hai disegnato e un aneddoto interessante su quest'ultimo l'altro giorno hai parlato di Mr. P se non sbaglio sì con player che gli piace tanto il concept di Mr. P gli piace proprio Mr. P sì sì anche a me mi piacciono per le sopracciglia molto mi ricordo Doraemon ah ok molto fico ecco no un bel aneddoto che posso raccontare è che appunto faccio skin da tanto tempo quindi i brawler posso praticamente disegnare l'occhio nudo e bendato ok proprio con sai la muscle memory ah ok ecco posso disegnare crow spike qualsiasi brawler bendato ok è un lato positivo il lato negativo è che non ce ne sono non ce ne sono lati negativi ah ok è troppo bello ok che bella risposta che bella no 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 però sì una cosa bella che magari può interessare al pubblico qua che saluto ragazzi vi voglio un salutone no che in pratica ogni brawler ha fondamentalmente 3-4 IP che lo distingue ok quindi ti faccio tipo una domanda tu se pensi a Colt cos'è che distingue Colt da tutti gli altri brawler le pistole ok le pistole che sono due ok ha lo stile texano il capello il capello il capello il capello ok le pistole e e basta ce ne sono due tre comunque si aggiungono insomma intorno a quel numero là ok ma è molto importante se magari qualcuno ha piacere disegnare nel pubblico ci sono quei due o tre punti che non devono mai cambiare per fare le skin ho imparato che ogni brawler appunto ha i suoi punti di forza quindi su Shelly quando devi fare una skin di Shelly sono importantissimi i capelli ok se vai a vedere su Brawl Stars ti guardi le skin che hai ogni skin di Shelly ha comunque un aspetto caratteristico nei capelli nelle si che poi non vuol dire che devi tenerli li puoi anche stravolgere esatto li puoi stravolgere ma bisogna ricordarsi appunto che non bisogna stravolgerlo troppo il concept se no il giocatore che gioca a Brawler deve capire contro che conto e però si fratti anche Colette deve avere sempre qualcosa su cui scrivere ok lei è ossessionata con i Brawler ok e deve sempre avere come dire una parte del viso nascosto ah ok kotara non può mai far vedere la faccia e Penny invece? Penny deve avere sempre la torretta ok una cosa e adesso con il nuovo remodellamento perché io pensavo all'ultima all'ultima Penny quella diciamo col porcione che è molto molto diversa questi punti sono stati proprio tirati molto sbaglio infatti in gioco comunque c'è un oggetto che spara un proiettile quindi può essere collegato al mortaio però appunto Penny adesso con il nuovo remodel deve comprire una parte della faccia con qualcosa quindi questa skin qua del pass è coperta con una bandana mi pare quindi sono interessante ma tu hai seguito il design di tutte le skin o ce n'è proprio qualcuna in particolare su cui proprio tu hai fatto magari tutto altre invece allora tante volte scusa se ti interrompo ma c'è una domanda sul sito se riesco a dare la risposta velocissima ragazzi la risposta era il procione tra l'altro perché parlavamo di Penny il procione era la risposta attenzione quella è il compagno di avventura di Penny signora dei procioni vabbè comunque scusa se ti interrompo continua tranquillo in pratica cos'è che stavamo parlando non mi ricordo allora avevamo appunto appena parlato della skin di Penny sì e ti avevo chiesto però il tuo lavori ha le skin tutte nel senso hai un'idea di tutte le skin oppure ci sono proprio certe skin su cui vai a lavorare parecchio in pratica sì allora tanto nel frattempo lasciamo vedere l'ingresso di solito appunto ricevo uno schema dove c'è Supercell che chiede quali sono i brawler più usati quali sono i brawler che hanno bisogno di skin per esempio in questo momento Nani e Ambra non hanno niente capito quindi è molto probabile che ricevano qualcosa in futuro capito ogni brawler c'è questa cosa che cercano sì perché appunto se il tuo brawler preferito è Ambra o Nani vuoi avere una skin capito esatto quindi sì hanno anche questa priorità però appunto per esempio un altro aneddoto che magari non sapevate è che per i brawl pass tendono sempre ad utilizzare brawler normali o appunto della Trophy Road ok perché non possono andare troppo oltre perché è il primo tier ed è gratis quindi non possono mettere un hash sì ok non possono fare un leggendario quindi c'è sempre poco c'è sempre Carl Rosa magari sai sì sì quindi usano brawler appunto di rarità bassa perché così appunto non non si sbloccano quelli sai super leggendari se no no che che figata c'è anche questa ragazzi è una cosa che sì ora che me lo dici ci ho sempre fatto caso ma non l'avevo mai però posso dire io vorrei un pass dove sai ci sono tipo 60 brawler abbiamo detto no che ti costa Supercell mettere un epico al tier 1 tipo una piper sarebbe carino magari mettere mettere una skin come decide magari di un brawler un po' più raro magari con anche il brawler perché non ce l'ha ma perché io mi ricordo adesso i cromatici la parola cromatico è molto bella però ricordiamoci che season adesso è leggendaria la prossima è mitica e poi diventa epica quindi non sono più rari come sai adesso sì 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 quindi ci sono tantissime epiche in questo momento nel gioco assolutamente sono un sacco di ragionamenti interessanti ti chiedo però l'ultimo aneddoto perché poi c'è di nuovo il change yes non lo so non lo sai allora ti faccio una domanda scusa allora ti dico la skin che hai disegnato almeno una delle skin che hai disegnato che ti è piaciuta di più o che comunque ti è piaciuta particolarmente allora proprio dici questa qua l'ho fatta io e mi piace proprio sì allora mi aveva già chiesto player ieri ed è Coral Bell però posso dite un'altra perché mi è venuta così in pratica è la skin di Colette della Power League di adesso oh bella quella conduttrice di treni mi pare che sia la traduzione in italiano ok e che l'ho preso a me piace tantissimo come ho detto il Giappone e la Cina anime e proprio 2D e quindi assorbo tanto la cultura giapponese tanti stili diversi e quindi mi è piaciuto molto fare quella skin là perché ed è molto bella l'hanno usata gli Z1 prima sì infatti una cosa fighissima come ho detto è vedere i pro player alle finali mondiali che usano la mia skin capito che figata quindi spero eh non lo so però sarebbe bello vedere gli Z usare ancora la mia skin perché è tanta roba gli piace gli piace hanno usato Penny e Colette quindi molto fico non sarebbe male non sarebbe male comunque direi che ci siamo il Dani è pronto sono appena cominciati i draft ti mandiamo ancora un salutone vatti dare anche un abbraccio grazie l'Italia purtroppo ci ha abbandonato ma qua si continua io ho perso la voce continuavo a urlare con i reply totem però sono stati una bomba sono stati davvero bravi quindi grandi reply totem vi stimo ragazzi mandiamo ancora un saluto a totem e nel frattempo mentre Dani arriva io vi comincio a lanciare i ban e i pick ragazzi i ban per quanto riguarda il team dei tribe sono la buona Janet Semino e Buster mentre per quanto riguarda i nostri carissimi SK abbiamo Carl Penny e Piper ragazzi il primo pick arriva proprio dal team tedesco e dal player tedesco Saimantec che va a mettere un tick in tutta risposta iniziano il doppio pick i tribe nel frattempo si è anche riunito a noi Daniele eccomi ciao ragazzi allora com'è stata la compagnia di Franci sempre squisita poi mi racconterai se c'è stata qualche indiscrezione nel mentre vediamo tribe NA che va al suo doppio pick di questo draft il primo è subito un gin ora vedremo il secondo che arriverà tra poco io non posso non posso non dire prima di cominciare questa partita guardalo Franci che è passato eccolo eccolo Franci grandissimo grazie ancora per la tua disponibilità ma non posso non rispolverare un pochettino i vecchi attriti di questi due team perché qua abbiamo veramente se ci sono due team Dani che sono veramente rivali possiamo dire rivali ce li abbiamo qua pensate l'anno scorso dopo un anno di supremazia degli SK al primo round del mondiale hanno incontrato i tribe e i tribe gaming Nord America li hanno battuti e da lì è nato il delirio poi non so se ti ricordi nel mid season che c'è stata bravo volevo arrivare lì l'esplosione di Aikaos dopo diciamo qualche dissing che vabbè in competitive succede di un video di tribe in cui avevano messo SK nel tier più basso proprio come dire questi gli ultimi ovviamente nel mid season SK risultato trionfante ed Aikaos insomma dato sfoggio al meglio ha detto chi è il team più scarso adesso ci mette anche un ricco proprio lo voglio vincere subito ragazzi l'ho nominato Aikaos riscatto SK è cominciato e oltretutto nominando Aikaos a Parzorico coincidenze non credo oltretutto in questo caso SK menzione d'onore perché accanto a noi ci sono proprio i cast infatti adesso cominciamo a dire SK da questo momento in poi chiameremo il team SK perché SK è un'italianizzazione se no passano accanto e poi ci bastonano noi ragazzi adesso adesso non facciamo i furbi perché qua la comp è tanta roba dalla parte dei tre di Nord America Gene Raf e Brock sì oltretutto ultimo team europeo ragazzi rimasto in ballo lo dicevo prima lo dicevo prima e invece il team dalla parte dell'SK il team dalla parte di SK in che senso che proprio proprio comp ok Otis Tik e ovviamente il rico che abbiamo visto giustamente utilizzato da uno dei migliori se non il migliore che abbiamo in Europa ovvero il buone Chaos esatto e subito molto aggressivi anche mi sembra di vedere sì ragazzi molto aggressivi anche con le rotture hanno subito cercato di togliere un po' di spot ma anzi stanno continuando a togliere degli spot ma sono sull'1-0 e non so quanto questo li possa aiutare insomma mettere in posizione di vantaggio guarda i Chaos che addirittura sfoderano molti da tutto campo aperto e non è che insomma abbia sostito effetti così tanto positivi dall'altra parte c'è Zuland che potrebbe benissimo con un grab rivaltare la partita anche perché basta semplicemente una kill per cambiare tutto eh sì ragazzi soprattutto guarda qua Tyrant come va a muoversi veramente bene tra l'altro farei notare veramente il grab di Zuland farei vedere però veramente Tyrant contro i Chaos proprio la lane più calda più calda di questo mondiale ma io non so se hai visto la chicchettina Zuland che ha messo il pin col cuore appena ha preso il grab qua c'è un dissing qua diciamo che un po' di attrito c'è fra entrambi team chi la spunterà ovviamente l'esultanza sarà penso molto plateale eh sì qua c'è tanta 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 competizione ragazzi speriamo che rimanga sana la ulti di Aikaos che non riesce a trovare la kill su Zuland ragazzi mamma mia attenzione la kill ancora devono trovare è arrivata un'altra kill importante devono trovare gli eschei una kill adesso ma è arrivata anche la kill su Aikaos vengono totalmente cambeccati in difesa ai Caos sono andati giù qua i tribe è andato ultimo team tribe è rimasto in campo tra l'altro ricordiamo anche per questi player insomma la situazione anche perché pure per loro poteva succedere l'apoteosi ovvero due team tribe contro diciamo che ormai questa opzione non c'è più e addirittura insomma rischiano poi vedremo come andrà questo sconto rischiano di non metterci nemmeno uno in semifinale eh sì esatto ragazzi qua bisogna vedere un attimino come si svilupperà lo scontro ma è sicuramente molto molto interessante per tantissimi aspetti come avrete sicuramente capito qua vediamo subito Aikaos un po' in difficoltà anche Symantec one shot Tyrant non riesce a prendere la kill di pochissimo attenzione a Ezlevi che rompe tutto e qua apre Symantec one shot e va giù qua era veramente troppo esposto e il grab su Aikaos anche era la doppia ragazzi qua Tribe con una comp veramente buona Tribe Nord America che mi sembrano anche più più forti rispetto a rispetto all'ultima volta che li ho visti si sono si sono trasformate comunque ti ricordo le parole di Inzo che quando ovviamente gli ho chiesto il pronostico lui ha detto i Tribe NA tra i BNA sono veramente forti si 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 è qua purtroppo Aikaos con Rico counterato direi alla grande anche perché è costretto ogni volta a tirare ulti dritto per dritto e non ha ancora concluso niente purtroppo guarda un altro grab di Zulan incredibile e qua il vantaggio ragazzi aumenta un 6 a 1 che potrebbe essere benissimo anche 8 e arriva adesso la kill rimane solo Ghie torna a Ikaos proprio adesso ma mamma mia il team dei Tribe è full potenziato mi verrebbe da dire due partite con il team veramente quasi full potenziato cioè no due partite un finale di partita con il team dei Tribe quasi full potenziato è difficile da gestire molto molto difficile qua ci provano provano tutto per tutto gli SK anzi gli SK scusate l'abitudine e arriva una bellissima ulti di Ez Levi Ghie con il gadget ma quasi ragazzi non c'è più occasione per recuperare i Tribe portano a casa il primo set ah qua in quadratura anche per i caster francesi ci sono proprio girati si 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 ci sono girati per commentare se la godano direttamente così eh Kuzan e come era l'altro JS god tipo save the fish insomma che è veramente un un matto no ma nel senso buono perché è veramente una delle persone più simpatiche che abbiamo trovato in questi giorni si si le abbiamo chiesto una foto era su questo palchetto si è lanciato dal palchetto letteralmente è saltato giro piano che ti ammazzi ma poi mi ricordo anche il primo giorno delle prove o anche quando era o questa mattina o ieri si è messo a cantare in italiano spettacolo ah si è lui che si è messo a cantare in italiano simpaticissimo ah ho capito chi è no aspetta ho capito non l'avevi riconosciuto no 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 stavo parlando dell'altro di Piu Piu scusami ah no che si è buttato dal palco prima si 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 e invece JS si è messo a cantare in italiano ma tutta ci stava urlando simpaticissimo ragazzi qua vediamo appunto Zulan che con Tyrant in questa inquadratura invece che hanno fatto hanno fatto veramente una una gran performance complimenti si si veramente molto bravi qua la faccia dei caos un po' perplessa tra l'altro hanno sia le cuffiette in EAR che le cuffie per giocare si 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 penso che le cuffie in EAR siano proprio le comunicazioni le comunicazioni fra di loro hanno l'archetto quelle ah no hai ragione forse forse ci sono un po' di interferenze Inzo per esempio mi ha detto che se i caster francesi dato che li stanno mandando nel tutto il palazzetto diciamo urlano alzano un po' la voce loro riescono addirittura a sentirli ah si anche sul palco oppure no anche il pubblico quando risulta in maniera molto potente si sente tutto pensate a che roba e in ogni caso ragazzi adesso si va nel prossimo set non è ancora scritto nulla cioè si è giocato semplicemente una bella bounty si assolutamente molto combattuta si va in gem grab adesso siamo in arco doppio la mappa dove prima i totem hanno fatto faville diciamo eh si lì il buster penso sia stata una delle migliori scelte che sia stata fatta e ora vediamo se ci presentano i ban sia per tribe gaming NA eccoli qua e per SK da una parte tribe gaming con Pam buster a proposito il il broder più atteso e Otis bannato finalmente dall'altra parte Ambra Stu e Bo yes e qua ragazzi c'è il 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 ban di di buster il brawler forse più più la novità l'ultimo arrivo comunque che che è molto pericoloso il primo giorno ci domandavamo quasi ma si potrà utilizzare poi l'hanno cominciato a mettere che andranno più smesso di piccarlo qua ragazzi come vedete il primo pic è una Penny ottimo primo pic per questa mappa è assolutamente dall'altra parte invece tribe gaming NA sta aspettando e decidendo i suoi due pic e vediamo vediamo ragazzi anche perché questo qua è già un draft con un peso specifico importante e sono curioso di vedere cosa andranno a scegliere anche perché di brawler buoni ce n'è ovviamente i brawler a disposizione sono 61 e sono veramente tanti ma quelli meta ce ne sono ancora comunque un bel po' eh si ragazzi Max è il primo pic di tribe gaming ragazzi il primo pic di tribe gaming non è male è un brawler molto schillato e vediamo come vanno ad abbinarla no? eh si serve qualcuno per sfruttare la speed di Max penso poi vedremo perché oggi comunque di comp strane ne abbiamo viste ma ovviamente il livello è talmente alto che i player in questo momento sono in grado di usare qualsiasi cosa arriva la Jeanette pic molto versatile molto diciamo secondo me Jeanette è uno di quei brawler che potrebbe essere considerato neutro è quasi un Otis però forse un pochino ora meno in meta la particolarità è che ha il dano splash sicuramente eh si che passa attraverso e poi ha questa ulti che quando la situazione si mette male con un tasto ti salvi letteralmente si 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 c'è da dire un'altra cosa gli SK sono anche arrivati qua facendo un unico match ovviamente prima come tutti gli altri che è stato più schiacciante infatti 3-0 più veloce l'unico 3-0 schiacciante so che 3-0 sembra un risultato che sembra schiacciando a prescindere ma in realtà non è così tutti i 3-0 sono stati sofferti l'unico vero 3-0 schiacciante è stato quello degli SK contro il team di Reconic esatto oltretutto Tribe ti interrompo un secondo per finire questo discorso il player di Reconic che ricordiamo ha giocato da solo in LAN contro SK è stato proprio incoronato tipo il man of the match definitivo di tutto il torneo non ha tirato indietro non ha abbassato la testa contro tutto il team SK proprio di fronte a loro infatti tutti su Twitter gli hanno fatto veramente tanti complimenti per proprio il coraggio di affrontare SK da solo dal vivo c'è comunque un grande GG anche da noi perché insomma ci vuole tanto coraggio di scendere sul palco da solo con certi team e invece per concludere il discorso vi dico che i Tribi Gaming Nord America già nella giornata di ieri la seconda giornata hanno giocato entrambi nella seconda giornata hanno vinto 3-0 pure loro ma è stata una partita un po' più sofferta perché sono andati contro i Navi ovvero il team russo vice campione del mondiale almeno l'anno scorso per loro seconda posizione per i Navi esatto adesso vediamo lo start la comp di SK con Penny Carl e il Crow fastidiosissimo dall'altra parte però secondo me è una gran scelta si potrebbe però valutare un cambio di lane e tenere il Crow contro il Carl in realtà anche il il Pocio però in realtà anche Carl vedo che non se la sta giocando per niente male anzi ha vinto la lane e ha fatto indietro già le zivari non se le è sentite di andare a cercare la kill sul Carl no esatto non ha cercato il push sta cercando di mantenere proprio un gioco safe dall'altra parte però Tyrant prende una bella kill qua Zulan può provare ad avanzare ce la fa a prendere ha rischiato un po' lì ha rischiato vediamo questo punto ai Chaos comunque che sta tenendo un ottimo mid con questa Penny sicuramente un brawler che utilizza molto bene bello il mortaio da parte ai Chaos sempre Ghi riesce a rientrare con il gadget no non riesce viene killato anche il Crow con una bellissima rafrica di Ezli e Zulan sulla linea di destra e ha ci garantisce un vantaggio numerico al team insieme ad Ezli ma questi Tribe Tribe Gaming ne ha oggi sono arrivati carichi come poche altre volte veramente veramente in forma ma giustamente oggi o rimani o purtroppo te ne vai è assurdo come comunque il mercato europeo sia enorme ci sono tantissimi giocatori di Brawl Stars in Europa ma nonostante ciò il resto del mondo offre player veramente molto forti molto competitivi e purtroppo qua ci scende la lacrimuccia soprattutto a noi che facciamo parte proprio di questo mercato e per ora su tre match tutte e tre le vittime come abbiamo già detto sono stati proprio i team europei comunque arriva la nonna Gemma per il team Tribe che con il prossimo con la prossima potrebbe far partire il countdown invece la vanno a prendere gli SK tengono alta questa parità Gemma a favore del team Tribe prende la decima Gemma rischia di morire Zlivay riesce a speedare Zulan iniziano a pushare la lane di destra che rimane Wajal ha il caos e ragazzi ancora il recupero da parte di Seymantec che prende l'unice Gemma Seymantec che appare dal nulla e si ritrova 11 Gemma e diventa il mid personalità eh sì qua bisogna adattarsi in fretta alla situazione 12 Gemme non bastano per Tribe attenzione è un comeback inaspettato più che altro qua c'è un push che è veramente importante gli SK riescono a vincere questo primo game cioè che per un attimo Tribe si era un attimo dimenticati che non bastavano le Gemme non l'ho visto troppo convinti nel push finale sì non ho capito perché hanno pushato quando in realtà le Gemme non sarebbero comunque bastate per il team dell'SK sarebbe bastato rientrare o sbaglio o tenere la posizione c'è stato un attimo un misunderstanding di Tribe probabilmente è un errore è comunque una banalità che incredibile il Pocho Zulan cosa sta combinando comunque con Pocho difficilissimo il match up contro Carl e il match precedente praticamente il 90% delle volte è riuscito a tenere la lane complimenti arriva anche la speed di Elsie Levi sulla lane di destra è qua Seymante un po' in difficoltà deve provare a indietreggiare invece non indietreggia rimane lì con 400 di vita qua Ghie è bella la hit su Elsie Levi in difficoltà il mid di Tribe potrebbe provare la ulti Ghie non so perché deve stare attento al ovviamente al conto della ulti di Zulan perché poi con il riff può ribaltare la situazione attenzione ragazzi qua è Zieli Levi sempre un buon posizionamento mantiene il vantaggio per il team dei Tribe Nord America Tyrant nel frattempo va giù dopo l'avvelenamento da parte di Crow ancora Zieli Levi con metà vita è costretto a indietreggiare difendersi sulla lane sinistra protetta da Zulan con il suo Pocho il push di Ghie molto offensivo recupera le gemme Ghie attenzione e non riesce a tornare potrebbe provarci Saimantec con i Chaos qualcosina recuperano ci sono ancora parecchie gemme i mid ai Chaos ancora Saimantec con la ulti non va giù 62 di vita ragazzi mamma mia un po' di rischio qua per SK ma riescono comunque a recuperare tutte le gemme adesso ormai hanno 8 secondi a disposizione Zieli Levi e Zulan gran lavoro DSK 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 e attenzione perché annullano il countdown annullano il countdown ma comunque troppe gemme per il team degli SK che ragazzi altri 10 secondi a disposizione per Tribe che comunque non si arrendono Ghie che difende benissimo e manca solo Zulan che in 4 secondi non può niente contro i Chaos e gli SK ragazzi riescono a portare a casa questo primo set per loro in realtà il secondo non so se hai visto la ripresa era un pubblico di DSK di un po' tutte le età sì la cosa bella non l'abbiamo raccontato forse si è intuito prima quando ho detto che ho incontrato la famiglia di Inso è che nel pubblico ci sono i genitori dei player ci sono tantissimi genitori tantissimi genitori dei player dei coach dei manager degli analyst dei content creator magari non lo so comunque ci sono veramente tantissimi genitori definire che questa ripresa magari erano tipo i genitori di qualcuno degli SK per forza di qualche player c'è il papà di alcuni player non so chi sia c'è proprio un signore col baffo tra l'altro che l'ho subito inquadrato ho detto lui fa parte del club e mamma mia ragazzi anche Seymante che ha una furia con tanta grinta che comunque parlando di qualche aneddoto nella mia pausa break purtroppo non sono riuscito a strappare una foto perché non ho avuto il tempo dato che il break è abbastanza ho trovato una personalità non un player ma non so come definirlo un po' content creator Ancol Mo non so se lo conosci il capo storico degli A Few Good Men che l'ho un po' tutto Ghi e 10 kill comunque farei notare esatto 285 DPS esatto esatto che anche lui è qua al giro in questi giorni visto un po' di post un po' di stories c'è un po' di tutto ragazzi tutti i player content creator sono passati un po' tutti in queste finali mondiali ma è giusto così ci sta si si ragazzi veramente non manca nessuno in questa finale mondiale di Brawl Stars e e ragazzi ci sta perché lo spettacolo è veramente di altissimo livello siamo tornati in parità uno pari anche questo match non sarà un 3-0 vediamo anche un Grexone in chat tra l'altro così che c'è Grex sì sì è Grexone Grexone è quello vero a Grex però che ti fa Ghie io mi emoziono però lo titfiamo un po' tutti perché comunque Spagna e Europa sono ormai li sentiamo vicini e lo sono anche allora si gioca come dicevi su KO la rupe di bell per noi italiani o best rock vediamo l'inizio del draft di Tribe Gaming NA assolutamente calcola anche che per dare un attimino un po' di contesto alla situazione il primo pick signor Ferre è proprio lo Sprout ma in che senso? è che comunque SK ha bannato Brock eh ho capito ma Griff Ringio adesso arrivano tutti cioè ah ma sai cos'è forse sto sto pick per costringere gli SK a mettere determinati pick ok li vogliono condizionare e vogliono far mettere gli SK determinati pick ecco questo arriva Otis gli SK se ne sbattono abbastanza esatto vabbè vediamo sono curioso sono curioso vediamo perché questo draft potrebbe riservarci qualcosa di interessante proprio non gli ne frega niente niente del semino e secondo me sarà insomma un po' un errore o vogliono addirittura cioè per assurdo adesso se Tribe Gaming NA tolgono quegli ultimi wallbreaker che sono rimasti poi voglio vedere SK come se la gioca eh si Tribe a questo punto deve fare questo deve prendere gli ultimi wallbreaker togliere questo terzo pick molto pericoloso da parte dell'SK e però adesso sicuramente le hanno messi in molte difficoltà invece anche loro i wallbreaker non servono in questa partita a quanto pare prendono un gas c'è qualcosa che non stiamo capendo nella tattica sicuramente Pedro che ne sa a valanghe più di noi e anche roll sapranno cosa stanno combinando però insomma devo dire simpatici da vedere gli SK con quei ciuffi rosa che giustamente matchano con le magliette particolari anche loro un po' come il draft sono molto sono molto stilosi ma non so se mi vogliono piazzare tipo un colt sul finale a sto punto l'unica forse è un colt ce la beva io ragazzi non mi sbilancio perché sono rimasto un po' stunnato da questo draft non mi aspettavo queste scelte vediamo anche perché semino in queste condizioni ha tanto 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 valore vediamo 15 secondi secondo me colt potrebbe essere veramente quel pick che fa capire chi ha la mazza Grom vogliono matchare il thrower con un altro thrower eh ma un thrower wallbreaker che lascia la doppia possibilità anche vabbè e qua Pedro dimostra tutte le sue capacità io mi sto leccando i buffi Dani eh lo vedo infatti vabbè no evito di dire cose magari giusto per questa finale sì non mi esprimo poi mi esprimerò no mi sto mi sto emozionando mi sto emozionando qua esatto esatto non non so non so non so come se la i due thrower se la giocano per ora in mid e vediamo cosa combineranno cioè Grom è un pick veramente particolare è il primo Grom che vediamo se non sbaglio è il primo Grom che vediamo e ti dirò su questa mappa qua funziona anche particolarmente bene vediamo però come si comporterà con il suo semino oltretutto come cittata Grom in realtà va anche parecchio lontano eh sì 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 potrebbe dare veramente tanto tanto fastidio e vediamo anche perché può possono colpire facilmente anche gli avversari laterali di conseguenza dare una grande mano ai compagni ahia arriva l'ulti del semino e qua la il campo SK diviso in due attenzione a Zulan però che bombarda Zulan con quella bea fa tanto fa una doppia eh mamma mia e Zlivay rimane da solo Ghie che giustamente sceglie di non far caricare nessuna ulti e si va a buttare nell'angolino vediamo un po' di nuovo lo start di questo secondo game qua in KO che ricordiamo beh KO in sé è un secondo game molto importante perché farà prendere il vantaggio a uno di questi due colossi team ragazzi eh sì un match veramente teso come vedete non ci sono tante azioni anche se adesso Zulan è un po' in difficoltà Seimante che potrebbe approfittarne ma io devo vedere cioè devo aspettare per quella ulti di Icaos con Grom per vedere cosa combinerà eh ragazzi è veramente 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 tanta roba eh qua lo scontro si sta si sta cominciando a scaldare attenzione a Tyrant sulla sinistra perché comunque prima eh era sulla destra hanno fatto un cambio lane che è stato ricambiato anche per il team SK come vedete e quindi si vuole tenere questo setup di scontro eh è pazzesco comunque come Ezley vai con il semino stia schivando veramente tantissimo e qua si è esposto forse un po' troppo ma riesce a killare benissimo il semino degli avversari al caos qua si muove bene ma purtroppo va giù oh non ci credo non ci credo Tyrant che avrebbe preso il dot della safe la giocata ragazzi la giocata mamma mia ragazzi veramente cosa hanno appena combinato i tribe gaming ragazzi una kill all'ultimo secondo in tutti i sensi sì davvero 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 una kill all'ultimo secondo e ragazzi e il caos che sfodera anche il pin dell'Izeta così e ai caos adesso con questo con questo pin forse sta cercando di dire qualcosa o è stato un pin un po' casuale secondo te ah dici che è già pronto a no è già pronto a andare con lo scontro lì beh non mi sembra il caso perché qua siamo in una situazione veramente di leggera parità comunque guarda Ezri Vai come continua a schivare i colpi del semino sul mid è costretto quasi a sfruttare un pochettino il muro devo devo essere d'accordo con te con il rendimento di Ezri Vai perché è quasi impossibile colpirlo e giustamente adesso ne ha presi due di fila mi sembra però prima la kill da parte di Caos è arrivata proprio in quel momento lì lui è pushato totalmente si è preso anche delle hit ma sapeva di far più danni è salito e ha concluso ma mia Zuland che rimane con 42 di vita anche molto fortunato dato che aveva comunque Ezri Vai sta schivando l'impossibile ha veramente un tempismo perfetto addirittura si carica anche la ulti bella la ulti da parte di Ezri Vai oh ma viene killato dai Caos è difficile comunque da tirar giù è questo semino veramente veramente bravo primo pick e ora posso capire anche perché ha veramente fortissimi questi ragazzi abbiamo ancora sempre Ezri Vai ma schiva veramente tutto però deve stare attento è giustamente qua si prende giustamente la ulti e qua il Grom prende tanto valore perché il team dei tribe non ha più rotture e quindi questo punto al 99% andrà a loro non devono neanche diciamo far troppo sforzo in realtà perché che comunque Tyrant ragazzi qua stavano per fare un grande errore con quella che è su bel però diciamo che sulla carta sono tanto favoriti ancora quindi non non credo che e qua ci sia molto a spaventarsi qua Zulan dovrebbe riuscire veramente in un miracolo in tutti i sensi ma è ai Caos ce la butta la ultima esatto no per un attimo pensavo non fossero al punto decisivo per il game e allora giustamente si ci stava e ragazzi qua la situazione torna ancora in parità qua Dani andiamo sul 3-2 te lo dico già adesso c'era anche l'occhione di Pedro mi sono emozionato Pedro l'ho incontrato prima te l'ho detto con Ghie proprio poco nel mio ultimo break sì 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 me l'hai detto erano lì e te l'ho detto le ho detto good luck buona fortuna e loro in quel momento lì avevano l'occhio spento mi hanno ringraziato e non è che non mi hanno risposto sì ma è come se non ti avessero visto è come se io le avessi detto non le avessi detto nulla no no erano talmente concentrati che c'è gestata l'educazione ma la testa era da un'altra parte sì sì hanno risposto diciamo una risposta automatica un po' come tra l'altro noi in questi giorni che comunque pensavo molto al cast eravamo lì con la testa quindi sì devo dire che poi va bene parleremo magari non lo so in quei pochi minuti dopo la finale o anche semplicemente nei prossimi giorni quando poi con calma torneremo ognuno a casa sua alle vite normali questi giorni ragazzi non hanno avuto un senso stiamo vivendo proprio in un'altra parte separata sì 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 davvero ma ti posso dire per esperienza avendo già fatto altre avendo avuto già altre occasioni come questa tra l'altro la chia attenzione qua del team su Tyrant è gestito benissimo ti dico che veramente queste esperienze sono pazzesche perché quando torni alla vita di tutti i giorni quasi non ci metti un po' ci metti un po' a ricollegare tutto comunque nel frattempo ragazzi siamo ufficialmente per il set point del vantaggio per SK e vediamo cosa riusciranno a fare a questo punto perché insomma non è una situazione comunque semplice nonostante il set point eh no non è per niente facile anche perché Tribe come avete visto stanno combattendo con lunghe e con i denti e soprattutto c'è quell'Heads Levi con Semino che è sempre pronto a sfodere alla giocata qua Saimante che un po' in difficoltà schiva molto bene i 2-3-K sta rischiando veramente tanto eh il Semino sfrutta comunque molto bene i rimbalzi schiva altrettanto bene se ci fate caso ragazzi eh attenzione qua potrebbe arrivare l'inserimento di iCaos eh sul mid non ancora eh c'è la ulti di iCaos è pericolosa si tiene anche lo scudo addirittura a disposizione guarda come non si sta proprio esponendo prepara il gadget e viene annullato il suo gadget con la ulti di Semino ma no ma ha aspettato troppo ha aspettato troppo e hanno preso un comeback importante pazzesco ragazzi qua vediamo proprio tutta la curva Tribe proprio l'America lì la vediamo bene ma proprio è sembrata della cattivella proprio agonistica e sanno che comunque questo set ha un'importanza veramente grande perché mettere il vantaggio adesso vuol dire che metti pressione al team avversario in maniera netta eh sì 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 e poi ha una componente emotiva molto importante esatto ricordo che con questo punto siamo sul set point per entrambi di team quindi dire che uno è più forte dell'altro comunque sia è un po' cioè bisogna pensarci un attimo ragazzi ecco tra l'altro da notare come è cambiato il setup dei team i trover sono andati a giocare sulla sinistra in entrambi i casi la belle la belle gioca sempre contro il il gas mentre sul mid Sei Matt che cosa ha appena schivato non ha schivato in realtà è stata l'esplosione della mina che l'ha salvato si è salvato in qualche maniera prende il 3k di Zulan ma non molla non molla ho mandato giù Grom ragazzi attenzione qua da solo Ghie e riescono a vincere i tribe il set mamma mia la voce qua è proprio andata la voce me ne ha abbandonato qua i tribe veramente i tribe ragazzi sono riusciti a portarsela a casa ma questo Semino Semino primo pick non considerato magari così tanto la domanda è è finita? no non è finita ragazzi c'è ancora almeno un set da giocare i tribe non hanno ancora portato a casa la vittoria gli SK possono tranquillamente vincere il vabbè questa kill è stata pazzesca questa kill dei caos cioè proprio assolutamente però il finale di questa ciao mamma mia cosa gli è entrato l'ultimo colpo nell'ultimo secondo cioè che robe veramente non lo so poteva succedere in un millesimo dopo un pareggio mai visto una kill nello stesso istante no no veramente è qualcosa è qualcosa di incredibile l'emozione che si sta respirando letteralmente sì queste sono partite che ci stanno mettendo anche a dura prova perché il livello si sta sempre alzando e le partite sono sempre più combattute il tifo è sempre più grande e ferre piano piano con calma ci stiamo avvicinando alla partita più importante del 2022 e noi e noi l'attendiamo e noi l'attendiamo parecchio Dani assolutamente e comunque qua su KO Ez Levi con il Semino e I Kaos con il Grom sono stati due player con più kill di entrambi e ragazzi qua ci prepariamo al terzo set che sarà in Brawl Ball il quarto set che sarà in Brawl Ball e lo vediamo qua ragazzi io posso dire una cosa qua mi è sempre piaciuto da matti Ghiglie con Barley ah è vero io credo che qua Ghiglie con Barley possa fare i full team è uno dei suoi main quando ha l'opportunità ovviamente lo va a piazzare e speriamo che che ce lo faccia ce lo faccia ce lo sfodere insomma in questo in questo match ma Treib Gaming NA non è molto d'accordo anche perché il primo dei loro tre ban è proprio Bombardino con Squeak e Surge dall'altra parte invece ban di SK veramente pesanti con Ash Buster e Max vediamo invece l'inizio del draft e lo start sta a Tribe Gaming ed è una Janet il primo pick dei Tribe Gaming quindi un pick diciamo sicuro è un buon primo pick non si sbilanciano troppo nelle scelte gli SK vanno a seguire con i loro due pick restanti vedo insomma un player per ogni stage un po' stravaccato non so se cominciano a sentire la stanchezza ma c'è ancora molta strada per entrambi i team a presidere di quale dovesse vincere Penny un altro pick abbastanza sicuro ma molto buono come first pick in questa mappa ma segue anche il secondo quindi vediamo chi si sbilancia per prima sicuramente Penny qua potrebbe essere sia mid che lane non sappiamo ancora quale sarà la tattica di SK vediamo in base al secondo pick se ci danno un attimo delle indicazioni un pochino più chiare di quello che hanno in mente e soprattutto della loro strategia ragazzi qua arriva Otis stranamente Otis direi che a fine a fine World Champions World Final come volete chiamarla main brawler sì il più piccato a mani basse è anche più sì forse il più forte adesso è lui sì ma sai che adesso se i tribe in Nord America non hanno studiato bene ma gli hanno bannato il Barley ah gli hanno proprio bannato eh te l'ho detto il primo ban eh sì sì ma allora sapevano questa cosa ovviamente si conoscono molto bene eh ma vedete qua qua comunque ci sono degli analyst che fanno veramente dei lavori oltre l'oceano ok per andare a scoprire queste cose ma tra l'altro mettono comunque uno Stu per tra virgolette sicurezza perché non vogliono comunque che chi gli è vato a mettere comunque un controller sì anche perché c'è la scelta quella del tutto per tutto poteva arrivare anche un Dynamike che è già stato usato non so se SK avendo l'opportunità avrebbero usato così tanto perché comunque ricordiamo che sono sul 1-2 diciamo perché dalla parte di SK è 1-2 non so se avrebbero usato così tanto ma sicuramente avendo lo Stu Contro nemmeno ci pensano eh qua ragazzi è complicata la Bea un bel mid è molto forte mancava il mid qua ci va ci va il terzo pick creativo Pedro fai la magia per favore tiraci fuori sto pick e fai la magia Pedro per favore eh sì anche perché sarebbe clamoroso vedere la sconfitta degli SK oggi e sarebbero 4 scontri e con 4 scontri si sarebbero tolta tutta la parte europea così uno swipe spike spike che non abbiamo visto non non tante volte forse un paio di volte su rapina con il suo Cactus potrebbe essere un buon un buon counter di due broglie su tre eh esatto Giannetto lo mette molto molto in difficoltà dall'altra parte però con Stu e Bea ha sicuramente un matchup un pochino più più tranquillo e può giocarsela meglio ottenuto lo spike sarà proprio guiglie si sarà proprio guiglie però ragazzi si sa che a livelli alti il colpo di spike è veramente molto facile da schivare anche se non sembra magari ha un setup che un pro player riesce a schivare con molta facilità e lo dico dopo che Tyrant si sta prendendo molto tempo appena hai cominciato a dirlo non ha più missato un colpo impressionante eh no ecco però vedi adesso comunque ha schivato di brutto sì 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 ovviamente la schivata di spine flessibili è tutta qua è pazzesco Tyrant ha un attimo messo il turbo attenzione perché rischia rischia di portarsi proprio davanti alla porta Tyrant è rimasto solo Saimant che con Otis non va giù e addirittura però deve un pochino indietreggiare perché quella torretta di Gianetta adesso va giù invece ma guardate ancora Tyrant che prova tutto per tutto difeso molto bene dal gadget dei caos che non so nemmeno quanti ne rimanga deve stare attento che la partita è molto lunga mi piace molto la Bea anche nonostante tutto Tyrant è fortissimo con Stuma la Bea e quell'anti-tank che ti fa comunque parecchi danni anche se non ci sono tank appunto è pesante da avere contro sì sì è pesante è pesante tipo adesso il 3k carico ti mette quella pressione hai quella pressione devi sempre stare attento devi sempre dare un occhio di riguardo in più a lei ed è pesante sì sì è difficile da gestire oltretutto allo start avendo anche più range di penni ha la possibilità di mettergli subito magari un colpo a segno e poi da lì dettare tutta la partita il mortaio è stato molto ben piazzato devo dire sì arriva caos ha fatto un bel mortaio arriva a colpire proprio in base avversaria e Tyrant e Zelivai sono costretti a non stare mai fermi vediamo come gestiranno la situazione anche perché pur avendo il mortaio che gli spara non perdono un centimetro di campo anzi piano piano lo stanno recuperando è assurdo assolutamente sì ragazzi tra l'altro qua vediamo l'inquadratura proprio sui due player rivali di questo scontro Tyrant e cioè Zuland scusatemi e caos e e li vediamo tra l'altro vicini anche in in campo effettivamente perché sta volando proprio verso di lui in questo momento il rientro di Zuland a questo punto e qua ci siamo quasi stanno per iniziare i supplementari mancano gli ultimi anzi l'ultimo secondo è partita adesso l'overtime vediamo come se la giocheranno qua lo Stu potrebbe essere il pick che sfodera la giocata anche perché ha una quantità di ulti potenzialmente infinita vediamo e oltretutto qua ragazzi il 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 vantaggio digitata credo che sia proprio firmato SK vanno infatti a mettere la loro famosa palla nell'angolino sfrutta il gadget Ghiglie e e qua cercano di andare a prendere un po' di vantaggio perché la situazione è veramente veramente complicata Ghiglie si fa killare alla ultima disposizione può respawnare Penny e Saimante che riescono a fare dietroggiare un pochettino i Tribe il è difficile potrebbe essere un pareggio questa partita non si vuole decidere uno dei due che sovrasti l'altro provano l'attacco tutto per tutto adesso i Tribe ma ormai manca troppo poco Ghiglie che riesce comunque a fare una doppia mancava mancava troppo poco era impossibile e qua pareggio pareggio si continua si continua a giocare ovviamente qua lo ricordiamo per tutti quelli che che ci guardano e che magari non sono troppo pratici in caso di pareggio si ripete la partita si semplicemente si ripete la partita ragazzi molto semplice come regolamento Brawl Stars da sempre si comporta così cerca di evitare completamente questo quelle partite in pareggio ecco si rigioca sempre tra l'altro bellissimo come abbia parato il 3k di Icaos di Edzi Levi Icaos con il Barile si con un tempismo perfetto molto timing che sembrano quasi scontati a questi livelli ma non lo so si però quando lo vedi fare a loro sembra sembra fattibile poi quando lo provi a fare te prendi il 3k negli occhi e sparisce guarda l'attacco mamma mia Edzi Levi cosa combina e qua subito sfodera è un pin sicuramente che avrete notato essere molto particolare vi spiegheremo poi nei prossimi giorni si è un pin nuovo ma ne parleremo avremo modo di parlare meglio qua 6mantic va a 87 di vita piazza un buon gadget difensivo e paradossalmente riescono a gestire molto bene lo stu dei tribe esatto esatto SK prova a recuperare un pochino di campo e prova a pushare a mettere un po' di pressione a questi tribe che sembrano non voler perdere un centimetro vediamo ora l'attacco ci prova il caos la parata il rischio ragazzi la parata all'ultimo Edzi Levi e attenzione il passaggio il caos ce la fa il caos ce la fa il caos ce la fa ragazzi riescono a fare un gol importantissimo mamma mia dopo due partite veramente il primo gol che finalmente arriva mamma mia sì la situazione è veramente tesa e si sente anche nell'aria anche i caster sono tutti molto attenti perché ragazzi questa foot decide veramente tanto e stanno tutti stanno tutti lì attenti su quello che succede e purtroppo sono no purtroppo ma sono in in pareggio praticamente si stanno giocando tutto su pochissime azioni potrebbe arrivare un po' push qua da parte del team tribe perché sono parecchio schiacciati ragazzi no ragazzi riesce a pararla ma ormai il team tribe ha una superiorità pazzesca il team SK si ricompone subito non c'è tempo per disperarsi si riparte overtime piazza il mortaio il caos tira la palla guardalo il team SK il team tribe molto schiacciato vogliono provare il tutto per tutto SK non vogliono un altro pareggio e soprattutto devono stare attenti a quel Tyrant che potrebbe andare giù occasione per il caos per tirare non riesce la passa Tyrant ragazzi risale Zulan e riesce a killare Saimante che all'ultimo deve rindetreggiare non può permettersi di lasciare nulla ma Ferri ma cosa ha appena fatto Tyrant sta per arrivare un secondo pareggio ragazzi ma il comeback di Tyrant ragazzi impressionante qua però Saimante prende una bella ulti Zulan con 120 di vita rimane lì e vediamo un po' come gestiscono perché SK non vogliono smuoversi dalla fase offensiva ma non riescono a segnare ragazzi è incredibile sta per finire in un pareggio anche questa partita mi sembra assurdo ci sono 10 secondi qualcosa si deve muovere Tyrant fa un push sulla parte di sinistra all'occasione per il tiro ai caos muore proprio prima di imparare la palla non l'aveva toccata è morto in quel momento lì evidentemente non ci posso credere qua serve replay urge un replay qua ma con che timing è stato killato urge un replay perché questa non me ne sono accorto vediamo un po' ci fanno vedere dei replay perché noi vogliamo vedere l'ultimo tiro replay ce lo faranno vedere poi dopo spero a questo punto diciamo che comunque anche questo gol va a mettere qua dicono qua dicono il VAR già che siamo su foot serve il VAR qua serve il VAR no diciamo ragazzi che dopo il set perso prima quest'altra cosa ha un elemento psicologico per gli SK molto SK molto importante qua è difficile è difficile è difficile da gestire vediamo un po' cosa vanno a combinare gli SK che ora devono giocarsi veramente tutto per tutto hanno la responsabilità dell'Europa addosso il peso sulle spalle è importante devono tentare tutto per tutto devono andare sul 2 a 2 in tutte le maniere c'è ancora tutto il tempo per farlo c'è la possibilità hanno dimostrato comunque di poter fare gol e devono devono provarci ragazzi addirittura scappa qualche timida emote per il team dei tribe io immagino già uno Zulan che potrebbe letteralmente esplodere sul palco vediamo 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 anche la reazione poi che avranno gli SK a questo punto esatto esatto ma comunque qua menzione d'onore a Tyrant perché con Stu veramente sta facendo un capolavoro di partita è lui che sta tenendo lane sta combinando cose incredibili e anche prima sull'azione decisiva di SK ha dato quel che in più e non ha non ha permesso di segnare non andando giù si è salvato all'ultimo secondo perciò per ora il man of the match indipendentemente da come finisca ce l'ha lui si ragazzi è veramente è veramente pazzesco come performance oggi non c'è niente altro da aggiungere oltre a quello che ha detto Daniele ragazzi il mortaio immancabile dei caos c'è sempre sempre lì sempre in push vediamo a questo punto se riusciranno a creare un'occasione da gol i ragazzi di SK c'è sempre Ghia con spike a sinistra non è facile la gestione quello spike secondo me è arrivato ma non era il pick che serviva non era forse il pick che serviva si poteva far di meglio è stata buona l'idea di Pedro perché quei cactus si sono sentiti veramente tanto ma non è stato quello che ha fatto la differenza però per assurdo il gameplay di queste partite sembra di essere veramente su campetto quelle partite in cui il 95% delle volte si finisce in overtime su questa mappa non me lo sarei mai aspettato ma c'è talmente tanta tensione nell'aria e tanta competitività che qua nessuno vuole perdere assolutamente sì ragazzi abbiamo a questo punto un push per il team di Tribe che ha sicuramente acquisito un vantaggio di Gittata ma guarda Edzley vai come difende la palla con le unghie con i denti ancora pin per lui in realtà non non sembra che gli SK riescano a tenere molto il vantaggio di Gittata appunto si fa sentire parecchio potrebbe potrebbe arrivare proprio quello che non aspettavamo e che non volevamo per l'Europa gli SK devono provare a giocarsi tutto per tutto Tyrant però Tyrant prende la palla ha dato anche delle belle hit ha la ulti prova il passaggio ma va giù va giù è ancora lì è ancora lì oddio il salvataggio all'ultimo secondo la riescono a pareggiare mamma mia guarda che stava per risuccedere stavano per rifare lo stesso gol di prima mi sento male mamma mia ragazzi che comunque io poi ho visto anche in chat erano un po' perplessi devo veramente vedere il replay dell'ultimo gol di Tribe perché è qualcosa di impossibile si si è stato qualcosa di incredibile è andato giù proprio un attimo prima si ma poi lo sai ovviamente con le regole messe per l'autogol basta sfiorare la palla del tuo compagno si sembrava quasi che l'avesse presa tirata indietro ma non può entrare è quello vuol dire che proprio è arrivato a un millimetro c'è una cosa impressionante una cosa veramente incredibile ragazzi non c'è non c'è niente da dire qua trovano subito il gol però i Tribe forse gli SK sono quasi stremati ma non credo che anche se sono stremati si fermeranno anzi quasi potrebbero sfruttare adesso il volo della Janet per salire e invece guarda Zuland che addirittura mamma mia Ezzelivai che colpo che ha preso mentre Zuland era l'ingaggiato ah doppia ancora e qua Zuland può portare sulla palla sono in vantaggio si vogliono chiudere a Riccio non vogliono più che vengano segnati altri gol Zuland potrebbe fare delle emoji comunque sentono il profumo della vittoria il profumo del passaggio del turno SK che hanno un minuto e dieci per recuperare attenzione alla ulti di Ghie potrebbe andare a prendere la palla decide un attimo di aspettare anche per chi ha una Janette sopra la testa guardate Zuland bravissimo chi fa molta pressione e purtroppo qua prende 3k c'è una volta da fare quasi full team per Tribe SK che rimane solo con Symantec e qua la situazione non si mette molto bene per SK eh no ragazzi qua la partita è veramente lunga aver basato il pick di Spike sui gadget è veramente un problema perché costringe come avete visto a utilizzarli ma sono sempre tre questi gadget esatto poi Janette prende troppo valore e si fa troppa troppa fatica sì poi appunto questa Janette costantemente sullo spike eh sì attenzione per adesso perché SK giustamente non si arrendono tentano tutto per tutto Ghi e prende la palla ma la difesa di Tribe è impenetrabile eh no niente da fare la palla ritorna nell'angolino ragazzi e qua purtroppo mi sa che ragazzi siamo all'annuncio che non volevamo fare ovvero che la parte europea aspetto un attimo per dirlo per essere proprio sicuro al cento per cento ragazzi purtroppo tutta la parte europea viene sconfitta i Tribe riescono ad andare al eh la semifinale contro l'Izeta Division e Zulan non si è perso l'esultato l'occasione di esultare non se l'è persa praticamente loro qua hanno potenzialmente vinto una finale è veramente veramente bravi un dispiacere enorme comunque quattro partite quattro team europei che escono e il e il livello mondiale ragazzi è qualcosa che l'Europa evidentemente anche quest'anno non può non può raggiungere non ha raggiunto esatto c'è stato uno scambio di c'è stato un non scambio di saluto tra Icaos e Zulan comunque la mano è stata tolta non so se hai visto ah si il momento è stato è stato tolto assolutamente qua ragazzi però a chi lo vogliamo dare l'MVP qua è tosta sono indeciso sono indeciso ma in realtà sono indeciso tra tutti e tre ma si a sentimento non lo so sai non lo so non lo so ah vediamo un po' se ci danno l'opportunità di vedere il gol lo do a lui lo do a Zlvai alla fine guarda ecco infatti qua vediamo anche un attimino dobbiamo vedere il gol di Tribe quello all'ultimo secondo ecco è questo ecco ma non ci credo sembrava l'avesse toccata ma sembra che l'abbia toccata sembra che l'abbia toccata cioè Icaos ci ha boggiato ci ha boggiato il fucile su quella non lo capisco sarebbe da rivedere in slow motion per 10 ma l'ha toccata sembra quasi che l'abbia toccata sia stata killato e la palla sia andata indietro è una meccanica perché ha una sorta di rallentamento eh sì sì ma se Icaos ha toccato la palla non c'è meccanica che faccia andare in porta la palla è quello la cosa incredibile vuol dire che pur noi vedendo questa cosa Icaos effettivamente almeno per il gioco 13 kill Zulan ha fatto eh vabbè ma mostruosi 13 kill eh no ma qua c'era tanta 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 competitività eh ragazzi mamma mia mamma mia ah Tyrant guarda meritato ero indeciso tra loro due ero indeciso tra loro due Zulan sinceramente comunque no nonostante le 13 kill ma tra Tyrant e Deadly ero indeciso veramente particolari e molto forti si sono fatti valere bravi 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 eh ragazzi tanta roba che dire un 3 a 1 pesante l'Europa veramente eh un po' un po' colpita da 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 questa da questo andazzo ma eh sì purtroppo non ce l'abbiamo fatta e adesso ragazzi tra poco partiranno le semi finali e qua la situazione si va scaldando eh sì ragazzi anche perché in due partite eh in due partite ora vedremo entrambi i team Z scendere in campo eh sì eh sì ragazzi eh e quindi direi che a questo punto ci abbiamo anche il oh aspetta aspetta cos'è parito un video eh sì ah è parito un video proprio proprio adesso e vediamo vediamo Saimante che tra l'altro è entrato in studio scusate se avete sentito che ci siamo mattino persi ma è appunto è entrato Saimante che adesso è in studio e veramente un peccato addirittura intervista per lui proprio dopo dopo la sconfitta è pesante questo sì 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 eh vabbè io direi che concediamo un paio di minuti Dani e nel frattempo vi racconto un po' di cose va bene allora ragazzi io per il momento vi lascio nelle mani di Ferre che giustamente è sul suo canale se no glielo rubiamo sempre non va bene no no vai tranquillo così anche te hai un minuto per ritembrarti eh sì anche perché la live si sta facendo insomma interessante e anche faticosa yes va bene quindi salutiamo Dani che tornerà con noi tra pochi minuti e e nel frattempo ragazzi vi comincio a raccontare quello che sarà il prossimo scontro ok allora abbiamo concluso i quarti di finale ok quindi iniziamo con la finalissima e c'è la finalissima la semifinale la prima semifinale e ragazzi torna in campo un team che è stato diciamo il più diciamo quello che ci ha segnato di più ecco il team in questione è il team di division 1 torna in campo e questa volta gli sfortunati saranno ragazzi gli stamina esatto gli stamina adesso si dovranno gestire è una situazione molto complicata perché calcolate che gli stamina l'anno scorso avevano perso contro i totem ok e non avevano potuto andare contro gli z division 1 invece quest'anno hanno il riscatto anche loro riescono ad andare contro gli z division 1 che vabbè sono gli ex z e fanno quello scontro che il tempo non gli aveva concesso e il tempo che il bracket non gli aveva concesso l'anno precedente io sinceramente non credo che il fatto che l'anno scorso i totem abbiano battuto gli z abbiano battuto gli stamina e quest'anno gli stamina vadano contro gli z che hanno battuto i totem voglia per forza dire voglio per forza segnare un risultato certo infatti calcolate ragazzi che Bobbio J e Zarre hanno fatto una performance prima veramente di alto livello quindi secondo me lo scontro è ancora è ancora tutto quanto da decidere nel frattempo vedo qua che il sito continua a dare punti quindi tenetelo sotto controllo controllate anche di essere collegati con il Supercell ID corretto ok e nel frattempo vi do un po' l'introduzione su questi team per chi magari non avesse ancora ha avuto modo di vederli allora partiamo dal team dell'istamina ok il team dell'istamina ragazzi come ho anticipato prima è composto da Bobbio J Zarre e Fade il coach oggi non OJ scusatemi rispettivamente Bobby dal Canada come oggi dal Canada Fade dagli Stati Uniti di America e Zar messicano l'unico player messicano ancora in campo in questo mondiale quindi sicuramente ha anche un peso importante sulla sulla cabeza il primo giorno gli stamina hanno vinto con un bellissimo 3 a 0 contro i Clash tra l'altro vede una cosa molto bella guardate qua ragazzi c'è il Dreamhack la Snapdragon Pro Series insomma la competizione che stiamo seguendo con la nostra carissima Alessandra che viene proprio annunciato in questa in questa finale mondiale quindi bello anche la connessione tra queste due competizioni pensate piccolo dietro le quinte ho avuto modo di conoscere uno degli organizzatori della Ezra Snapdragon Pro Series proprio dal vivo poco fa prima di cominciare questa live è stato molto bello perché comunque sono organizzatori ovviamente oltreoceano sono americani e insomma tra l'altro c'è la prediction da fare Z Division 1 contro stamina ovviamente ragazzi la faccio anche per il buon danni mi permetto ma qua ragazzi gli Z Division 1 sono molto favoriti la percentuale è di un 76% a 24 parla chiaro vi faccio vedere anche il bracket lo scontro che vediamo segna ufficialmente la finale e ragazzi potrebbe arrivare una dura elezione per tutto il mondo in questo in questo bracket uno dei team Z potrebbe ancora perdere ma c'è una possibilità concreta che la finale sia Z contro Z sarebbe veramente qualcosa di assurdo qua vediamo le prediction guardate come la maggioranza delle prediction siano state sbagliate ragazzi è veramente assurda questa cosa lasciatemelo dire e colgo l'occasione anche per farvi vedere le nostre di prediction quelle che abbiamo fatto io e Daniele Z Division 1 Daniele aveva azzeccato stamina l'abbiamo azzeccato tutti tribe no mentre quella di SK contro Z Division Zero scusatemi SK contro tribe nord america l'abbiamo anche lì sbagliato entrambi non ce lo saremmo veramente mai aspettati quindi automaticamente per azzeccare le prossime prediction dovrebbero vincere l'IZ Division 1 o l'IZ Division 0 no solo l'IZ Division 1 possono farci azzeccare le altre prediction devo dire veramente che questo mondiale è andato in un'altra direzione completamente e nel frattempo vedo Daniele che si sta preparando ma Dani fai pure con calma perché abbiamo ancora tre minuti quindi molto molto easy stavo facendo vedere le nostre prediction che praticamente come quelle dei caster americani sono state completamente distrutte ne ho proprio andato tutto in un'altra direzione sempre più concreto il possibile scontro finale Z contro Z ragazzi e adesso tra l'altro c'è c'è Alessandra ciao Ale ho avuto modo di conoscere Zep e si ho avuto modo di conoscere Zep dal vivo è passato poco fa e mi ha detto indovina un po' la prima cosa che mi ha detto è ma quanto sei alto porca miseria e no vero a parte a parte gli scherzi tra l'altro sta arrivando anche un tè caldo per me quindi se mi sentite con la voce un po' un po' non un po' con un po' di voce ecco tranquilli tra poco risolviamo anche questa ma ragazzi io l'avevo già detto che comunque io volevo arrivare a questo punto delle delle world final senza voce tra l'altro piccola inquadratura anche sul papà di Brawl Stars Frank proprio lì nel pubblico che ce lo sta facendo vedere proprio ora ragazzi guardatelo guardatelo lì dietro che che se la scialla e e va bene nel frattempo ragazzi continuiamo con la presentazione dei team il team Z Division 1 per chi non lo conoscesse è il team che porta la bandiera del Giappone è l'ex team Z che tra l'altro fa l'ingresso dalle tribune ma che bello questo ingresso con questo sito che passa davanti a tutti e si tira sui pantaloni perché una taglia per lui non l'hanno ancora fatta e ragazzi con i suoi due compagni di squadra Kenji e Moya Goku si vanno a posizionare sul loro stand si stanno anche preparando gli stamina tra l'altro cosa sta facendo si detampo sta morendo cosa sta succedendo cosa succede cosa succede qualcuno lo aiuti qualcuno lo aiuti no i suoi compagni lo lasciano morire va bene così ragazzi ok è stato colpito non lo so quante volte Z1 e Z0 si sono affrontati nelle finali mensili credo 7 e la risposta giusta era 7 ragazzi in tutte le finali mensili Z praticamente tutte le finali mensili Z è arrivato il T grazie grazie Z la domanda è apparsa la domanda sul sito Dani quante volte li Z Division 1 hanno incontrato li Z Division 0 nelle monthly final praticamente sempre quindi è anche giusto che si incontrino che si incontrino al mondiale cosa sono gli altri team al mondo mi sembra giusto mi sembra giusto ciao ragazzi sono tornato e nel mentre sono messo a fare il tifo anche io in chat per il mio commentatore preferito io ti ho fatto un po' di un po' di prediction di cose perché giustamente avendo sbagliato qualunque cosa ricordiamo le nostre prediction erano queste qua chi si sarebbe mai aspettato di vedere uno stamina Z in finale a questo punto e quindi molti magari se lo sarebbero aspettati però comunque no ragazzi si diciamo una performance impressionante la loro ora vediamo oltretutto mi sono accorto c'è più parlo anche io la voce più parlo e più se ne va più cala è giusto così comunque nel frattempo loro si continuano a preparare oggi bravo facci vedere tutto come Vanto Reattura ti ha fatto bello lì grazie alla regia per queste inquadrature si si hanno aspettato proprio il momento giusto hanno proprio aspettavano solo quello ragazzi e che altro dire che altro dire ricordiamo che gli stamina durante la prima giornata hanno buttato fuori il team dei clash il primo team della parte latam sud mentre il team z division one ha battuto i chasmac ex team craze sesto team della parte europea e i reply totem il team secondo nella parte europea ma è praticamente ex campione europeo a livello mondiale perché l'anno scorso mondiale i totem ricordiamo avevano scusa ma in che senso la spiletta dei navi ma è vero ma in che senso la spiletta dei navi vabbè vabbè giustamente tra i player si scambiano poi speriamo speriamo che sia per questa ragione ecco e e buon niente quindi questa è un pochettino la situazione per entrambi i team adesso non resta che vedele giocare magari sarà il portafortuna se oggi sfodererà una performance impressionante quel pin dei navi diventerà il suo talismano di qui a per sempre sì anche perché ragazzi adesso ripartiamo a parlare degli Z Division 1 il compito degli stamina adesso diventa veramente difficile eh sì parlavamo di questi Z Division 1 magari ricordiamo per chi è a casa che cosa è cambiato da Z Z Division 1 insomma raccontiamo facciamo un po' un recap sì sì tra l'altro scusami se ti interrompo ultima cosa ci sarà un ultimo ospite ah è vero dopo questo scontro eh sì avremo l'ultimo ospite quello che ho visto che alcuni ne lo stanno chiedendo arriverà proprio dopo questo scontro ah qualcuno è giustamente abbiamo avuto una livrea di ospiti in questi giorni ne manca uno ce lo siamo riservato per la parte finale per per l'ultimo posto disponibile mentre qua vanno avanti i replay di Z penso che a questo punto faranno vedere il cammino di entrambi i team ma diciamo appunto spieghiamo gli Z che cosa hanno combinato sì sì assolutamente sono divisi come ditto mi è piaciuta tantissimo questa citazione anche perché lo sapete ragazzi sono tantissimo fan del mondo pokemon detto questo allora semplicemente ragazzi Z l'anno scorso ha partecipato ovviamente al mondiale e l'ha anche vinto non ha solo partecipato sono il team campione del mondo ma ha partecipato con un solo team dopo la vittoria al mondiale il team Z division si è diviso in due e hanno formato Z division 1 che vedremo giocare tra pochissimo e Z division 0 che vedremo giocare invece nel match successivo dato che sono ancora entrambi in gara e hanno creato due team allucinanti il miglior player dell'anno scorso ovvero Sitetampo è finito in Z division 1 invece dall'altra parte due dei tre campioni del mondo che facevano parte di Z division sono andati nel team che ora si chiama Z division 0 ricordiamo anche una cosa che comunque è sempre importante perché questi ragazzi sono qua oggi a sfidarsi sì per il titolo mondiale ma c'è anche un interesse economico che permette di finanziare tutte queste mega org ed è il price pool lo ricordiamo molto rapidamente ragazzi il price pool se prima era di 30.000 dollari per tutti quelli che perdevano ok oggi adesso sale di uno step tutti quelli che perdono adesso si portano comunque a casa più del doppio 80.000 dollari ma pensate un po' ragazzi che Z potrebbe tentare il miracolo e riuscire a portare a casa come org 600.000 dollari più della metà del price pool totale cioè se riescono in questa impresa oltre a dichiarare proprio la loro supremazia nel mondo riuscirebbe a fare un'impresa impressionante il prossimo anno vedremo al mondiale Z division 0 e 1 poi in Europa Z division A e B con un price pool così avendo completato le slot che hai a disposizione per la tua regione devi cominciare a fare i team del resto del mondo prendi due o tre dei tuoi scagnozzi te li trasferisci in Europa ti fai prendere la cittadinanza e poi da lì comincia tempo tre anni solo Z mamma mia ragazzi il mondiale ormai le slot le ha finite cosa possiamo fare anche perché penso che budget ce ne sia a Iosa anche perché se i risultati sono questi il budget diventa una certa il limitato è una cosa pazzesca stanno dominando adesso per carità noi parliamo dando per scontato che loro arrivino primi o secondi non è detto ma anche se perdessero entrambi adesso ma hanno già due team in segnale è impossibile ma si portano 160.000 dollari a casa è praticamente faccio rivedere la grafica ragazzi è praticamente è quasi come se fosse arrivato secondo un team cioè è come se possono permettersi di perdere in segnale finale come fossero arrivati in finale si vabbè ormai hanno una posizione di vantaggio su tutti i team e soprattutto sono loro che mettono paura sono loro i due team da battere eh si ragazzi comunque nel frattempo sono cominciati i draft in un rock mine rico è libero e carl è bannato quindi può workare i ban per l'izzeta sono ringhio buster e penny dall'altra parte come ha detto perre c'è il carl bannato pocio e stu e il primo pick è stato proprio lotus e arriva anche il gin arriva anche il gin si arriva anche il gin mentre dall'altra parte abbiamo kenji con un gas e un sito tampo con un cro e com'è la bustina del tè danni scusami volevo prenderti alla sprovvista perché poi la gente è sempre stata abituata tutto l'anno a sentire noi facciamo i cretini e poi tutti i seri ogni tanto dietro le quinte per adatto facciamolo facciamolo vedere sto tè ragazzi facciamolo senza loghi facciamolo vedere il tè eccolo ce l'abbiamo ce l'abbiamo per la voce questo è poi il tè lamenta non è che ragazzi può fare mi ha beccato in un momento infregrante stavo bevendo mi è uscito con questa battuta devastante Dani è gentile perché eh no ragazzi il caffè fa schifo scusatemi se uso il termine ho dovuto rimedi ho dovuto come si dice sterzare sul sul tè più che altro per la la conservazione della nostra voce il tè è essenziale anche perché ragazzi capite bene che noi sono in tutto penso più di dieci ore che urliamo parliamo e poi giustamente voi non ve ne rendete conto ma abbiamo le ore di cast ma nel resto della giornata non è che stiamo zitti cioè c'è il resto della giornata più che le ore di cast è già due giorni che urliamo a parte il resto della giornata cioè capisci che poi capite bene che le nostre giornate ora poi commentiamo sono che usciamo la mattina alle otto e facciamo poi la doccia a mezzanotte qua c'è una temperatura media che non supera i dieci gradi e c'è quest'aria fredda a me al terzo giorno ha colpito cioè io oggi un po' di mal di gola è devastante ragazzi mamma mia comunque sono partiti e abbiamo non abbiamo un rico prima di tutto no c'è Erdrockmine senza rico che non è stato neanche bannato manca veramente qualcosa c'è quel gas che tanto piace a Z1 con il crow in alto a sinistra e poi c'è Sitte Tampo che oggi per la semifinale ci sfodera anche la Janette comunque credo che gli stamina daranno al massimo daranno tutto ragazzi vediamo questo OJ che praticamente ha deciso di giocare in spawn avversario eh sì oggi oggi molto aggressivo con Otis ma abbiamo già visto anche dal turno precedente che insomma oggi è veramente in forma e sicuramente sarà oggi 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 è veramente in forma sono quelle cose che le dette già in semifinale ci stordiscono entrambi siamo rimasti uno stunnato a parte a parte gli scherzi ragazzi è qua Bobby pericoloso con il grab Mojogoku cerca di fargli perdere tempo o addirittura fargli buttare il grab ma giustamente Bobby punta solo Kenji anche se forse non ha il tempo materiale per andarlo a prendere vediamo ragazzi è partito come un bagno di sangue ma ricordiamo che chi vince il primo game in genere non è stato molto sfortunato vediamo se riescono gli Z anche a rompere questa regola la difesa perfetta di Z1 vediamo se riescono a rompere anche questo questo mito gli Z1 tra l'altro comunque allora per carità allora hanno il tablet sullo stand ma il tablet è comunque completamente piatto se ci fai caso ci giocano proprio completamente sopra diciamo che Sidetampo ha cambiato che dallo stand cioè da senza stand gioca con lo stand ma il gameplay è sempre lo stesso sempre lì proprio davanti all'iPad super super concentrato si ha anche la posizione particolare sembra molto scomodata mi permetto anche di aggiungere si ma ormai penso sia la sua caratteristica ci si è abituato vediamo qua Zar comunque sulla lei di sinistra estremamente in push ma comunque sia non riesce a trovare la kill solidissimi di Z1 si rimovibile devo dire Sidetampo qua miglior start della partita precedente e oggi un po' di difficoltà per lui dato che la partita precedente era passata da sinistra e aveva avuto molti meno problemi qua invece sta affaticando Sidetampo non è che lo lascia passare così tanto facilmente eh si ragazzi è veramente è veramente ah qua fa anche un bel gadget ZAR faccio notare e farei anche notare che comunque sia adesso la situazione è un po' più di parità rispetto a prima perché eh guardalo torna mamma mia ragazzi ulti precisissima di Sidetampo a terra il gadget per pararsi uno dei colpi e poi si torna e usa la torretta anche per differenze ma cosa combina ma ragazzi ma fermate questo ragazzo toglieteli l'iPad guarda come tiene l'indice schiacciato su guarda che roba guarda che roba mamma mia ma cosa combina Sidetampo anche quest'anno vuole prendere l'MVP e mi dico che se continua così chi è che glielo toglie mamma mia ragazzi cioè cioè è qualcosa di pazzesco ma posso dire che per una volta è sembrato un pochino più umano di quello che è addirittura ma perché comincia a trovarsi a suo agio comincia a stare a suo agio al mondiale tra il prossimo anno sa anche l'inglese ci abbiamo parlato comunque la sua pronuncia posso dire è una delle cose più divertenti cioè è veramente simpatico è proprio lì un ragazzetto lo vedi super tranquillo super cute poi vabbè giustamente su Brostars non c'è nessuno più forte di lui però pazzesco ragazzi veramente pazzesco qua vediamo anche dei replay sugli altri guardalo lo vediamo proprio no comunque molto entusiasti questi ragazzi è bello bello vederli con un po' di emozione comunque ragazzi non c'è niente da fare per ora per ora vanno avanti nella loro corsa fino alla finale mi dico a questo punto il primo set l'han vinto però insomma dai che che gli stamina proprio perdano completamente così mi sembra mi sembra assurdo posso dire che una curiosità che ho notato adesso penso che anche il cameraman sia rimasto talmente stunnato da Sidetampo che ha fatto qualcosa che ha avuto una reazione l'hanno inquadrato almeno quattro volte ha detto ma ha delle emozioni allora questo ragazzo sì sì qua vediamo il team stamina che è un po' un po' sperso dopo questa partita sì un attimo concentrati devono un attimo capire cosa è successo cosa possono migliorare ma è difficile è difficile capirlo e soprattutto è difficile counterare questi tre ragazzi eh sì ragazzi qua la situazione comunque è veramente paradossale abbiamo un team che per carità è composto da tre player ma questo questo player oggettivamente è veramente tanto forte sì diciamo forse è più forte anche dell'anno scorso ti chiedo sai che te lo stavo per dire è ha una condizione di forma in questo periodo che è impressionante anche perché diciamo che il suo team fa tanto affidamento su di lui gli sono stati dati tante volte dei ruoli fondamentali e lui riesce sempre a tirare il meglio da tirare fuori il meglio dal brawler che usa anche in questo caso Janette che sicuramente non è devastante magari come qualche brawler che ha usato in questi giorni tipo anche la Ems su foot che può creare situazioni incredibili ma eppure con Janette ci è riuscito a regalare la giocata si è fatto riconoscere anche con Janette che non dico che sia impossibile assolutamente ma sicuramente era molto difficile si a me è piaciuto particolarmente prima contro i totem nonostante il risultato quando ha utilizzato Ems veramente lì è stato pazzesco però notiamo ancora una volta come con la ulti sia pazzesco al tempismo sempre perfetto c'era sempre la ulti pronta sempre la ulti pronta nel momento giusto e arrivare a calcolare in quanto tempo si carica la ulti il brawler sapere a memoria queste cose è assurdo è veramente più che altro riuscire sempre ad attuare queste cose in partita senza mai un errore è impressionante e qua arriva l'otto beat qua arriva l'ottobit con il primo pick in save zone che sembra quasi uno standard ma in questo mondiale è già la terza volta che lo vediamo bisogna vedere Z1 cosa però risponde perché adesso due pick ci sono per loro tra l'altro avevano bannato l'Izeta l'Izeta con l'ho bannato Brock Ringio e Colette quindi magari volevano metterlo loro 8-bit esatto anche perché dall'altra parte comunque c'era un carlo una bell e un raff bannati comunque anche la bell molto fastidiosa da avere contro beat insomma diciamo che la strada era abbastanza spianata per questo brawler e adesso Z però sfodera subito un griff un griff in risposta a 8-bit a questo punto mi viene da domandarmi allora griff per la rottura sulla lane di destra ok cioè servo un mid cosa potrebbe arrivare potrebbe arrivare una colette no perché è stata domandata una Iris contro 8-bit non lo so anche lì un altro tipo di anti-tank non saprei cosa potrebbe arrivare potrebbe arrivare anche una bell per provare a gestirlo in realtà che non è male e la bell è bannata ah la bell è bannata dall'altra parte la bell è bannata da parte di stamina che giustamente loro avevano intenzione di mettere arriva l'ola l'ola è importante l'ola è importante ma a questo punto mi dico che non appaia un'ambra che non abbiamo praticamente mai visto potrebbe essere il momento di sfoglierla non ce la vedo non lo so anche perché siamo su safe zone manca ancora la rottura io direi una easy genet ah potrebbero per esempio stamina che si sono trovati molto bene potrebbero riconfermare anche ilis anche se non è mid perché comunque un ringhio non lo so ringhio è bannata anche quello penny arriva la penny penny si per l'ola è tanta roba serve ancora un wallbreaker allora serve qualcuno che gli faccia passare da quella lane oppure potrebbero anche adottare la strategia che passano in due dal mid o due dalla lane a questo punto o due dalla lane no due dal mid come dici tu vediamo vediamo tutto dipende dal terzo pick ed è un otis quindi si adotta questa strategia che dici tu vogliono provare a passare in due dal mid rischioso molto rischioso però otis non è molto efficace contro la lola è quello il problema sì però giustamente otis penso sia una delle ultime scelte che gli era rimasta ma hanno il gas facile o sbaglio o anche la bonny facile serve eh la bonny hanno bonny gas facili eh gas soprattutto perché lo usano sempre molto spesso gli piacciono queste combo con gas vediamo però se su rapina andranno a scegliere un'altra volta gas squeak attenzione e io ti ricordo il mondiale scorso si detampo con squeak cosa aveva fatto eh si detampo diciamo che è quel player che si fa riconoscere mi dico ormai se si fanno il cambio lo vediamo con si detampo ho paura penso faccia faccia il cambio vediamo anche perché al momento qualsiasi brawler ha usato ci ha stupito quindi la lola sarà il mid la lola è mid ma che roba strana e si detampa e il griff attenzione lasciano nessun cambio lasciano il griff a si detampa ah guardare l'emoji l'emoji dell'emoji hai visto l'emoji dell'emoji è quella degli ex campioni e vabbè loro se lo possono permettere ecco è una grande emoji io ho visto invece ZAR che ha sfoderato se non sbaglio quella dei tribe vediamo adesso il push subito di Z1 che prende il mid e prova a mettere in difficoltà stamina vediamo un po' sitetampo alle prese con ZAR e riesce a schivare veramente bene i colpi addirittura anche il bit prova a fermare sitetampo in diagonale un po' in difficoltà subito stamina allo start eh si ragazzi tra l'altro attenzione ci spoilerano anche la torretta di bit che è quella proprio tutta che per boostare i danni eh si quella per boostare i danni col range aumentato potrebbe essere una scelta particolare riesce a killare eh diciamo vabbè sitetampo si annulla con ZAR e vediamo però oggi come va la difesa la lane tra l'altro doppia torretta mortaio e torretta ma lo sai che a questo punto non hanno scelto la rottura perché volevano creare questa questa barricata tra torretta e mortaio gli stamina questa è proprio una tattica eh si è una tattica bella e buona però il discorso è che si difenderanno bene ma devono fare anche danni devono fare anche danni qua basta un push alla fine dell'Izeta e cosa fai eh sì 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 assolutamente vediamo ZAR mortaio offensivo per lui è tolto subito molto attenti arriva anche la torretta di OG che invece è molto pericolosa ma di nuovo viene tolto subito cioè no no proprio niente da fare l'attenzione ai dettagli però di Z1 è impressionante no no beh Squeak gestisce subito le torrette è perfetto ragazzi sì assolutamente hanno la contromossa per tutto questi ragazzi qua impressionante è pazzesco è pazzesco ragazzi ogni riescono a valorizzare anche ogni brawler esatto esatto li fanno rendere molto bene anche se in questo momento ZAR riesce un pochino a pushare si fa vedere finalmente guardalo che prova anche a dare qualche hit in mid devono stare attenti perché se finisse così Zeta vincerebbe proprio con un minimo scarto ma secondo me Kenjiro non è ancora d'accordo e guardate che roba ragazzi non concedono niente danno ancora un po' danno ancora qualche danno alla cassa si arriva sul set point di nuovo per gli stamina ragazzi vedo in chat che molti sono già convinti sul risultato a me sembra assurdo che gli stamina vengano buttati fuori 3-0 ma questo vorrebbe dire a maggior ragione che i risultati precedenti dei team che sono riusciti a fare un set a questa squadra sono veramente se lo sono meritati hanno giocato veramente molto bene anche perché veramente finisse un 3-0 per Zeta Division 1 per stamina sarebbe una prova di forza allucinante e oltretutto i Tribe Nord America diventerebbero automaticamente diciamo l'ultimo baluardo per difendersi dall'avanzata più di un orga impressionante a questo punto è diventato il resto del mondo cioè tutto il mondo contro il Giappone esatto è impressionante il dominio che vogliono provare ad imporre ma avevi dubbi che anche con Griff non fosse il player più forte del mondo ci mancherebbe tra l'altro guarda quando parla dà un sacco di informazioni ai compagni parla veramente molto sì 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 guarda lì vedo questo pollice muoversi veramente ma loro io ho visto col fatto che c'è qualche scream diciamo resa pubblica di Tensai o di altri hanno loro questo modo di giocare che cliccano tante volte sullo schermo con i pollici hanno questo questa maniera frenetica direi di giocare ma tutti sono tutti uguali loro cioè se te vedi tu vedessi un gameplay giocato dall'Izeta in prima persona nel senso a una certa staresti male da quante volte vedi la barra del colpo avanzare sullo schermo cioè è tutto un togli e metti togli e metti sì 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 è pazzesca sarebbe veramente interessante approfondire questa cosa anche perché a questo punto penso che tutti e sei i player abbiano lo stesso gameplay ah beh sì sicuramente c'è anche un po' un segreto diciamo che viene passato a questi nuovi player la pergamena segreta dell'Izeta eh c'è qualche c'è un po' come in Naruto c'è qualche qualche pergamena qualche pergamena ninja sì sì è quel segreto che ti rende invincibile a questo punto si diceva sui social in questi giorni quando si aspettava di vedere lo scontro Totem e Zeta che questo scontro sarebbe stato un po' come un gladiatore contro un samurai eh sì e devo dire che qua il samurai sta sta veramente spaccato tutto il samurai è una katana che affetta qualsiasi cosa la gente la gente è quasi sbigottita da da queste anche Frank è lì che guarda e dice ma è possibile guarda Sitte Tampo però come è concentrato dai comandi a tutti sì 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 e si copre la voca esatto comunque c'è una particolare attenzione sì sì come se tutto il resto del mondo capisse il giapponese in realtà potrebbe parlare anche a bocca aperta e far capire il labiale non si capirebbe comunque magari c'è qualcuno che che ha studiato apposta però sì 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 però è molto difficile sicuramente se fosse c'è questa cosa fatta da un inglese avrebbe diciamo per noi un pochino più senso però questo fa capire come dicevete l'attenzione ai dettagli di questo team sì sì qualcosa di pazzesco e vincono anche comunque su rapina nel mentre che noi parlavamo non ha concluso anche rapina non lasciano scampo vanno sull'ultima modalità che sarà KO ragazzi forse quella dove potrebbero essere più schiaccianti e guarda il DPS di Sidetampo che di poco lo rende quello con il DPS in campo più alto veramente di poco il 3 3 di DPS 3 DPS lo rendono più forte i Bobby ma in realtà anche Bobby si è avvicinato molto al suo livello è impressionante però il loro rendimento comunque 6 kill sia Persidetampo che Mojagoku dall'altra parte un po' a scaletta anche per come li hanno messi molto carina questa cosa che è successa partendo da sinistra Bobby 5 ZAR 4 e OG 2 mamma mia veramente veramente pazzesca questa cosa e ripeto sarebbe interessante andare ad approfondire questo discorso di come giocano cioè questo questo modo di giocare questa cosa frenetica di togliere e rimettere e poi l'anno scorso c'era un un mio amico che si era accorto a parte lo conosci Trama si era accorto che loro per esempio sull'iPad avevano anche questa pellicola già per far scorrere di più le dita in più usano i guantini proprio hanno zero attrito sì 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 ciò devono stare anche attenti e tu calcola che non c'è magari qualcuno potrebbe pensare magari c'hanno l'iPad no ragazzi nessun player sta utilizzando il suo device no è vero tutti i device guardate facciamo vedere anche dalla cam persino noi caster ah sì facciamo vedere proprio al volo ce la fai a mostrarne uno te facciossi vedere solo uno così persino noi caster abbia c'è scritto clash of clans ma è vero l'ho scoperto adesso tra l'altro infatti comunque sono iPad ovviamente non questo qua in questo caso ma iPad che vengono dati apposta a tutti i giocatori in questo caso anche i caster e tu calcola che quindi nessuno può portarsi tra virgolette il tablet a casa con uno potrebbe pensare qualsiasi cosa no? si pellicole o chissà quale ingranaggio strano no ragazzi è proprio ti do io il device e tu fai il miracolo infatti come vedete tante volte nelle inquadrature si è visto il pezzettino di scotch con il nome del player segnato sopra si ma magari uno potrebbe pensare che arrivi lì col tuo device ti fanno un controllo anti-dopping sul device bellissimo bellissimo e ti mettono il certificato invece no lì proprio ti danno loro il loro device tu devi usare quello lì e e quindi è pazzesco è pazzesco si è pazzesco e guardiamo quello che potrebbe essere l'ultimo draft si i bann per le Z1 sono Tic Brock e Iris e i bann degli stamina non posso notare che non sono un po' particolari non si è mai visto è la prima volta viene bannato sia Grom il Tic e il Semino che su goldarmagalce siano così pericolosi per loro tutti i trower vedremo non lo so sinceramente non credo se posso sbilanciarmi però loro forse vogliono facendo così andare a giocare totalmente sulle skill allora a quel punto si che vengono i problemi l'unica cosa quello che mi fa un attimo ben sperare per gli stamina è che sono riuscito a prendere la Piper insieme al Bo ricordiamo Bobby il turno precedente con Piper ci ha regalato veramente delle emozioni importanti ci sta comunque andare ad affrontare a muso duro sulle skill però abbiamo visto che quelli che le hanno scalfiti più alla fine sono stati i Chasmac e i Totem che non per essere di parte ma obiettivamente hanno giocato molto più sulla scelta dei pick si si infatti non so se sarà una buona scelta andare ad affrontare così lo vedremo tra pochissimo nemmeno un minuto e comunque la comp di Z a chiudere Janet ancora Lotus un'altra volta l'ennesima volta e lo Squeak wow Squeak anche qua pericolosissimo perché rallenta e poi ha la possibilità di prendere delle kill o di far fare delle kill ai suoi compagni molto molto importanti ragazzi sono ripartiti subito hanno la torretta di Bo vogliono farsi la ulti vediamo un pochettino cosa devono stare attenti quelli di stamina perché rischiano di essere schiacciati sono schiacciati rischiano di essere schiacciati tutti e tre in tempo record arriva comunque ancora una volta questo Squeak come se si volesse giocare più per zonare che si loro magari puntano alla fase finale della partita anche se da come si stanno comportando secondo me la partita potrebbe finire anche un pochino prima della parte finale però vediamo vediamo nel frattempo in questo possibile ultimo set si sta preparando l'ospite ragazzi che vedo vedo è arrivato gli facciamo anche un salutone e che ospite ragazzi qua poi gli faremo dire la sua su questo sconto sì sì poi avremo tempo di parlarne e sono curioso di chiedergli un paio di cose dal palco se si vede che questi Z sono incredibili sì ragazzi sì veramente veramente qualcosa di assurdo hanno subito vinto il primo game eh sì e vanno dritti verso il secondo la chat continua a dire distrutti continuano a dire che questo è un match a senso unico e a una certa io non riesco più a smentire no ragazzi è difficile anche rimanere proprio non neutrali ma quasi non lo so neutrali forse è la parola giusta anche perché gli Z si stanno dimostrando sempre di più uno dei team mi dico a momenti quasi impossibili da battere subito subito contro i Chasmac sembrava contro i Totem e veramente c'è stato il dubbio che potessero perdere e poi ragazzi sono partiti non si sono fermati più però a questo punto non lo so l'ultimo baluardo veramente sono i tribe a questo punto eh sono i tribe perché li stamina piano piano li stanno smontando set dopo set vediamo se adesso perché attenzione Mojagoko butta un una ulti sul sulla torre sul gadget ma c'è niente da fare deve già pari in avanti nel finale riescono sempre a trovare il varco io non ho parole anche il pubblico mi sembra un attimo stunnato da questa performance io credo che il match dei Totem come tutta questa live vada vada poi rivisto questa live verrà ricaricata io la ricaricherò integralmente sul mio canale YouTube si si vai poi arriveranno tanti contenuti grazie a questo mondiale anche perché sia la prestazione di Totem che questi Z vanno un attimo analizzati cioè qua veramente abbiamo visto qualcosa di assurdo e continuiamo a vederlo anche perché io a questo punto vado poi avanti nel tempo ma immaginatevi cosa succede cioè cosa succederà se arrivano in finale entrambi gli Z cioè che partita sarà quella non lo so non lo so io davvero a questo punto spero che gli stamina riescano a rivaltare a fare almeno un set pure loro ma bello però il gadget di Bobby abbastanza importanti si si assolutamente però qua la superità numerica l'hanno presa e potrebbero prendersi almeno un punticino nel set di KO eh si ragazzi arriva il jump di Bobby per andare a fare la rottura e riescono a andare a killare attenzione il Mojagoku riescono a fare il primo punto si si il Mojagoku che se ne va silenziosamente per non far caricare le ulti vediamo vediamo effettivamente magari potrebbe essere l'occasione potrebbe essere l'opportunità di vincere un game un game e magari puoi puntare al set vediamo vediamo hanno mettono c4 gli stamina eh si e comunque l'approccio proprio degli z lo vedete è veramente aggressivo loro cercano proprio l'ingaggio con gli avversari si ma puoi comunque notare come ad esempio in questo in questo frangente si detampo abbia schivato contemporaneamente il colpo di Bobby sulla gittata quindi avesse pienamente idea di quanto era lunga la gittata di Piper e al tempo stesso eh abbia schivato anche il colpo di Penny che era proprio lì di fronte a lui e si è messo dietro un muro cioè ha beccato proprio che il punto cieco è si detampo tra tutto si è parato anche dal colpo di Bobby con il gadget vabbè anche lì non diciamo nemmeno perché ormai è scontato con un tempismo perfetto non ne sbaglia una questo ragazzo impressionante però attenzione che Mojagoku è un po' in difficoltà e va giù è superietà numerica per stamina potrebbe essere la volta buona e Kenji da solo fa il jump Bobby e riescono a prendere un punto attenzione perché qua potrebbe cambiare qualcosa eh si eh si qua potrebbe cambiare qualcosa non so che cosa esattamente hanno sbagliato di Z perché comunque come comp c'erano qualche piccolo aggiustamento uno spiraglio di luce c'è vediamo gli OJ c'è gli OJ gli stamina cosa ormai si è fuso sono partito gli stamina cosa riusciranno a fare vediamo 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 però è lo start questa volta l'aggressività di Z1 questa volta porta subito a una kill e addirittura forse alla seconda perché OJ ha 350 di vita e sono veramente in difficoltà anche perché hanno un sitetampo lì a destra molto pericoloso e oltretutto io non so come abbia fatto a predictare anche il colpo di Bobby separato anche con il gadget questo ragazzo è qualcosa di incredibile pazzesco ragazzi continuiamo a vedere questo dito di sitetampo su in basso sinistra si che continua a fare veramente strana questa cosa a momenti sembra quasi un tick invece lui proprio è allucinante guardate OJ che prova l'ingaggio tra l'altro con l'indice user gadget si è visto proprio adesso quello non so se te l'avevo detto negli altri giorni si tanti hanno cominciato a giocare così infatti proprio dalla sistemazione dei tasti si vede che il gadget lo mettono praticamente quasi a metà schermo perché giustamente non puoi tenere troppo le dita piegate se no non riesci a giocare bene pollice indice esteso e il gadget perciò è qua su in alto pensate che roba pazzesco ragazzi è per avere la massima reattività perché con il pollice si va a usare ulti e movimento giustamente sì sì no ma avevo già visto seguendo alcuni ladder warrior più che competitive qua devo essere sincero però che avevano il gadget tutto spostato su e quello è il motivo e beh qua comincia a sentirsi quella che è la dinamica di diversi giochi mobile che cominciano ad avere i tasti che si allontanano dalle posizioni convenzionali anche perché con tre tasti si può già creare un qualcosa di particolare una build personalizzata e questa cosa già dell'indice insomma fa già capire no che si può modificare un po' eh sì ragazzi assolutamente attenzione però è bello perché Zara ora è incastrato nel gadget riesce ad uscire ma guarda arriva sit tempo un po' di mine un po' di bombardamento tutte le parti ma guarda che ce la potrebbe fare Bobby oddio one shot e Bobby riesce ad andare a fare la kill il miracolo dopo un jump tra l'altro il miracolo di Bobby aiutato ovviamente dal suo team e qua ragazzi si riapre tutto perché se qua vanno a vincere gli stamina possono andare a prendere il set è vero set point stamina attenzione a set point stamina sembrava tutto finito invece qua si sta ribaltando signor Ferre ma siamo anche al match point di Z io nemmeno me ne ero accorto siamo anche al match point di Z sono al tutto per tutto sono al tutto per tutto qua ragazzi di Z la lasciano sarebbe assurdo oh Bobby hai visto che stava facendo un gadget su Kenji momenti lo tirava giù si era preso il muro al pelo è proprio stava rischiando la giocata ha rischiato se andava giù Kenji prende la superiorità in America era fatta vediamo un po' qua il rischio è veramente tanto Bobby sicuramente sta tragiardando come non ha mai tragiardato in fida sua attenzione a Zar che rischia di andare giù ragazzi il C4 mamma mia se prende il C4 attenzione perché qua arriva il tutto per tutto sta arrivando la safe qua si deciderà chi vince e Wanshotel riesce a volare via e attenzione e oggi qua ragazzi uno più uno Bobby si detempo ragazzi attenzione Bobby il jumper riesce a vincere ce l'ha fatta ce l'ha fatta Bobby con la ulti di Piper ma cosa ha combinato due volte via ragazzi Bobby con la ulti di Piper riesce a killare il sito e tampo lo schiaccia giù non lo fa muovere cosa ha combinato Bobby in due finali sempre più incredibili mamma mia ragazzi mamma mia ragazzi tra l'altro i caster qua vicino sentiranno solo dei gran mamma mia esatto sono proprio italiani mamma mia ragazzi vabbè già in meme diventerà sempre di più comunque è assurdo il team che sta dominando questo mondiale e anche lo stesso team che in tutte le partite non ha fatto neanche un 3-0 si è sempre preso un set che comunque si prendono sempre i loro tempi devo dire che Stamina per riuscire a strappare un set a Z ha dovuto sfoderare anche quello che non hanno cioè ragazzi sono servite due magie di Bobby che comunque era il player che aspettavamo qua su K-O con Piper proprio lui infatti ha deciso cioè guardate qua comunque meno male che c'è stato questa gomitata questo colpo di reni da parte degli Stamina perché veramente l'ultima partita sembrava aspettare c'era già l'ospite pronto stava già per saltare però non gli dispiace di aspettare perché giustamente almeno si riapre un po' la situazione è uno spettacolo ragazzi eh sì 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 cioè veramente da vedere è stato incredibile e poi devo dire che un 3-0 non avrebbe reso giustizia esatto all'Istamina poverini e qua comunque vediamo un po' di statistiche vediamo che alla fine comunque anche le statistiche danno ragione al risultato che c'è stato quindi quindi ci sta assolutamente devo dire abbastanza bilanciate le statistiche Bobbi è sempre in pari con uno dei degli Z praticamente Bobbi abbiamo capito che è l'ancora di salvezza del suo team quando lo metti con Piper è una sicurezza io ti dico se l'Istamina perdono metto comunque Bobbi come MVP allora diciamo Bobbi solo per essere riuscito a fare quelle due magie lì e aver preso il set della bandiera per il suo team merita l'MVP a mani basse assolutamente e adesso ci presenta stesa no degli scarafaggi va bene due l'invito ragazzi i band da parte dell'Istamina sono Buster Semino e Brock dall'altra parte invece Otis Janette e Gas attenzione Stamina che si ricordano giustamente la prima partita di esordio dell'Izeta One con quella combo incredibile Gas Carl che ha distrutto letteralmente un team e allora a questo punto dicono ma sarà meglio bannarlo uno dei due sì sì assolutamente tra l'altro ragazzi arriva anche il primo pick da parte dell'Izeta che è un appenni assolutamente e giustamente di controbattuta arriveranno il secondo terzo pick per Stamina devono mettere Wallbreaker ci va un Brock che è prebannato quindi ci va un è qua Griff però Wallbreaker scelgono subito il Griff vediamo anche perché qualche long range è rimasto ricordiamo che devono stare attenti che questa mappa può essere giocata anche tutta dalla distanza e poi i problemi aumentano esponenzialmente vediamo cosa si inventano anche perché qua la responsabilità del coach Stamina è veramente belle libera c'è belle libera c'è ambra libera c'è anche lui lui libero che è molto fastidioso secondo me potrebbe essere quel pick che ti dirò è Squeak invece la scelta ma sai forse perché per toglierlo all'Izeta perché le due partite che questo Squeak gli sta dando un fastidio tra l'altro Squeak è un brawler che in realtà solo da parte dell'Izeta ha avuto tutto questo sì c'è per assurdo hanno cominciato a usarlo all'Izeta hanno condizionato gli Stamina e hanno dovuto metterlo pensate l'influenza di un team in due partite sicuramente l'avranno preparato un minimo però insomma assolutamente assolutamente vediamo adesso la chiusura del draft da parte di Zeta ed è Meg la scelta la Meg ma ti dirò non ce la vedo troppo però qua nel senso è forte però era più sicuramente per il Ring of Fire esatto il Ring of Fire anche Inzo ha apprezzato veramente tanto la combo che sono riusciti a fare con Meg a un certo punto si è schiacciato tutto il team da solo sì esatto diciamo che lo dovevi apprezzare per forza un pick del genere perché è riuscito a fare qualcosa di clamoroso questa volta forse potrebbe non essere così devastante ma ricordiamo che se quella Meg sarà per un'altra volta si tetampo chi può dire che non farà un devasto ah e c'è il Poccio ragazzi e ma allora ti direi a questo punto però se forse perché per togliere la torre per impedire di counterare la torretta di Kenji ma ti dirò io a questo punto il Lu ce lo vedo sempre di più secondo me è un pick fantastico contro questi si costringerebbe tra l'altro Moya Goku a mettere il secondo gadget insomma rischierebbero che Lu comincia a farmare ulti su ulti però poi io giustamente sono qua che commento da casa Carlitos non lo so non lo so vediamo potrebbe essere pericoloso se va a intercettare il Poccio che giustamente cercherà in tutti i modi di aiutare la Meg bisognerà vedere come se la giocano ora ragazzi è tutto i pick sono stati decisi è tutto in mano a quei sei player che vedete inquadrati in questo momento e oltretutto ancora una volta Stamina si gioca la possibilità di andare avanti eh sì ragazzi Stamina adesso ha veramente l'occasione ricordiamo ha buttato già fuori il team più forte della parte Latam Sud il team Clash e questa è l'occasione per buttare fuori anche il team più forte della parte Est Asia la parte praticamente il Giappone insomma per farla per farla semplice lo start per il team Stamina è direi perfetto non c'è stato ancora non abbiamo ancora visto uno start così da parte loro forse stanno facendo quello che hanno fatto gli Z fino adesso cioè si fanno schiacciare prima e poi danno esatto potrebbe essere che non è nulla di diverso da quello che hanno fatto prima col Team Chieso ricordo tra parentesi che poi non so se l'hai detto perché ero un attimo a bere un goccino di tè la Meg non è Sidetampo è il Pocho non l'ho detto infatti sì noto anche questa cosa il Sidetampo è con Pocho e dovrebbe avere un bel deficit sulla gittata eh sì oltre tutto a campo così aperto tra l'altro vanno pure a pushare con la ulti di Karl ragazzi attenzione guarda che sai che eh che gli Stamina hanno una bella occasione qua eh sì qua c'è l'occasione qua si spalanca un portone per Stamina eh qua un po' un errore però da parte è rimasto in range del Pocho giustamente Sidetampo non è che era lì a guardarlo è andato subito a prendere la kill e vediamo però che Z adesso si piazza veramente in maniera molto solita ma qua Sidetampo va giù ah usa ancora un gadget prima di andare giù però eh sì 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 ha smarcato i suoi compagni attenzione qua Moia Goku tra l'altro gadget perfetto di Bobby sul mid che va a rallentare e spottare un cispule veramente fastidioso è partita una falciata a Moia Goku così randone ma hai visto che Sidetampo è entrato un attimo nel rallentamento di Squeak e ha usato comunque un gadget per levarsi da lì ah proprio per levarsi quel secondo di rallentamento è usato un gadget e qua ragazzi se la giocano tutto per tutto proprio all'ultimo percentuale potrebbero concludere l'istamina gli manca il 5% incredibile e l'istamina ti suona ragazzi l'istamina sul set point per recuperare mamma mia ragazzi ma sarà un po' che questo ospite porta fortuna agli stamina resta lì non ti muovere stai fermo che quando sei entrato sta vincendo fermo eh ma dove era quando giocavano i totem mattacci sua veramente cioè incredibile cioè c'ha proprio un'aura un'aura così un'aura potentissima allora ragazzi vediamo qua lo start però è tutto tutto z sì 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 lo start è tutto z e comunque devo dire che la comp degli stamina sta funzionando comunque tutto sommato veramente bene ho apprezzato anche quel carl che eravamo un pochino in dubbio e soprattutto il griff si sente che è veramente forte contro Pocho qua vediamo che gli z però hanno uno start imbarazzante ragazzi già il 50% e stamina non ha ancora toccato la zona e non la tocca lo falcia sulla riga l'ha falciato proprio lì sulla riga proprio appena si è mosso un attimo oggi riesce anche a fare un push dallo spawn del team z ma viene subito ma io mi chiedo ma cosa è successo cioè si può vincere un game e quello dopo prendere potenzialmente il 100 a 0 ha fatto un per cento della bandiera ragazzi ma cosa è appena successo cosa è appena successo ma come si fa hanno vinto con un 20-25% di scarto prima e adesso hanno fatto un per cento a malapena perché si è proprio lanciato cioè veramente che partita che hanno appena fatto potrebbero optare a sto punto per una doppia rottura ma non so non so veramente guarda qua come guarda vedi utilizza subito il gadget per andare a perdere quelle per non farsi rallentare qualsiasi secondo è importante ma è assurda sta cosa qua mi sa che infatti Monagoku va alla caccia di tutto il team stamina impressionante la cattiveria che stanno utilizzando ma c'è ancora ZAR c'è il push qua di ZAR molto bello la doppia ragazzi attenzione di ZAR e qua prende un bel punteggio ragazzi un bel valore più che altro il Carl e qua fa avanzare tutto il suo team una doppia fantastica anche perché e pusha pure ancora guarda sul Carl sul pocio e qua vediamo un po' se si detampa non lo usa il gadget ha preso anche un colpo però vedi che comunque alla fine il gadget su un po' di rallentamento ci sta comunque non è una cavolata eh sì 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 poi quando ti chiami si detampa va bene un po' tutto e poi ragazzi c'è la key di ZAR comunque sempre con Carl molto bravo diciamo che ZAR ha preso il via ha preso la rotazione giusta e sta facendo una performance incredibile è lui che sta carriando ma sta mag continua a pushare veramente troppo eh Moyagoku adesso è di nuova alla ricerca del tutto il team Stania deve aprire tutto deve aprire tutto ci vuole una rottura anche a destra a sto punto perché guarda dal pocio quanto valore riesce a prendere a destra eh guardalo non si passa con così poco spazio a disposizione non è riuscito a utilizzare la ulti rimane solo Kenji che non so se piazzerà il mortaio esatto piazza un bel mortaio sì sicuramente quello è un problema quello è un problema grosso e qua ancora una volta si giocano tutto per tutto anche perché Z1 ricordiamo che sono sul match point ragazzi Siedetampo che ancora va giù e Stamina che recupera manca al 2% per recuperare e mettere ancora più pressione addirittura ora passano in vantaggio di Stamina riescono a passare sopra ma eh Siedetampo e Kenji arrivano recuperare di nuovo ancora gli Z è tutto un comeback del comeback arriva la ulti di oggi molto precisa ma non vanno giù i ragazzi di Z1 e qua c'è la kill la doppia e c'è il full team praticamente a parte di Z che riescono a vincere la semifinale la prima semifinale di questa Brawl Stars World Final e allora lo possiamo dire ufficialmente uno dei due team Z a prod in finale il primo team Z il favorito arriva in finale come predictato praticamente da tutti i caster del mondo penso che era il predict più veramente una differenza di livello assoluto comunque molto rispetto a parte il team Z che vanno subito a stoniggere la mano molto molto rispettosi stamina assolutamente una grande lezione per guarda addirittura un abbraccio che sappiamo che insomma in genere giapponese è vero in Giappone infatti molto rispetto in questo caso da parte di Z ma ovviamente anche gli altri guarda come ormai è diventato a suo agio ragazzi è diventato europeo è a casa è a casa l'anno scorso era tutto tutto precisino invece quest'anno mamma mia ha già preso confidenza e ci sta ragazzi è arrivato quel momento è arrivato quel momento di far entrare l'ospite tanto nel frattempo finalmente facciamo fare una pausa al signor Fere che qua l'ultima pausa prima della semifinale poi mi hanno detto occhio cosa succede dopo la semifinale mi hanno detto così mi hanno detto occhio ma facciamo entrare un ospite no 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 occhio occhio cosa succede allora va bene allora noi aspettiamo io Dani ti saluto ci vediamo tra poco sì io aspetto solo un secondo che l'ospite si prepari e poi vedrete ovviamente chi è tanti di voi l'hanno indovinato era penso la persona più attesa l'aspettavate veramente mi sentite ah eccolo e allora ragazzi ve lo andiamo a mostrare attenzione oh siamo a schermo ciao ciao bellissimi ciao ci stanno divertendo vedo la chat super coinvolta raga io ho provato ad emettere vibes positive per gli stamina ma questi Z questi Z sono imbattibili mamma mia che squadra che team quindi nel senso poi sentivo le vostre spiegazioni Sidetampo era nel team l'altro cioè negli no negli zero no diciamo che l'anno scorso i Z l'org aveva un solo team erano tutti insieme insieme agli altri due che stanno nell'altro nell'altro e poi si sono divisi e pensa a te dividendosi sono riusciti a creare che ci sono stati dei litigi delle trame sotto oppure hanno proprio detto proviamo a fare due team cerchiamo di battere tutti con due team penso di preciso non si sa ma comunque se fanno così possono fare un po' quello che vogliono nel senso c'è la possibilità di vedere una finale ZZ è quello che hanno detto tutti appena hanno visto il bracket che i due team Z erano nei due nei due lati opposti hanno detto potrebbe arrivare la finale così mamma mia assurdo assurdo diciamo ne perde un po' lo spettacolo un po' mi dispiace mi dispiace tanto anche per i totem perché vincere il primo match spaziale bellissimo il secondo era tosto perché era dominio forse la comp degli avversari era un po' migliore si ha detto anche Inso che con i pick non sono stati troppo la footbrawl io ci speravo erano partiti bene penso sia stata una delle partite più belle eh sì però forse qualche push un po' troppo frettoloso è vero che giocare partite in una situazione del genere con un pubblico del genere si sentono proprio le aole stile stadio è bellissimo hanno detto che anche loro dalle cuffie se il pubblico alza alza tanto la voce sento tutto è vero che in quel momento stai focalizzatissimo cioè proprio non senti niente stai concentrato sull'iPad giochi ho visto player che c'era addirittura con l'iPad non poggiato ognuno c'era il proprio comfort però tanta roba veramente tanta roba complimenti complimenti comunque per essere arrivati qui all'ultima giornata alla finale e sì hanno fatto un partitone c'era ovviamente tanto tifos anche poi sul cane di Ferre ma chi io abbiamo urlato siamo finiti nelle storie di Brawl Stars Esports e altri che non si possono nominare purtroppo che urlavamo sì ci credevamo spettacolo però si dettavo tanta roba cioè non ho mai visto un player del genere sono sincero e su rapina si è visto solo lui con Buzz andava da una parte a un'altra stundi questo ma anche con Ems cioè in un momento sparava ulti all'infinito le caricava colpiva ovunque si detappo secondo me uno dei migliori in questo è l'unico che si fa sempre riconoscere ha cambiato diversi brawler perché oggi ha usato diversi l'altra volta praticamente era monocarl oggi Ems l'hanno bannato nel senso che questa volta non l'utilizzo però non è bastato perché anche con Meg in dominio colpiva dall'altra parte della mappa cioè colpiva gli stamina che stavano già avanti a un certo punto come ha detto Ferre tante volte lì su dominio a un certo punto era lui da solo che teneva tre dei totem insomma non è che sono l'ultimo team arrivato veramente ragazzi veramente un peccato come dicevamo perché nei quattro quarti c'erano per ogni quarto un team europeo tutti fuori una alla volta un grande peccato magari sarà per prossimo anno sbagliando dagli errori si tra l'esperienza speriamo speriamo anche perché abbiamo preso una batosta perché insomma quattro scontri quattro sconfitte diciamo anche il bracket non è stato tanto favorevole perché ti incontri subito gli z soprattutto totem insomma hanno peccato il team palesemente ti dice male magari in altre situazioni in semifinali potrebbe essere diverso perché sottovaluti di meno stai più concentrato ci stanno tante varianti anche perché prima o poi loro li devi trovare loro vanno avanti attenzione siamo quasi pronti qui no no ci abbiamo ancora ci abbiamo ancora un pochino comunque sì sì stanno presentando stanno presentando i team quindi ora sono rimasti gli z a zero ci abbiamo z a zero contro tra i PNA che oltretutto anche lì SK che ha giocato fino all'ultimo sì sì pensavo che forse cioè che fosse l'unica Kriptonite Ghiglia invece non è passato neanche Ghiglia e invece non è bastato nemmeno lui oltretutto tra i due team non scorre nemmeno buon sangue ma già sono uscite fuori delle meme che veramente ragazzi la sportività sotto i piedi però è stato un bel match è stato un bel match c'era una bella carica SK io li confondo sempre perché prima gli SK cioè Ghiglia stavano nei clash sì 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 sono state poche modifiche hanno fatto in un anno sono cambiate tante cose sì 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 è sempre stato affezionato a Ghiglia mi ricordo i vecchi mondiali ulti meravigliosa di Ghiglia era diventato un meme io sono super affezionato c'è anche io super fan da sempre di Ghiglia perché lui si è fatto riconoscere sin dall'inizio che era diventata quella master piper la tara si è fatto subito riconoscere il vecchio meta il vecchio meta e purtroppo è cambiata la situazione cioè non si vedono più mortis brawler si cerca di stare un po' più safe ho visto un semino che gestiva tutti ti zonava tutti cambia ragazzi il game cambia 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 e anche io devo tornare sul pezzo perché parecchie trame parecchie situazioni non le riconosco anche con tutti questi nuovi brawler ho visto Otis Gas che sono stradilizzati Otis penso sia il brawler che è stato più scelto è sempre lui però non lo bannano non lo bannano infatti sono cose strane vogliono farlo giocare ma è veramente fortissimo poi ha quella meccanica della ulti che disattiva per qualche secondo ma anche Buster che è l'ultimo uscito comunque l'hanno utilizzato l'hanno utilizzato pure Totem c'è una meccanica importante riflette tra l'altro è uscito Buster c'è sta anche il Monaco che più o meno riflettono tutti e due Clash Royale e Brostar ora c'è quella meccanica si riflette bisogna riflettere no incredibile incredibile penso che lì ovviamente te che sei che lo puoi guardare dalla tribuna è tutto aumentato bellissimo tutto quel tifo non so come è possibile se sopportati così tanti fan cioè Tribe SK avevano tutte le magliette tutti quelli che stavano sugli spalti o erano Tribe SK poi c'è quel gruppo di Z con le palette tutti contenti infatti a fine vincono tutto loro esatto io provo a gufarla ma non ce la fanno che poi abbiamo detto giustamente essendo anche al mondiale se Z piazza come org entrambi i team in finale ci portano a casa una quantità di soldi imbarazzante incredibile secondo te è possibile un biscotto oppure conoscendo gli orientali fiscali fino alla fine si mena infatti abbiamo già detto con Ferre ma cosa succede se poi arrivano entrambi che cosa fanno magari stanno lì iniziano a giocare potrebbero mettere pure brawler stranissimi magari fanno delle partite con gli arti potrebbe diventare una scrivera di loro guarda a che punto sono arrivati vedremo morti rosa il primo brawler poco utilizzati cioè sono arrivati al punto che possono anche quasi mettersi d'accordo su cosa veramente troppo troppo forti questo mondiale è andato così ragazzi il prossimo mondiale tutti i team italiani andiamo in finale e via clash totem è tanta roba tanta roba ma bisogna battere questi qua sì sì ma ancora comunque ci sta una partita sta per cominciare drive ormai è Giappone contro Zulan che alla fine della partita contro ISK ha fatto una sorta di movimento snake insomma la sportività non era proprio il top però magari adesso stanno motivatissimi che hanno vinto contro gli SK ma sicuramente sono super motivati oltretutto non c'è stata nemmeno una stretta di mano tra Zulan e Ikaos perché non si possono vedere questo non lo sapere eh sì 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 io pensavo con l'altro Symantec anche Symantec molto estroverso sì ma tra Zulan e Ikaos c'è stato eh sì 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 c'è stato dal mid season qualche attrito e infatti le risultate anche per quello eh sì 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 sconfitta pesante questa per SK quindi aspettavano questo palco per potersi sfidare fare la resa di conti esatto il bracket li ha anche abbinati eh certo quindi si prospettava insomma questa sfida erano pronti per darsi battaglia e l'abbiamo vista l'abbiamo vista insieme eh sì sì e invece adesso l'unica speranza per tutto il resto del mondo sono dei drive perché qualcuno li deve battere questi giapponi no speriamo dai almeno vediamo un po' di insomma belle partite sul finale veramente speriamo che non ci siano biscotti e cose mistiche perché perderebbe valore eh sì proprio la finale ma ripeto conoscendo gli asiatici eh no no nel senso non c'è trippa per gatti questi giorni erano fino alla fine era più facile che succedesse con magari team europeo esatto esatto loro ci regaleranno sicuramente delle belle emozioni sì 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 belle partite va bene io vi saluto ragazzi è stato un grande onore vi voglio bene a dicembre torna a brawler ragazzi io lo spero l'importante è che ci divertiamo tutto può succedere voi utilizzate i codici i gradori nostri supportate ci lasciate like iscrivetevi siamo sul pezzo eh certo c'è pure quello player di ah tra l'altro sono ferre worka in questo esatto che onore incredibile sono ferre è un po' di buffo c'è infatti c'è il buff è vero eh sto copiando lo stile di ferre e giustamente ferre che è qua dietro a prova ti piaccio ferre? rico worka sono io sono io rico worka è ferre bene ferrax ragazzi io vi ringrazio tantissimo siamo pronti per la partita vi mando un bacione in bocca al lupo per ultima semifinale finale sì sì poi tanto ci vediamo post ebbè ricordiamo ricordiamo che dopo questa partita potrebbe succedere qualcosa è vero è vero ferre con gli spoilerini attenzione non so niente ragazzi spoilerini rimarrò a vedere la live mi dicono che non dovevo dirlo mi sta facendo segno così da dietro le quinte roba seria rimane di live non provate ad andare via eh no no non ci provate anche perché il prossimo annuncio poi ferre non torna bene ferre con la skin di grax questa è bellissima un saluto ragazzi ciao a tutti ciao eccoci eccoci sta arrivando di nuovo è atterrato sulla sedia ragazzi ci siamo ha perso no ok ha perso un pezzo aveva perso aveva perso dei power up il sabotaggio ok ragazzi ci siamo sta per cominciare la seconda ultima semifinale l'ultimo paluardo per sconfiggere questo samurai è un texano è un cosa può essere un indiano d'america bravo un indiano bravo un indiano vediamo se quindi metteranno delle frecce per adesso ci sono solo i pugnali cioè crow si vede che è tornato si sente che è tornato a ferro ragazzi si sente si sente ragazzi ho rimesso la skin base e e vediamo vediamo questo draft oltretutto tribe che va a bannare la mag non si sa mai che i due z giochino in maniera simile che non ti piacciono la mag anche loro nel dubbio la vanno a bannare soprattutto però z eccoli questo ragazzi è proprio lo stile z arriva l'otis e arriva il gas io ho una paura che diventi un z0 contro z1 questo mondiale che non hai idea ci sono buonissime probabilità come dicevamo con grax c'è la possibilità e oltretutto le uniche speranze sono rimaste nei 3 BNA a questo punto tutto il mondo ti fa loro o quasi adesso ragazzi veramente tanta roba io prima di cominciare questa semifinale vi martellerò un po' in questo nel prossimo scontro vi ricordo visto che è stato nostro compagno per non questa live ma per due anni di passare anche da Daniele a mettere un bel follow tra l'altro ci chiedono chi inizia la mischia con la super giacarica Sam lo dico già Sam mi raccomando passate a Daniele mettete un bel follow è gratis se ci state seguendo dal sito venite su Twitch scrivete Ferre scrivete PlayerD ci trovate ci mettete un follow ci fate un sacco piacere ci fate capire che insomma tutta questa voce che se n'è andata insomma è servita a qualcosa è servita a qualcosa e ovviamente vi ricordiamo che potete anche avere molto di più se avete Amazon Prime è tutto gratis ovviamente potete fare un login con Amazon Prime e con Twitch al punto esclamativo Twitch che vi farà adesso un modellatore in chat e vi potete abbonare gratis a uno dei nostri canali ogni mese super easy e ci supportate ovviamente più facile di così ci supportate veramente tanto quindi mi raccomando se ne avete la possibilità fatelo perché poi vi mandiamo un saluto nel frattempo si è conclusa la fase di draft i ban sono Meg, Bea e Pocho dall'altra parte invece Tribe Gaming NA con Max, Squeak e Meg bannati e ora li vediamo scendere in campo e qua abbiamo le comp e qua abbiamo le comp finalmente vediamo Ambra tra l'altro la prima Ambra è vero è vero la prima Ambra ma io sono già spaventato dalla combo possibile di Tensai con Kuru perché quella Bonny potrebbe diventare un cararmato o addirittura Otis potrebbe diventare qualcosa di incredibile la comp di Z non c'è niente da fare a me piace assolutamente sì qua vediamo Tensai sul mid che prende subito una padronanza pazzesca ragazzi della situazione e ritorna il Team Tribe che comunque si riposiziona si ricompatta prima di pusciare però però ragazzi comunque sia la situazione pende totalmente da parte dell'Iz gli Z hanno già un vantaggio veramente grande sono già al 54% praticamente hanno un 50% di distacco che li permette insomma di pusciare in maniera molto molto aggressiva e non vediamo la reazione di Tribe anzi è molto molto difficile nel frattempo ragazzi Kuru sulla line di sinistra con la sua Bonny utilizza anche un gadget per prendere velocità e andare via come vedete fare subito una buona resistenza al push di Tribe e ragazzi che dire qua veramente è qualcosa è qualcosa di assurdo guardate guardate come come se la stanno gestendo qua c'è pure il jump da parte di Kuru potrebbe trovare la doppia jump di Kuru già in predict di un'Ambra che poteva fuggire gli ha lasciato 3 o 4 caselle di vantaggio perché ha detto prova a scappare che tanto ti raggiungo lo stesso è proprio è vero ha anticipato anche il movimento sì sì voleva che rimanesse lì perché sapeva che o l'avrebbe chillato lui o portandola nel mid l'avrebbe preso il suo compagno di squadra cioè cose dell'altro mondo sì ragazzi la win è davvero super schiacciante abbiamo il Giappone che sta impazzendo in campo non ci credono neanche loro sembra un sogno Danilo sembra un sogno un incubo non lo so poi anche Grax guardando la partita dagli spalti diceva Tribe a mani basse insieme a SK le org con più tifo perché ci sono tante persone nel palazzetto con magari pin maglie e poi ci sono quella decina di persone con la maglia e i pin di Z ogni tanto si alzano e tifano e poi tanto è quella che se la ridono più di tutti c'è da dire un paio di cose la prima è che un org come Z comunque arriva dal Giappone quindi ha molto più strada a fare rispetto a un Tribe che si arriva dall'America ma arrivano anche dalla Gran Bretagna alla parte anche europea oppure ancora di più un team come l'SK che arrivano dalla Germania sono molto molto vicini e come noi che dall'Italia alla fine abbiamo fatto due rette di volo scarse e siamo arrivati qua e dal Giappone invece già è più complicato questo è il primo fattore e poi una cosa carina che non so se hai sentito sono finiti in una clip di Brawl Stars Esports ah si? si loro con anche l'uomo che non può essere nominato ma aspetta loro chi? e Grax e gli altri il nostro tifo italiano ma io ho scoperto l'altro giorno di essere finito nel tipo post di recap di Paula di Bucharest e non lo sapevo neanche ma? mi ha taggato ma di Bucharest nel mondiale dell'anno scorso nel mondiale di Bucharest se voi andate a vedere il profilo Instagram di Paula e vedete il suo recap di Bucharest ci sono io tipo con lei e Frank mi sembra e così a caso molto bello molto bello l'ho scoperto dopo un anno ma meglio tardi che mai esatto esatto comunque un'altra cosa che dicevo è che i Tribe hanno appunto due tifi americani e diciamo inglesi o comunque sia americani ed europei perché sono due team effettivamente quindi veramente hanno una curva del tifo principale sì qua per esempio ragazzi c'è il delirio ragazzi non ne sbagliano una non c'è niente da fare qua Zulan forse non è così non sarà così carico è veramente la cosa sua e tra l'altro no guardalo Franci c'è Franci e ci sono anche dei tatuaggini sulla faccia di quella ragazza se lo tu hai visto ci sono questi tatuaggini che girano noi ne abbiamo recuperati un po' ah è vero è vero questi qua sono stati consegnati da probabilmente dei signori oscuri della parte coreana sì sì molto gentili tra l'altro sì fantastici e io ti dicevo invece che gli SK però comunque sono un solo team quindi magari hanno meno tifo ma va anche apprezzata questa cosa cioè meno tifo si fa per dire perché comunque sono tanti i tifosi SK assolutamente assolutamente ora ragazzi pronti a parte con questi replay per vedere il secondo set che inizierà tra pochissimo tra Z Division Zero e Trebek Gaming NA vedremo se ci sarà un minimo di reazione dei nostri compagni anzi no dei nostri compagni no magari ma dell'ultimo baluardo lo chiamo così l'ultimo baluardo prima di vedere ragazzi c'è quello che state per vedere in questo in questo live in questo video secondo di quando lo guarderete ecco cos'è assurdo una nazione che domina tutto il mondo c'è la possibilità c'è la possibilità molto molto grande però poi a questo punto mi verrebbe la domanda chi è veramente il più forte Z Division 1 o Z Division Zero perché è vero che Z Division 1 è più forte perché ha fatto più punti ma ne ha fatti tipo 60 ti ricordo esatto diciamo che anche fra di loro a un certo punto sono arrivati tipo a un 60-40 nel senso proprio di punti ti dico preciso no ma dico col fatto che si sono alternati tante volte in finale mensile è diventato tipo 60-40 ogni tanto vincono loro ogni tanto si si alternano per farvi capire ragazzi sono entrambi qualificati Team Z ma il Team Z Division 1 si è qualificato con 1.002 punti ok il Team Z Division Zero si è qualificato con 939 punti è una differenza di 61 più 2 63 punti vuol dire che veramente un paio di posizioni in più cioè un paio di vittorie in più avrebbero vinto cioè un paio di vittorie in più su tutto l'anno dico un paio di vittorie in più dell'anno avrebbero veramente vinto cioè impressionanti impressionanti e allora a questo punto però io direi che un Tribe Gaming NA in finale potrebbe potrebbe starci anche bene ma questi Z Division Zero non mi sembrano molto convinti a lasciare lo spot della finale e oltretutto creare un qualcosa che non era mai stato fatto e sicuramente il Team Tribe cercava proprio questo ovvero piazzare un org in finale più che altro sai cosa mi viene da pensare Dani che il prossimo anno se avvincono veramente gli Z tutto il tifo di Brawl Stars cioè tutto il tifo tutto il le org di Brawl Stars punteranno tutti a battere questi team cioè tutti avranno gli analyst che studiano questi team tutti avranno si è una caccia all'uomo veramente tutti riflettono perché già l'anno scorso avevano attratto parecchia attenzione abbiamo visto come tanti player cominciano a spostare il gadget come fanno loro ma cioè se succede tutto il mondo inizierà a studiare questi team ma immagina comunque in post mondiale essere uno dei sei player di Z immagina le offerte sì è vero anche lei tanti anche lei tanti c'è un org un org come Tribe potrebbe un org come Tribe potrebbe fare l'offerta quella stile stile calcio quell'offerta gigantesca comprano Cristiano Ronaldo della situazione o il Messi della situazione comprano uno dei due team Z per una cifra magari spropositata e fanno fanno qualcosa di incredibile anche perché a questo punto se vuoi portarti in finale mondiale siamo arrivati al punto che l'IZ non li batti li compri eh sì è vero anche quello potrebbe essere assurdo se ci pensi tutta l'attenzione appunto intendevo questo non solo a livello di meta di come giocano ma anche a livello di media diciamo sì di media di brawl mercato diciamo così è qualcosa è assurdo comunque questa è la situazione ban e pick ormai ragazzi li vedete siamo siamo su KO alla luce del sole alla luce del sole out in the open tick non c'è che è sempre sequestrato quel pick un po' più particolare e adesso capiamo un pochettino come si sviluppa vediamo la situazione il ah oltretutto il team Z Division sfodera la stessa comp è pari pari la stessa comp di dominio davvero pazzesco anche questo chissà si sono trovati bene avrò voluto confermarlo devo dire che si sono trovati bene perché già vedere lo start che stanno prendendo a pallate il team tribe è qualcosa di incredibile vedo ferre un po' perplesso no sto guardando come i tribe qua sono andati giù guarda se usava il gadget lo killava pure così ha ritornato il gadget ragazzi senza senso ma ragazzi qua siamo su una semifinale vi ricordo si siamo con un team cioè con due team in top 4 global ma tra i due team sembra esserci un dislivello veramente importante veramente veramente importante ragazzi mamma mia vediamo anche Tensai adesso che si auto si auto mette la ulti e prova il push e qua vabbè ragazzi ma non ne sbagliano una cioè è difficile a momenti anche commentare Z perché non vanno giù non ci fanno tutto quello che devono fare sempre al momento giusto qua potenzialmente potenzialmente di Z qua tanto possono utilizzare tutto hanno già vinto il primo game possono andare già per il punto del si guarda qua si sbilancia uso un gadget ma cioè è assurdo sembra quasi un po' la situazione di prima con gli stamina dove l'abbiamo visti un po' scarichi poi hanno dato quel colpo di coda alla fine speriamo che lo diano anche adesso però mi viene quasi da pensare adesso non voglio proprio che quasi per rispetto degli avversari non li facciano 3-0 li facciano fare un punto non lo so è possibile che non lo so la sparo cross gli fanno fare il 2-0 e poi magari l'1-0 il punto il 7 o i 2-7 è incredibile cioè loro hanno la possibilità comunque di gestirsi il tutto fatto anche in semifinale però eh ma ragazzi io i tribe vi ricordo che hanno abbastanza stracciato gli SK comunque cioè li hanno non stracciati per carità ma li hanno comunque battuti abbastanza bene e qua stanno prendendo delle botte senza senso vuol dire che veramente c'è un dislivello c'è un dislivello pazzesco c'è un dislivello pazzesco e tanti in chat che dicevano no magari Z-0 Z-1 considerano Z-1 più forte di Z-0 ma è già Z-0 ragazzi è il team potenzialmente anche quello più forte eh non lo so cioè è difficile cioè più che altro vorrei capire questa finale come è a questo punto tifiamo per doppio Z non vedo molte molte chance anche se qua i tribe provano un attimo un colpo una reazione vediamo però a Ciapi che danneggia entrambi e ce la fanno ragazzi riescono a vincere questo Bini Game eh sì 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 un bel vediamo se riescono ad andare sull'uno pari un bel colpo un bel colpo di Reni vediamo ragazzi vediamo la situazione comunque non è non è facile eh abbiamo oh e qua però arriva il gadget di Ez Levi una bella kill su Aciapi eh sì sì finalmente la Piper si recupera un po' di vita con con lo scudo eh sì 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 si è sentito finalmente il gadget della Piper che spero aumenti le sue prestazioni man mano eccolo eccolo ok allora qualcosa può succedere qualcosa può succedere qualcosa si muove e devo dire che comunque non siamo gli unici increduli non so se c'è fatto caso appena un attimo i tribe danno un colpo di Reni tutti incastrarsi ma anche il pubblico è tipo così ah ma allora c'è qualcosa siamo un attimo tutti quanti lì sbigottiti diciamo che c'è tutto il mondo che sta guardando in creduli di Z e ogni tanto quando qualcuno fa qualcosa ci riattiviamo tutti rimaniamo un attimo così però Ez Levi qua un'altra bella kill qua parta la grande ma giustamente ci ha abituato anche il team stamina la Piper se usata veramente a livelli diciamo a questo punto quasi estremi vi carria veramente tanto e ancora il gadget di Ez Levi che prende l'ennesima kill la doppia per lui mamma mia e arriva anche la tripla perché l'ha presa lui l'ultima sono sul set point possono fare il set point attenzione io spero che i tribe in nord america riescano almeno un quinto set magari a strappare ma dai su ma no cioè veramente è troppo meme se si perdono esatto sarebbe un po' veramente grave oh bella qua la doppia kill si annullano si annullano Z diciamo che ancora comunque non si arrende sono lì che provano a non lasciare andare il team tribe e Z Levi giustamente ha usato tutto non ha più gadget cioè non può prendere kill dalla lunghissima distanza si deve giocarsela tutto quanto di skill guardate Inzai che sta aspettando che la safe arrivi per mettere quello scudo o su lui o su Aciapi e fargli vincere la partita è già lì pronto hanno già il piano hanno già il piano per il finale attenzione però perché lì la Piper potrebbe prendere parchio valore con una doppia hit esatto esatto anche se è molto difficile al momento finché il campo non si restringe arriva il momento arriva il tutto per tutto potrebbe provare ora la kill usa lo scudo su se stesso eh sì arriva lo scudo è un po' in difficoltà la kill attenzione è qua e ragazzi potrebbe arrivare oh ce l'ha fatta ok tribe riesce a vincere un set contro l'Iz oh e si esulta come fosse una vittoria ma infatti c'è partito il pubblico praticamente questa è una vittoria strappare strappare un set agli SK dei baranotte l'Iz sembra quasi un'impresa a Zul hanno partito anche le cuffie è partito tutto sì 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 mamma mia quando si vince un set contro questa gente è veramente qualcosa di assurdo eh questo vi fa capire comunque anche la considerazione che hanno gli altri team degli Z è perché ok che noi magari ci stiamo tanto sbilanciando non sui commenti ma già da questo dalle reazioni sia del pubblico anche lo stesso Kairos no e anche i team appena ha vinto un qualcosa tribe siamo esplosi tutti eh sì ci credo perché cioè a un certo punto rimangono l'ultimo baluardo i tribe e a detta di alcuni i tribe avrebbero anche potuto vincere il mondiale eh sì 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 e quindi cioè alcuni si immaginano che i tribe possano battere gli Z e due team due volte mamma mia sarebbe un qualcosa di incredibile ora come ora sembra cioè il primo ricordiamo lo primo set ragazzi sembrava che i tribe dovessero perdere tutto sì come hanno giocato i primi i primi set di tribe sembrava veramente che stessero giocando morti praticamente già sconfitti invece adesso sembra un attimo essersi ripresi adesso la situazione cambia sì 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 set di KO comunque molto difficile non è che si strappa un punto a Z così dal niente però insomma ci stanno provando adesso se non sbaglio dalla grafichina del sito che sempre ci aiuta si va su ricercati quella stellina blu è inconfondibile vediamo come si comportano anche perché chi vince questo già mette un po' di pressione all'altro dato che può passare di noi in vantaggio mentalmente tanta roba una mappa tutta per i long vediamo allora abbiamo piana delle stelle è una mappa che secondo me è bella da vedere innanzitutto guarda Z che non vuole la Piper contro non utilizzano tanto Piper non so se c'è fatto caso hanno tolto il Fang però invece i Tribe io qua ci potrei scommettere quasi tutto Sprout è un bannato Brock e vogliono mettere Sprout come primo pick adesso costringono la rottura di Z vediamo un po' vediamo vediamo ora vedi Mortis ma è assurdo anche commentare queste partite perché sei lì che dici che cosa stanno facendo di così diverso di Z ma infatti per vincere certe volte così in maniera schiacciante è proprio il loro stile di gioco e anche i brother che scegliono che li rendono unici nel mondo Nani Iris comunque primo pick è solida anche perché con le teste poi ha la possibilità di aprire la mappa e giustamente alcuni in chat ci dicono anche che c'è una Chappie che con Fang potrebbe fare anche delle cose che ancora non si sono mai viste eh ma è stato è stato bannato guarda ah il Fang è vero è vero è vero c'è gas io comunque prima non so se l'ho detto ma forse non l'ho fatta in tempo il gas ci avrei scommesso tutto che su questa mappa l'avrebbero messo eh sì ci sta perché è un bel long però notare come hanno messo la Iris per andare subito a scongiurare il rischio semino vogliono rompere eh sì 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 assolutamente ora vediamo il Bonnie è il team tribe perché deve andare a chiudere la comp l'ultimo pick sta proprio al team più pericoloso e se stanno troppo squishy veramente c'è il rischio di un non dico di un mortis ma di un dasher eh allora Bonnie sicuramente è già un pochino più difficile bisogna vedere c'è Carlo e libero eh occhio a cosa fanno i tribe adesso perché c'è Carlo e libero con Tensai che ha lo scudo è vero potrebbero ricreare la combo di Z1 è pericoloso sicuramente non c'è Siete Tampo ma gli altri gli altri tre comunque alla pergamena eh Lola eh sì c'è il rischio Carlo eh qua è proprio il pick che gli stanno palesemente dicendo di mettere eh eh vabbè l'avevano capito in due pensa se l'abbiamo capito noi pensa i tre di Z che erano già lì che si si strusciavano il baffo anche loro anzi loro mi sa che si strusciano il caschetto questo mi hai fatto un attimo spaventare no quando hai esitato quando hai esitato un attimo mi hai fatto un attimo prendere paura Daniele aveva però ho detto vabbè forse forse allora il perre per un attimo ha preso per un attimo ha preso per un attimo un attimo traumatizzato è stato bellissimo allora subito start veramente aggressivo di tribe ma è quello che devono fare giustamente avendo la cioè avendo il semino e avendo tutti i muri ancora in piedi devono sfruttare questo momento per mettere pressione al team Z e provare a prendere qualche kill per mettere un po' di vantaggio anche perché poi con le rotture di Iris si andrà a perdere tanto della loro comp vedremo 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 esatto infatti cercano di giocare questo semino molto puscioso vediamo cosa riescono cosa riusciranno a fare perché per adesso la Iris non ha ancora rotto con la ultima ha molto agitato lo potrebbe fare da un momento all'altro esatto poi devono stare attento anche a quel tensai con quel car lì pronto con la ulti anche perché Kuro a sua volta ha la sua ulti pronta per sopportare anche in momento di bisogno il suo compagno si si ragazzi qua c'è un po' di tensione giustamente i player non si sbilanciano devono stare attenti a tutto c'è solo la stella blu che divide Z1 da Tribe Gaming NA e oltretutto ah è vero la stellina blu presa da tensai con Kuro mamma mia Kuro tra l'altro non so se hai notato come l'ha killato aveva il fantasmino carico ha fatto colpo di fantasmino gadget l'ha stunnato e l'ha ritato di nuovo cioè comunque lui si è fatto il conto di quanto probabilmente lui ha bene in mente quanto fa gas con colpo gadget e colpo e quando vede lui che è troppo vicino lui c'è il fantasmino pronto pam 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 e fa la hit cioè prendete un one shot mamma mia impressionante quello è un dettaglio che comunque lo sapranno anche i tribe non è che dico che i tribe non lo sapranno insomma io comunque gas usato da tutti i due i team Z io rimango allibito ogni volta perché hanno qualcosa con questo la pergamena è la pergamena la famosa pergamena ragazzi se voi fate cioè fate parte qualcuno nella storia farà mai parte di Z usate gas come mai nessuno sulla storia di Pro Stars la pergamena di come usare gas ragazzi ce l'hanno da qualche parte la pergamena segreta a sitetampo hanno aggiunto anche la pergamena per saperli usare tutti sì tutti tutti c'è anche la pergamena per il ciuffo c'è tutto esatto no comunque ragazzi a parte a parte degli scherzi qua la situazione è identica prima il carle di Z Zero ha preso la stellina centrale guarda che Tyrant rischia Tyrant rischia e il colpo di Aciapi gli finisce praticamente accanto fortunato per questa volta potrebbe killare Edz Levi se se la gioca bene guarda la oltretutto Zulan e Rorace perché se non sbaglio ha utilizzato la ulti bella bella qua la difesa di Edz Levi sempre su Tensai ma non lo riesce a hitare guardate la difesa di Z che si supportano uno con l'altro e non c'è verso potrebbe trovare la kill sul carle si sta sbilanciando un po' troppo in push Edz Levi prova prova tantissimo ma non riesce comunque è assurdo c'è la one shot potrebbe killare ma viene killato a sua volta io non ho nemmeno visto arrivare la testa di Aciapi è arrivato da dietro da dietro ha fatto un tutto campo vabbè qua giustamente il Carl fa quello per cui è stato messo ovvero counterare Lola come non ci possono mai quanti danni ha fatto col piccone contro il muro pam 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 una rafficata di picconate eh ragazzi diciamo che hanno a questo punto anche il tutorial su come usare Carl come dei professionisti no vabbè hanno un sacco di main brawler ragazzi veramente e li sfruttano benissimo qua 14 a 8 ci apprestiamo ad arrivare agli ultimi 15 secondi che potrebbero portare Z1 in vantaggio attenzione perché la distanza è veramente poca arriva però Tessai a prendere la kill su Edzli addirittura il 21 ma il colpo al volo di Aciapi one shot se prendeva lui il colpo moriva e se lo dava prendeva la kill allucinante niente a dire ragazzi vanno sul 2 a 1 si guardano i player di Z dicono ma siamo noi e ma siamo così forti cioè ma se veramente e niente ragazzi cioè forse forse per assurdo quello ma se veramente che è il memino è simpatico ah no ok no però pensavo che forse alla fine della fiera quest'anno sono stati anche più forti perché si sono creati da soli un degno avversario c'è l'altra org c'è l'altro team dell'org perché loro magari in tutta la BSC non hanno un avversario forte come quelli che trovano qua se lo sono creati da soli già così è una presa di potere di coscienza di tutto c'è impressionante io sto cercando di fare tutte le teorie che posso cioè guarda guarda anche ciao Ricky grazie mille per il quinto ovviamente vi ricordiamo ragazzi se volete supportarci un bel sabino puttoscrivativo Prime in chat qua su Twitch potete supportare me e Daniele loggandovi semplicemente col vostro account Amazon Prime e il vostro account Twitch ovviamente un follow anche a Dani mi raccomando che ci ha insomma aiutato in tantissime streaming quindi mi raccomando è tutto gratis ragazzi poi ovviamente noi approfitteremo magari non di domani ma di domani l'altro per riprendere tutto quello che è successo ringraziare chi ci ha sopportato in questi giorni chi ha fatto la sub i follow insomma tantissime cose avremo tempo ragazzi state tranquilli non vi abbiamo dimenticato anzi non vi abbiamo nemmeno trascurato perché abbiamo visto che l'affetto che ci avete dato in questi giorni è stato incredibile state tranquilli che non verrà sprecato assolutamente ragazzi assolutamente tanti bei content nei giorni a venire e adesso si continua con buon car subito non ci fa neanche vedere il resto ok i bunny pick sono rapidamente otis enita e ringhio perli z la mappa è pit stop e dall'altra parte invece tribe gaming con max buzz e il bombardino o barley hanno banato il buzz forse dopo averlo visto come l'hanno giocato prima contro i totem mi verrebbe da pensare esatto esatto per scongiurare un brawler imprevedibile come l'ha definito veramente insomma penso sia la definizione giusta buzz ti cambia un attimo le carte in tavola imprevedibile è un bel termine emz e daryl sono i pick per quanto riguarda l'izzetta il ricco è scoperto il carle non c'è più e potrebbe arrivare uno stu un bel bello mi verrebbe da dire uno stu rico ma forse poi si va un po' in difetto nei danni perché il daryl si arriva sotto cassa a un dps esagerato vediamo vediamo cosa scelgono e e ovviamente tutto qua nelle mani del coach ed eccolo l'avevo chiamato ragazzi il ricco arriva eccolo però adesso più che uno studiere è un griffino direi un griffino il griff sarebbe molto molto utile o anche la colette potrebbe essere anche la colette potrebbe essere particolare però bisogna vedere sempre poi come come gestiscono sia tribe che che z ci pensano un pochino c'è l'ultimo pick un po' di ah gale scelgono la difesa ma comunque un antitank alla fine tutti dicevamo what e invece z1 scusatemi l'abitudine z0 invece che la difesa sceglie proprio la cattiveria ma no quella vera come lo usano bull scusami come un treno dritto ha messo bull ragazzi vedi gale ultimo pick degli avversi ma dai ma scusami ho capito bull ma c'è un rico e un gale sono due antitank aspetta di vedere uno dei team più forti in azione vediamo come se la giocano voglio veramente capire questa partita ragazzi guardalo bellino anche il pin di acciapi che è quello speciale di daryl carino che non l'avevo ancora mai visto neanche io quello ok qua vediamo un pochettino la situazione vabbè giustamente il triplo gear del recupero della vita per quanto riguarda le z0 ragazzi è vero guarda subito la coordinazione di tensaia i due campioni del mondo in carica però guarda l'ulti di reiko che va a trovare la kill eh sì e zolivai però peccato per la seconda ulti che non va troppo a segno kuro che prova a passare addirittura prova a passare nel corridoio stanno facendo delle belle kill stanno arrivando danni in cassa z o sbaglio alla ulti disposizione ma stanno aspettando la ulti di bull per aprire eh ce l'hanno ce l'hanno in teoria eccola infatti eccola doppia rollata cos'è eh beh ah sta sfruttando il mamma mia gli hanno fatto lisciare un paio di colpi impressionante non ci posso credere cioè vabbè sfruttano qualsiasi cosa ma con che timing cioè è stato fermo quell'attimino e poi e l'ha fregato proprio in quel momento vabbè gli ha rubato quella hit in più ma bellissimo anche come si sono alternati anzi Tyrant e Aciapi esatto esatto qua Tensai l'incaricato a difendere esatto vediamo un po' Aciapi che mette pressione va subito in cassa eh sbaglia la ulti qua Zulan è Zulan troppo frettoloso non ha aspettato la finta oltretutto vabbè Kuro Kuro con Vull è bellissimo non viene neutralizzato rimane lì ok riesce a killare Rico mamma mia però esatto esatto Tyrant ci riprova prova doppia picconata ci riesce a portare la cassa un po' più in parità è Kuro che ignora Tyrant la difesa la lasciano alla EMS e loro vanno dritti eh sì ma lì doppio tank guarda che roba guarda che roba guarda che roba ma è possibile che ogni volta scelga sempre il terpismo perfetto per schivare i colpi ma come fa ma ce l'hanno veramente una pergamena questi su qualche cosa qualche segreto di Pro Stars è impossibile ragazzi che sempre è bello che dici bo spamma va a spammare su eh no infatti lo fa una volta poi si ferma vabbè Gale Rico contro due tank e perdi ragazzi ma che guarda guarda eccolo si è visto il nostro Franci il nostro Franci ma ragazzi io non non ho parole non ho non ho parole veramente Z divice un zero ragazzi ad un passo con due tank con Bull sono ad un passo ragazzi da creare qualcosa che per ora nella storia di Pro Stars non era mai riuscito a nessuno ovvero mettere una org in finale ragazzi ma in generale nella storia dell'e-sport eh penso che sia molto molto difficile non so quante volte è capitato che un org riuscisse con due team cioè a far due team e mandarle entrambi in finale mondiale mondiale cioè e gli altri cosa fanno guarda non lo so ma poi dicevo non ci saranno price pool c'è un milione di dollari di price pool cioè non lo so ragazzi calcolate che questa partita vale 600.000 dollari per Z eh sì non stiamo parlando di noccioline qua eh queste partite valgono 600.000 dollari per l'org Z e comunque un 400.000 per tribe 200 400.000 cioè al secondo di cosa esatto almeno 200.000 per tribe sì anche perché Z un premio l'ha già per forza penso che sia proprio la frase che hanno detto i giocatori prima di salire in campo guarda ti giochi 200.000 dollari zero pressione esatto esatto eh però guarda che roba ma sbaglio o ha missato lo studio ma non lo so ma qualcosa è passato attraverso non lo so fate voi chat non lo so hanno il gear anche per aumentare la ulti di Bull che gli ha fatto quel passetto in più per fargli missare anche la ulti no ragazzi 80.000 dollari li hanno già vinti entrambi eh in Torino li hanno già vinti entrambi in semifinale eh sì ormai ormai li hanno già vinti entrambi e ragazzi e Z ragazzi va effettivamente al finale di questo mondiale Z ha appena scritto la storia dell'e-sports mamma mia ragazzi la finale ragazzi non parliamo più non è che non vi offendete non parliamo più no è allucinante ma che finale stiamo per vedere è allucinante i colori di Z che verniciano a questo punto la finale si tinge di bianco il finale di questo Brawl Stars World Final ragazzi ehm è qualcosa di assurdo è qualcosa di assurdo qual è stato il tuo giocatore preferito e io veramente non lo so direi lui ma non lo so e invece era lui invece era quest'altro io avevo detto a Ciapi invece a Tensai ma dopo l'ultima partita hanno lasciato scioccato tutto il mondo si in effetti con quel bull anche Kuro era indeciso se eh vabbè cioè guarda guarda che roba hanno hanno qualcosa di incredibile e allora a questo punto guarda la faccia dei try di Tyrant cioè e oltretutto ha missato l'ha missato veramente anche lo stun cioè è incredibile allora ragazzi qua può arrivare anche ufficialmente l'annuncio Z ha vinto Z ha vinto il mondiale non sappiamo chi questo sicuro però non sappiamo chi l'org Z beh ragazzi stiamo per vedere quello che il Giappone ha visto ogni mese esatto cioè questa è una finale mensile della parte giapponese eh sì peccato che giocavano nel mondiale ragazzi però adesso probabilmente adesso 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 attenzione perché c'è qualcosa potrebbe essere qualcosa di altrettanto importante c'è qualcosa nell'aria ragazzi io non so io fossi in voi io preparo il telefono perché penso di fare un video lei prepara anche il telefono penso di fare un video quello che stiamo per vedere perché qua secondo me potrebbe potrebbe succedere qualcosa c'è qualcosa di esotico potrebbe potrebbe succedere qualcosa non lo so ho sentito da un uccellino che che succedono cose non lo so non lo so un uccellino che volava mi ha detto occhio ferre che oltre che le Z in finale entrambi succede anche qualcos'altro c'è qualcosa che non c'entra proprio no no dicevo questo uccellino ti ha detto le Z tutte e due arrivano in finale ma c'è anche qualcos'altro ah si mi ha detto si mi aveva già predittato anche in finale mi sa che questa l'avremo predittata in tanti e così è stato ragazzi eh signori vediamo vediamo un attino cosa succede mentre mi abbevero al volo va bene e mentre mentre il Dani si si riidrata io ragazzi vi chiedo la massima attenzione e vi chiedo veramente la massima attenzione perché qui adesso c'è qualcosa di veramente importante Dani eh si 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 qualcosa sta arrivando ve l'abbiamo già detto ve lo ribadiamo oltretutto incredibile comunque il dominio di Z detto e ridetto ma Z è ufficialmente l'org più forte in assoluto eh si eh si ragazzi tra l'altro guardate anche le nostre le nostre facce veramente siamo un po' sconvolti un po' provati un po' provati veramente veramente sconvolti ma attenzione ragazzi perché sta per succedere qualcosa guarda attenzione ragazzi guarda cosa succede fanno il loro ingresso Paola e Dani sul palco e non so se hai visto il bannerino in alto not brawl talk eh 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 paroline che insomma per not brawl talk è qua qualcosa succede ragazzi ah in francese lo fanno hanno provato a farlo l'inglese è quello che è hanno provato a farlo parlare in francese il francese è quello che è scusatemi meno male dopo tutte le figuracce che ho fatto io parlarci in francese con lui ma c'è Paola che è montata sul palco con la felpa dell'Iz in francese è un artiste è un animator ed è francese l'inglese cioè ha fatto che è fatto qualcosa di speciale per Dani e Paola Sì, sì sì sì. Quindi, prima di continuare con il show, vorremmo di dare un'ottima risposta di quello che è arrivato per Brawl Stars questo anno. Oh! Oh! Avant di continuare il spettacolo, noi vogliamo dare un'ottima percezione di ciò che ci resta di trovare prima della fine dell'anno. Quindi, a 1 dezember, ci saranno come potete ottenere l'Omega Box, l'Omega Box Zero's King, a lot of rewards and a new way to collect Brawlers. Ah, gli fa la produzione dall'inglese al francese. Ah, ok. Comunque ci hanno detto che il primo dicembre ci diranno come ottenere la skin di Daryl e anche l'Omega Box. Attenzione, ci regaleranno questa skin praticamente? Sì, 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 poi ci diranno come ottenere. Now, on December 7, we'll release the new Brawl Talk. Oh! Il 7 di dicembre ci sarà il Brawl Talk! Proprio così, spam! ci riveleranno il nuovo Brawl Talk! And on December 12, we'll release the update, which is the Brawl Days update and also the Brawliversary update, which means a lot of free rewards for you all. Ci sarà il compleanno di Brawl Stars il 12 di dicembre. Dal dicembre 12 sarà anche attivo la prete. Il 12 di dicembre ci sarà anche attivo la prete. Il 12 di dicembre ci sarà l'update di Noelle accompagnato di numerose recompense per fêter l'anniversario di Brawl Stars. Allora, ragazzi che figata! Cioè lo spoilerano così in una finale mondiale! Wait, 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 wait! We have something else, right? So, we can wait towards the finals between the two Cita teams but before that we'd like to show you a new music video which is a tribute to all the competitors. Attenzione, bello! Un tributo a tutti i competitor. Oltretutto music video che di solito hanno, l'anno scorso hanno sfoderato una canzone atomica. Infatti. E qua ragazzi, dispositivi con l'audio al massimo. Che poi hanno detto che c'è l'omaggio a tutti i team. Eh infatti, ma lo droppano adesso? No, no, lo dropperanno, lo dropperanno, lo dropperanno. No, no, la droppano adesso. Ah, la dropperanno adesso? Eccola! Ah, eccola! E beh ragazzi, noi ve la lasciamo ascoltare, ci mutiamo un attimo. Eccola! 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 Ok, ma era un omaggio a tutti i team o solo Alistamina? Non l'ho capito. ma sono rimasto un attimo perplesso anche perché effettivamente gli unici che si sono visti sono loro non si è capito, ovviamente ragazzi la prediction che appare adesso sul sito è una meme Z Division 1 contro Z Division 0 la maggioranza vota Z Division 1 ragazzi decidete un pochettino voi chi volete votare è difficile e adesso ditemi voi a questo punto diteci voi cosa vi aspettate da questa finale oltretutto qua vediamo dei colossi che si vanno a sfidare eh sì per assurdo magari qualcuno potrebbe aver detto ma cavolo adesso che gli Z si sono divisi in finale non ci arriveranno più tutti invece ci arrivano entrambi impressionante cosa hanno combinato quest'anno assolutamente a mani basse l'org più forte nel panorama di Brawl Stars mamma mia veramente cioè eh ragazzi dicono che vince Z one no ragazzi dai partiti scherzi diteci la vostra noi veramente non ci no vi ho danni veramente non me ne sarei mai aspettati una cosa così cioè no allora diciamo che il pensiero magari poteva essere arrivato ma poi vederlo messo in atto con questo in questa maniera è qualcosa di incredibile hanno hanno dominato hanno dominato tutti i team con cui hanno combattuto oltretutto arrivando da due parti di bracket diverse gli Z hanno affrontato tanti team diversi sia Z1 che Z0 e ognuno è cascato sotto la loro avanzata troppo troppo bravi forti precisi con delle meccaniche che gli altri team non sfruttano sì possiamo dirlo il Giappone ragazzi volente un elente ha una marcia e più proprio Brawl Stars in Giappone è visto in una maniera completamente diversa rispetto al resto del mondo ma proprio l'e-sports no dicevamo anche Corea che è patria dell'e-sports da dove tutto è partito Giappone quelle zone lì hanno delle mentalità incredibili e oltretutto hanno delle persone che alimentano queste mentalità perché ragazzi come Tensai Hachapi Kuru e tutti gli altri che abbiamo visto sono veramente delle cose incredibili senza ovviamente non dimenticare sempre tanto senza togliere niente agli altri ma comunque loro riescono ad esprimere qualcosa in più e tanti potrebbero anche dire ma cosa ci vuole un gioco con tre tasti però tutti sono su quattro questo sicuramente dimostra che Brawl è un gioco molto tecnico comunque esatto esatto loro a parità di tutti gli altri sono più forti che bracket assurdo guarda che roba guarda che roba vedi Zeta partire da una parte da un lato dall'altro partire e non fermarsi mai è una cosa impressionante bravi bravi questi ragazzi si meritano di essere arrivati entrambi in finale ovviamente non se lo sarebbe aspettato nessuno però così è andata e così è il Giappone domina ragazzi a questo punto io e Dani un po' come Goku vi chiediamo di alzare le mani al cielo esatto l'ultimo sforzo l'ultimo sforzo mandateci la vostra energia e facciamo questo commento Jekidama ragazzi allora vedi qualcuno che dice Z Zero comunque c'è anche perché adesso bisogna vedere perché ok che sono arrivati in finale ma bisogna vedere chi vince e soprattutto chi alza quella coppa che è lì nel mezzo che sta aspettando qualcuno ragazzi il commentatore francese ci annuncia la finale in arrivo e noi ragazzi vi diciamo che insomma qualcosa qualcosa di assurdo stavamo per vedere sta per annunciare ovviamente l'arrivo in campo di un org non solo dopo l'anno scorso rivediamo gli Z che erano il team del mondo ma li vediamo addirittura anche vice campioni quindi strappano il titolo di vice campioni ed eccoli qua arrivare gli Z dalle tribune si detampo con i suoi compagni guarda che carico è molto molto carico con Kenji e Moia Goku ragazzi in arrivo sulla lo stage azzurro di sinistra accompagnati ovviamente dal secondo team le Z Division Zero che stanno per entrare si mettono di fronte allo stage questa volta penso ci sia una presentazione ci sarà qualcosa molto molto particolare evidentemente perché qualcosa di diverso stiamo per vedere ragazzi e vabbè giustamente ci sarà qualche sorpresa soprattutto non mi era accorto del doppio ciuffo si c'ha un doppio ciuffo che sia anche quello parte della pergamena incredibile è arrivato il momento ferre di sfoderare un doppio ciuffo anche noi dovremmo dovremmo farci un pensiero che te già un ciuffo ci sei manca il secondo manca il secondo dovrei magari farmi un ciuffo col baffo potrei provare potrei provare forse sarà quello l'anti Z vediamo vediamo comunque qua vediamo il pubblico degli Z e in arrivo ragazzi dalle tribune ancora una volta gli Z Division Zero a capo di tutta la baracca ragazzi abbiamo Tensai ci sono anche i player ho visto un Saimantec che era lì a battere il 5 ai suoi rivali insomma per Z coloro che comunque insomma sono di fatto i più forti ragazzi esatto a questo punto per gli altri team per Z sono da ammirare diciamo sono i player da seguire sì questa partita ragazzi è da seguire con il taccuino grazie a Waffer Nabo grazie mille per il Prime vi ricordiamo ovviamente ragazzi di continuare a supportare la streaming con un follower con un follower mi raccomando un bel follow su Twitch e un punto esclamativo Prime per abbonarsi gratis a insomma uno dei nostri due canali che vuole per fare tutto attenzione ragazzi qua la 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 presentazione speciale con la coppa in mezzo al perché tra poco sta per essere sollevata insomma alla fine di questo match uno dei due team solleverà quella coppa contro tutto se non sbaglio è molto simile a quella dell'anno scorso la forma è la stessa ma la base personalizzata se ci fai caso è come quella di Tara cioè è come la skin di Tara esatto esatto quindi abbiamo fatto questo tema quadrettoni questo tema quadrettoni ragazzi è proprio per richiamare Tara eh sì i player vanno dietro gli stage ci sistemano e qua ragazzi e ora si preparano vediamo quello che il Giappone ha visto per un anno intero eh sì questo ragazzi è quello che vi aspetta se partecipate nella parte giapponese davvero ragazzi se per caso qualcuno di voi è giapponese sono giapponese questa è l'abitudine è la normalità si fa cambiare anche lo stand il buon il buon Boya Goku tutti comunque con sti tagli improbabili eh sì ma devo dire che il caschetto va di moda a quanto pare a quanto pare sì ma che sia anche quello parte della a sto punto facciamo tutto quello che si può fare è arrivato il momento doppio ciuffo e caschetto è quel momento quello che si può fare per vincere lo faccio senza problemi tempo un mese e mi vedrete anche me con caschetto e doppio ciuffo la dura realtà ragazzi dietro questi discorsi è che non ci sono segreti loro sono semplicemente più performanti e soprattutto io ribadisco questa cosa che loro usano combo nel senso intese come combo di brawler che gli altri non utilizzano sì ragazzi qua diciamo che è arrivata una dura lezione a tutto il mondo letteralmente loro sono i più forti e loro sono quelli da cui bisogna imparare anche al tempo stesso assolutamente assolutamente loro riescono a sfruttare le meccaniche che offre Bro Stars meglio degli altri e soprattutto riescono a sfruttare quei brawler che magari sono nel meta ma dagli altri team in giro per il mondo non vengono sfruttati così al 100% loro danno quel che in più e non c'è niente da fare Ferre loro dominano anche per esempio quello che ovviamente ci siamo accorti tutti l'utilizzo esasperato di Gas che dà sempre quel che in più alla comp loro l'hanno masterato e infatti ora cosa succede Z contro Z praticamente Gas e Carl bannati a vita non li vedi per forza davvero non so cosa non so come si possono comportare uno contro l'altro cioè adesso ora uno contro l'altro chi è che banni non lo so cioè alla fine i player sono quei sei lì e ognuno si giocherà si giocherà la sua sembra quasi una partita amichevole per assurdo Dani sembra di stare per assistere comunque a un'esibizione a una scrim no comunque di due team vabbè oddio è comunque uno scontro che io non ho mai visto sinceramente io l'ultima finale mensile d'ottobre me la sono vista ma sicuramente vedere Z1 contro Z0 sul palco uno davanti all'altro con la coppa davanti anche per loro è un qualcosa di diverso non lo so ragazzi veramente adesso vediamo tra l'altro anche gli sponsor sono bellissimi perché a parte uno forse gli altri tipo mai visti vabbè tutta roba che magari gira nel mercato giapponese fantastico ragazzi ci carichiamo all'ultimo match le prediction danno come vincitori Z division one 63% ragazzi per loro il restante 23 per il l'altro team e i bani sono Janet Squeak e Penny invece dall'altra parte il Gene Otis e Crow primo pick che va per Z1 che fa gli onori di casa perché ormai sono in casa anche se sono a Parigi loro sono a casa davvero in un certo senso si respira veramente l'area di Giappone da una parte il primo pick è Raph e invece dall'altra parte arriva primo pick anche per Z division zero che è Max ora però giustamente da division zero ha a disposizione due pick vedremo cosa andranno a combinare e soprattutto loro hanno a disposizione l'ultimo pick che magari contro i loro fratelli non so come chiamare ma secondo me non è che si faranno tanti sconti mettono un Gale vabbè ragazzi qua veramente ripeto tutto da imparare in questa finalissima tutto da imparare ogni cosa veramente da prendere a punti un bel Gale da parte di Tensai osservato speciale a questo punto direi Siete Tampo perché se tanto si è distinto contro i team diciamo global vediamo vediamo come si comporterà qua esatto contro un team che sicuramente gli tiene testa nel dubbio Gas non se lo sono bannati a vicenda eh sì né Gas né Carl né Carl sono bannati surge surge attenzione mettono un surge è qua secondo me che si è visto solo un'altra volta in questo mondiale la seconda volta si lo vediamo e secondo me ti dirò l'ha scelto Siete Tampo e secondo me lo usa Siete Tampo il surge bisogna vedere un po' che lo si inventano vediamo vediamo l'ultimo pick è a disposizione l'ultimo pick che va a chiudere la comp di Z Division 1 hanno ormai 10 secondi per scegliere 5 secondi arriverà il pick che chiuderà la comp del primo team Z a piccare ah è vero ricordiamo siamo dimenticati di una cosa molto importante lo sapevamo ma non l'abbiamo detto la finale non sarà bio 5 ma bio 7 e mettono nel frattempo per chiudere Carl e buonanotte e Bocio e Buster e ti dirò quel Buster lì secondo me darà un sacco di problemi ma pensa se fanno un 5 a 0 no cioè vuol dire non solo che sono no vorrebbe dire veramente che che oltretutto c'è anche uno dei due che è più schiacciante cioè che riesce a schiacciare l'altro non penso sia possibile sarebbe veramente assurdo guarda comunque come mettono il surge ragazzi e sarà proprio si detampa comunque l'utilizzatore sarà proprio si detampa l'utilizzatore sembra che Z1 siano abbastanza spara però la difesa arriva la difesa arriva Tensai e Reattivo guarda come si muovono tantissimo tutti quanti tipo un una partita al cardiopalma anche se sono trottole guarda 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 come come veramente stiamo assistendo a uno stile completamente diverso Kurwa ha la possibilità di tirare si è sul colt da Z0 da Z0 ragazzi ma Buster è l'osservato speciale di questa partita anche perché secondo me è stato un pick devastante Grax giustamente dice secondo me vince Z mamma mia non hai più commentato Brawl ma sei rimasto veramente un professionista non sbaglia un predict incredibile comunque ragazzi adesso parte gli scherzi ricordiamo che a prescindere da come vada l'organizzazione degli Z si porta a casa 600 mila dollari insomma il 60% del price pool totale è andato proprio a loro mamma mia siete tempo il recupero e comunque nel mentre era arrivato anche il gol dell'1 a 1 di Z division 1 ma adesso Z division 0 ha la metà campo avversaria sotto controllo perché poi io capisco che l'org si porta a casa però poi il monte premi è diviso tra i player quindi anche i player hanno uno scarto di 200 mila dollari uno dall'altro cioè voglio dire è interessante ho capito che sono tuoi compagni ma ti interesserà portare da casa 200 mila dollari in più insomma quindi guarda Kuru che non è andato giù la difesa su Aciapi tutti i one shot tutti i one shot beh devo dire che questo match ha un livello stellare si vede si vede mamma mia ma sembra vero non mi sembra vero che cosa stiamo vedendo se qualcuno aveva qualche dubbio su un probabile magari biscottone come diremmo noi in Italia o qualcos'altro qua ragazzi si prendono ammazzate uno con l'altro e questa finale sarà qualcosa di incredibile guarda come continuano a muoversi torno sull'uno pari ragazzi ma adesso andranno a sfruttare l'overtime probabilmente attenzione qua il surge potenziato con il livello 3 è una sorta di livello 5 praticamente si esatto è veramente molto pericoloso le hit pericolose anche quelle di Mojagoku ma Ciappi è lì pronto con la ulti sono one shot entrambi qualcuno deve prendere un po' di tempo certo che Sitetampo fu il potenziato ragazzi è il boss finale è il boss finale Sitetampo con il surge però attenzione attenzione perché ZZ0 potrebbe prendere il primo punto ragazzi a fare il gol e a vincere questo si è vista in quadratura stranissima tra l'altro tipo dietro una non so se hai visto dietro un dito dietro un divano comunque ragazzi vanno a vincere questo primo game insomma se questa è la prima partita già io sono senza voce ascolta facciamo che le chiamiamo 0 e 1 diretti sì 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 ecco tanto che Z lo sappiamo Z lo sappiamo Division anche Giappone pure va bene ragazzi abbiamo one in push one in push Sitetampo è lì davanti oltretutto cos'è che NG stava sparando su Sitetampo ha la cura e non me ne sono accorto o stava provando a aiutare alla cura palesemente attenzione però perché comunque ragazzi guarda Moiagoku che prende il tentismo è vero è vero è vero e a questo punto della live riesco un attimo comprendo con qualche secondo di delay comprendi il server da un'altra parte c'è un po' di delay ragazzi e guarda qua come si salvano comunque Ziro la ulti anche a disposizione a Ciapi una bella ulti a disposizione anche per Kuru che però va giù ragazzi rottura da parte di di Paragoku eh sì viene potenziato anche Sitetampo ancora potenziato come prima ragazzi molto forte in questo momento Sitetampo che torna ad essere il boss finale di Notare come resta a livello 3 comunque è dubbio non passa a livello 4 evidentemente anche Sitetampo con Surge 3 maggiore di 4 eh sì ricordiamo la meme anche qua e la rottura tiro ulti anzi ulti tiro da parte di eh Mojagoku si è tenuto il livello 3 per partire subito con una marcia in più eh devo dire comunque partite super tese qua One in vantaggio ma c'è Kuru che non è molto d'accordo con il suo Buster che va e distrugge Kenji e adesso punta anche Mojagoku che in qualche maniera si salva eh no 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 Kuru lo va a killare per assurdo questi due team tra di loro si conoscono meglio rispetto a cioè sai che faceva prima il discorso dello scream e quant'altro è vero loro essendo anche nella stessa org se non si conoscono loro ha voglia screameranno veramente tanto tra di loro immagina i giochini mentali che stanno provando a fare ma attenzione perché Zeta One ha la possibilità di segnare e lo fanno vanno sull'uno pari vanno sull'uno pari GG e immagina un BO7 giocato fino alla fine sì sarà qualcosa io chiedo chiedo cambio sarà qualcosa di veramente assurdo ragazzi questo match siamo ripartiti attenzione sempre questo pocio sul sul mid abbiamo ringhio sulla lane di sinistra che si è preso parecchio spazio libero e a ciapi con la ulti di Gale e veramente guardate come cercano di non farsi colpire uno con l'altro sì sì è impressionante il loro gameplay ma il push di Zeta One è veramente intenso sono sempre loro che prendono iniziativa sì e qua c'è anche l'occasione ragazzi per andare oh bene la kill qua ci potrebbe essere il contropiede attenzione perché a ciapi e tensai arrivano con la velocità della luce spidati e recuperano tutto quello che avevano perso contropiede perfetto cercano di andare a killare Stetampo vanno a piazzare una bella ulti di Kuru e nonostante ciò ragazzi restano abbastanza stabili ecco non si vanno a sbilanciare in un push troppo offensivo guarda la bella ulti di Aciapi e qua Kuru prova arriva lo Stum danneggiati no bello e qua Kenji Kenji porta dall'altra parte il Sete Tampo perché attenzione a Kuru ah non tira non tira non tira non tira Kuru è qua per lo spettacolo eh no ma non non aveva spazio per fare tuttillare piuttosto attenzione ancora un minuto rimanente per quello che potrebbe essere ricordiamo che è il set point questo ragazzi eh sì 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 per entrambi perciò vedremo quale dei due team Z porterà a casa il primo punto che belli che sono Kenji e Moia Goku vicini entrambi col cappello messicano con il cappello da cowboy diciamo sono abbinati sono fashion si 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 respira aria texana paradossalmente anche se siamo in Giappone eh loro sono abbastanza lontani eh infatti eh qua lo stun di Aciapi è praticamente perfetto ma si inceppa si inceppa Kuru ma dai ma che schiena paperona di quelle proprio paperone paperone eh di zio paperone queste ok ma allora mi viene da dire ogni tanto sbagliano anche loro tra di loro sbagliano anche loro tra di loro solo tra di loro tra di loro sbagliano contro gli altri no no comunque è livello assurdo cioè io immagino che qua ci saranno due tipi di player quelli semplicemente amareggiati per la sconfitta e quelli che si sono appena resi conto e quelli che sono lì nel pubblico a imparare con grande umiltà sì questa questa è una masterclass e qua c'è Kuru che va in gol mamma mia vanno a prendere il set di zero una ulti perfetta del Gale che sposta tutti e il suo compagno di squadra ne approfitta ragazzi diciamo che con tutti questi 0 1 1 0 0 1 1 0 si potrebbe quasi parlare a una macchina che più o meno è quello che secondo me per tanti sono di z davvero è uscito è uscito giusto in finale anche anche il dialetto il dialetto è questo qua Belin era più ligura io ricordo che sono più montese è qualcosa è uscito guardate che in questi giorni ragazzi ho veramente affrontato tante sfide tra cui anche spiegare a un finlandese che cos'è la bagna cauda lì è stato il momento più alto è stato un momento altissimo oltretutto hai scelto un personaggio a caso insomma uno particolarmente particolare ho scelto se diciamo che se Frank è il papà di Brawl Stars io ho scelto il papà dell'e-sports un altro che l'ha fatto nascere non può essere la mamma perché un maschio il chirurgo il chirurgo praticamente dell'e-sports esatto il ginecologo immaginatevi questa conversazione è stata molto leggendaria cioè vabbè tradurre bagna cauda cauda ancora ancora ma bagna bagna il mio vero voglio dire baffrum ma non è baffruma immagina lui cosa cosa andava a capire in quel momento aspettate momenti altissimi momenti altissimi se il prossimo anno non saremo riconfermati nell'e-sports saprete perché comunque 13 kill per moya goku 250 hp di danno dps vabbè buonanotte hp di pkfc si si proprio quello stazzi impressionanti ragazzi nel frattempo vediamo il una visuale su tensai meno male che me l'hai detto perché ero un attimo andato in crisi da solo lo riconosci facilmente perché è l'unico che non ha il caschetto lui ha aperto le temne lui ha aperto le temne lui ha aperto le temne va bene ragazzi vediamo secondo set che sarà tra l'altro diciamolo in bounty a parte che controlliamo le modalità fino a un certo punto perché tanto le giocano tutte tanto le giociamo tutte a meno che non nasca qualche nuova modalità per i prossimi anni le giocano tutte quindi insomma ma veramente ma immaginate questa finale all'ultimo set qualcosa che secondo me i player che stanno guardando per il discorso che facevi prima tanti vorrebbero anche perché questa è letteralmente la masterclass di ProStars qua si impara qua si impara questo questo gameplay che stiamo seguendo verrà studiato ragazzi per mesi mesi e mesi ah giustamente ci chiedono una cosa che magari non abbiamo dato per scontato ma non l'abbiamo mai detto tutti i player giocano con gli iPad Pro si tutti i player giocano con lo stesso dispositivo che è stato fornito dall'organizzazione e questo dispositivo è un iPad Pro 11 pollici è bravo bravo per la specifica perché è necessario dato che ci sono due dimensioni utilizzo il 12.9 in realtà per giocare a livello professionistico si è consigliato l'11 pollici io ho l'11 pollici ma dal professionistico c'ho ben poco però quello è il loro lavoro nel frattempo ragazzi i ban per Z1 sono Penny Ringio e Janet dall'altra parte invece arriva il Buster bannato da Z Division Zero e vediamo un po' gli altri van Janet Penny arrivano anche nel mentre un sacco di pick da commentare in sta pick proprio qua si si Zero completa la comp con Yves Max e Jin e invece all'altra parte Kenji con Tic si è tempo con Otis e l'ultimo pick ragazzi per andare a gestire una comp comunque nettamente long è su un canale grande così ci starebbe anche qualcuno di un pochino più pesante per andare a a tenere il mid un Gale è un Gale interessante non è proprio pesante è Gale no però è molto versatile non so bene magari per per Max con la speed non si sa mai per qualche push voglio veramente vedere anche i gear delle star power che utilizzano in queste gadget ma è loro infatti hanno anche un utilizzo particolare dei gadget scusami dei gear usano tantissimo la cura si tantissimo la cura e la visione è la visione è impressionante guardiamo adesso se ci danno la grafica generale delle build dei player eccola guardali visione tutti guardali ma giocano tutti a stampino loro è giusto che sia così visione e speed visione e speed su queste mappe canal grande scusami su arco doppio stessa cosa visione e speed visione e speed e ragazzi in Europa danno scuro danno scuro eh non so se poi hanno cominciato un po' ad adattarsi ma sicuramente in questi ultimi periodi hanno cominciato a cambiare se non avevano ancora cambiato perché scrimmando contro i due team Z si sono magari resi conto che insomma c'è anche un altro mondo sì 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 assolutamente beh diciamo che sicuramente hanno approfittato del mondiale e questi ragazzi per giocare insieme tanto scrimmare tanto insieme e hanno hanno sicuramente imparato tanto già prima di giocare queste tre giornate un saluto rapidissimo nel frattempo a nick990 per l'anno di abbonamento e oltretutto anche gli Z stessi scrimmando in questi giorni con gli altri team hanno aumentato il loro livello è quello il problema poi eh sì ragazzi tanta tanta roba qua nel mentre arriva il grab di Kuro che porta in vantaggio il suo team ovvero Zero dall'altra parte il duello 1v1 Mojagoku con Hachapi che adesso vengono pochissime stelle per ora pochissime stelle sì 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 assolutamente poche 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 c'è stata giusta la stella blu da parte degli Z1 però dall'altra parte ragazzi bello qua il jump di Hachapi per andare a difendersi dalla testa è bello anche lo stun su Kuro vanno a prendere proprio quello con più stelle sì con più gem sì con più stelle la kill su Tensai di Mojagoku che riporta in vantaggio il team 1 oltretutto arriva lo stun di Sidetampo che era rimasto con 170 di vita vediamo un po' il finale 4 secondi arriva un'altra kill difesa perfetta di Z1 e vanno a prendere set point gli Z1 eccolo qua il tifo giapponese ecco però esultano già meno perché sono contenti ormai il grande passo è stato fatto portare Z in finale l'hanno fatto il resto è tutto di secondo me a un certo punto non si ricordano più neanche chi tifano se 1 o 0 sono contenti di ogni caso segna 1 segnalato ancora scusa ma chi è che tifa contro ma infatti io immagino in questo momento essere un fan degli Z e degli tutti gli altri prima magiava del tifo e ora però siamo rimasti solo noi davvero davvero tu ti senti nel mezzo c'è questo gruppetto di 10 persone lì Z tutti lì in questo momento sono i più contenti degli altri sono lì che guardano che gli dicono ma dove stiamo siamo in una finale mondiale non è che possiamo dire e loro sono lì sono loro lì e basta pazzesco bravi bravi assurdo come veramente ogni team si è stato tirato giù prima tutti gli europei poi l'ultimo 2 baluardi americani gli stamina i tribe sono passati tanti team molto forti sotto la la macchina inarrestabile di Z e guarda Kuro però con questi grab mi sembra Mauri un po' di Mauri si è sentito comunque io lo dico senza essere di parte secondo me il team Replay Totem è quello che è riuscito a scalfire più in profondità il team degli Z sicuramente a pari merito loro e Chasmac uno per Z1 e uno per Z0 loro sono i due team anche i Chasmac alla fine sono riusciti a fare tale loro sono i due team che hanno provato veramente in inglese si direbbe l'effort ora non mi viene in mente la traduzione ma sono loro che hanno dato quel che in più contro il team Z comunque è assoluto come si detampo abbia preso proprio Gale come una gittata qua sono ripassati in vantaggio gli Z1 che vanno a rientrare anzi hanno pure messo un gadget per ostacolare il rientro degli Z0 eh qua guardalo si detampo pronto e allora uno a uno ragazzi tra Z e Z e ragazzi vanno a prendere il pareggio gli Z contro gli Z contro gli Z eh ragazzi ci beviamo un po' sopra eh si è da un po' che ti va a fare sempre lo stesso gesto però è allora per il prossimo anno bisogna insegnarle a fare un po' più di esultanze non solo le mani non solo il padrenos eh comunque 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 ragazzi eh no è assurdo perché da una parte si commenta seriamente è una finale mondiale dall'altra parte ti viene un po' da ridere perché c'è comunque vedi sempre quei due nomi no? si è impressionante perché siamo arrivati a un punto che come dicevamo tanti l'avevano detto ma un conto è dirlo e un conto è vedere i fatti un conto è che accada ecco e ti dirò un'altra cosa ho visto anche in chat diverse persone che hanno scritto durante questi primi minuti ma è la finale questa? cioè magari sono arrivati non è il classico tante che arriva e dice ma è proprio questa è una domanda che dice è possibile che siano arrivati i loro due in finale? tra l'altro la perfezione è 3 kg a testa se le sono spartite bene sono anche estetici sono anche va bene ragazzi dall'altra parte comunque vabbè tensai addirittura 0 kg per lui eh sì poveretto è più scarso si vede lui che ha per ora ancora il titolo di campione del mondo ragazzi 1-1 palla al centro si riparte possiamo dire che saranno gli altri 5-7 a decidere il risultato di questa partita perché i primi due ha chiuso veramente in parità bellissimo questo commento da quando commentiamo la parte asiatica eh davvero bisogna una volta ragazzi una volta ai miei tempi sì quando io ho cominciato a commentare i competitive di Brawl Stars i caster italiani non commentavano solamente la parte eh europea ma si commentavano tutte le regioni ok e io mi ricordo che all'inizio soprattutto la parte cinese era una meme era una meme perché si diceva ma sti qua cosa sono delle comp stranissime cioè non si vengono proprio giocare arrivano al mondiale venivano spaltati e invece adesso ragazzi adesso per carità vi faceva una grossa differenza tra Cina e Giappone però comunque anche Giappone non era ancora arrivato dove è ora e invece ha fatto proprio un bel comeback ma comunque mi ricordo anche la reazione nostra all'anno scorso all'arrivo di Z Division che sfoderavano Brawler un po' particolari no dei matchup un po' diciamo quasi strani no però iniziavano a vincere matchup strani vincono un altro matchup strano e rivincono e poi lì no ti è entrato un attimo i pulci e le orecchie ma vedi un po' che questi non me la raccontano giusta e devo dire che comunque l'andamento di Z è anche quest'anno la stessa cosa l'arrivo di Carl e Gus praticamente ovunque quando ovviamente il draft glielo permetteva si sono molto più uniformati al meta però rispetto all'anno scorso sì 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 mi ricordo questo squeak che non era in meta proprio l'hanno sfoderato sì sì loro squeak e gromm che utilizzavano anche gromm che non era in meta se ne sono usciti e invece quest'anno addirittura il gromm l'hanno messo l'SK è vero e comunque sia ragazzi siamo in double swoosh e guardate che picche che ban particolari Janet Crow e Bea dall'altra parte invece Carl Otis e il Jin perciò senza un mid veramente tosto e invece i picche per l'Iz1 sono Max Fang primo Fang di questo mondiale e Pocho dall'altra parte invece Ambra Gas e ora aspettiamo eccolo il brawler da supportare con Gas Buster eh diciamo che entrambi hanno una dinamica molto simile un brawler che probabilmente potrebbe mindare no non è detto ma lo sai che questa partita sarà un un tripudo di emozioni unico perché non hai idea quel Fang di cosa può riuscire a fare soprattutto con Buster che sono tutti vicini cioè qua succede di tutto qua io mi aspetto veramente un match incredibile oltretutto ah pensavo Siete Tampo e comunque sia io vedo qua di nuovo come dicevi te velocità e velocità e la visione e sì loro giocano così è impressionante loro sfruttano l'arco l'arco doppio ovviamente pieno di cespugli utilizzano il gear per vedere comunque vediamo sempre Buster che si fa riconoscere supportato a Ciapi da Tensai e vanno avanti dritti come treni e ragazzi nel frattempo la bruciatura dell'Ambra sulla lane di sinistra da parte di Kuro anche sul mid va a rompere veramente parecchi spot utili per il team dell'IZ ora vediamo Mojagoku con la possibilità di dashare addosso al suo avversario e viene neutralizzato però qualche secondo dopo e guarda la Ciapi dritto per dritto su Siete Tampo che con Pochion non può molto contro Buster soprattutto Buster con la speed dentro i cespugli e ragazzi nel frattempo arriva anche la ulti di cioè la ulti di Feng Mojagoku ha tentato l'attacco su Tensai che giustamente è il gem carrier ma non è arrivato ragazzi attenzione devo dire qui ha veramente un bel draft di Z0 un bel draft non ho capito forse anche loro ogni tanto si erano scordati che esiste anche Buster e l'hanno lasciato un pick assurdo scoperto ma hanno provato un pick un po' particolare con Feng secondo me l'unica cosa è abbinare il Feng al Pochion letteralmente ha dato il via a questo Buster che qua adesso fa un po' quello che gli pare beh allora vedo un commento in chat ragazzi sicuramente la live supererà le 7 ore però come vi dico sempre quando si commenta è come superiamo queste 7 ore non giocando ma commentando un mondiale eh sì qua non è la durata ma è la qualità degli scontri della giornata di tutto soprattutto alla fine di queste 7 ore ci sarà anche la cerimonia di premiazione perciò il momento più alto anche dopo così tante ore ci sarà tempo per risultare per urlare magari non noi perché insomma la voce comincia a non essere più una nostra parte impegante dopo andremo a salteremo ma non urleremo esatto comunque ragazzi qua nel frattempo continuano lo scontro gli ZO0 vi ricordo sono sul set point potrebbero prendere un vantaggio significativo guardo la Ciappi qua che può fare un bel push da sinistra con Buster e non hanno non hanno nessuno che dia così tanto fastidio al Buster e si vede la Ciappi fa un po' quello che vuole va al push su sito e tempo guardiamo un po' se Kenji riuscirà a buttarlo giù ma non ce la fa non ce la fa gadget per la Ciappi e riparte ancora il lane non si smuove tra l'altro se ci fai caso guarda il fantasmino lì non l'ha preso ah ok l'ha preso adesso perché stava scappando ma l'ha tenuto era convinto lui era convinto di vincere il lane no ha provato comunque a recuperarsi la vita da solo tanta roba si si attenzione all'attacco di Monagoku sulla destra con Fang e attenzione perché stanno cercando l'assedio a Tensai che ha tutte le gemme ma dall'altra parte c'è una Ciappi che va e distrugge c'è il l'accerchiamento a questo punto eh si tra l'altro ho visto anche un altro commento molto interessante qual è la differenza tra i due team e in Ciappi rispondono il nome si ripeti c'è uno stile molto simile in tante cose si si anche solo il gameplay è molto molto simile comunque si potrebbe c'è stato il cammino non ci credo ragazzi di Monagoku in recupero e guardano Giappi come blocca rientro di Monagoku sulla sinistra ma perché cosa fa? ma perché l'ha lasciato passare? l'ha lasciato ma perché? va per pushare in tre adesso ma non ci credo ma non ci credo raga ma che sta facendo ma in che senso? non l'ho pushato perché mi ha calcolato ma come faceva come fanno a sapere queste cose? come fanno? ma ragazzi ma che è stato? come fanno a fare questi predict? ma guardate il pubblico tutti che applaudono che per forza ma che roba ma che roba ma che roba che bello questa cosa ragazzi fa capire che loro sono inarrivabili per tutti gli altri team non quest'anno quest'anno sono inarrivabili per quest'anno è così e mi dal prossimo anno diventerà una caccia all'Izeta veramente e qua nello sport tante volte è capitato che un qualcuno riuscisse a prendere il titolo per anni di fila io penso visto che parlavamo di questa passione che avevamo in comune a Ronnie Coleman Ronnie Coleman vinse Mr. Olive per otto anni di fila uno sport tra l'altro dove è anche difficile avere la supremazia per così tanto perché comunque basta in un anno basta veramente poco e per otto anni resto campione quanti altri esempi si possono fare negli sport e negli sport di campioni in carica che hanno riconfermato la loro posizione per tantissimo tempo a ciappi 14 è devastante devastante che l'Izeta non siano i Ronnie Coleman di Bro Stars mamma mia ragazzi diciamo che sicuramente qua c'è solo da imparare come abbiamo detto anche solo la giocata che è stata che è stata sfoderata ma guardate tutti i ragazzi sono comunque molto contenti hanno veramente tanto tifo e sono concentrati entrambi però qua un piccolo problema forse ah guardalo c'è anche una presa ma ma cos'è è il no ma è un peluche il baby no cos'è ma non è un verde perché io l'avevo già visto ma forse sono le luci eh sono le luci io l'avevo già visto verde così ma era arancione e e comunque sia ragazzi ma abbiamo abbiamo il quarto set che ci aspetta sì sì c'è un attimo qualche problema per Z1 vediamo vediamo ah era vedremo vedremo vediamo ragazzi diciamo vediamo se riescono a risolvere il problema tecnico che è accaduto non so se è di Sidetampo o del suo compagno ah ok c'è effettivamente un problema tecnico sì sì c'era un problema tecnico dalla parte di Z1 abbiamo visto subito gli admin arrivare per ascoltare insomma il problema che hanno avuto diamogli un attimo per cercare di risolvere e comunque ragazzi quarto set quindi possiamo dirlo siamo ufficialmente anche nel migliore dei casi a metà di questo scontro la grand final qua vediamo i player che si siedono un po' approfittano per riposarsi diciamo che hanno avuto una lunga giornata loro sì loro davvero oltretutto ragazzi io mi soffermerei su questo dettaglio al mondiale i player per la prima volta perché in genere non succede mai durante l'anno giocano in piedi giocano in piedi a Brawl ed è una cosa molto scenica ma che per i professionisti è veramente scomoda sì diciamo Brawl Stars è un gioco che quando non si è LAN come in questi casi si gioca per tutto l'anno seduti di conseguenza andarsi a giocare la finale da scusami andarsi a giocare la finale da da in piedi non è sicuramente facile non è la la quotidianità e nel frattempo mi chiedono cosa può fare Feng quando usa la super e disegnare dei grafitti curarsi ma arrendersi calcolare l'età ma what the fuck può penso ricaricare i colpi no curarsi disegnare dei graffitti può fare puoi disegnare dei graffitti ma che senso io avrei detto calcolare le tasse sarebbe stata la risposta ma come puoi disegnare dei graffitti ah ma vuoi mettere che se sei così veloce da usare il tasto dei graffitti durante la ulti di Feng magari lo metti per la strada ah ma vuoi vedere ma non ci credo è una cosa che magari noi che non siamo proprio troppo rapidi non abbiamo mai provato non ci credo volete usare a provare calcolare le tasse era bellissimo comunque come eh giustamente in chat eh ragazzi sarà calcolare le tasse ok eh perfetto allora ragazzi eh eh bov quelle step ok ok quelle step ma possibile che che questa traduzione sia sia arrivata per un meme che è andato oltre l'oceano non lo so io non mi voglio immaginare non credo non credo che siamo arrivati a quei punti lì e anzi se posso dire una cosa che da una parte è brutta da una parte però è bellissima è che quando si viene in questi posti in questi eventi ti rendi proprio conto di quanto l'Italia sia una briciola vabbè giustamente tutto quello che noi conosciamo tutto quello che ci circonda quando usciamo di casa al mattino e poi magari giochiamo anche con i nostri amici online è una briciola è un tassellino minuscolo è un tassellino come esci dall'Italia nessuno magari sai i tuoi memini le tue cose che ti porti dietro anche solo quelle poche cose che diciamo e giustamente vale anche per gli altri eh e da una parte mi viene da pensare quanto sarebbe bello girare il mondo no quando ci sono queste cose qua diciamo che la notizia di un content ho sentito ho sentito vabbè vedremo girano voci comunque ripartiamo con i ban di Zero One una Boni un Carlo e una Max yes dall'altra parte invece Zero con Lola Brock e Beat bannati primo pick e una Colette da parte di One siamo in Bridge Too Far vi ricordo ragazzi non si gioca totalmente sulla gittata perché il primo pick è proprio qualcosa per andare a a tenere un tank sì ma infatti particolare la scelta di Colette primo pick Otis invece scelta molto 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 buona per l'Izeta e Ivan anche anche qua l'Izero prendono un bel pick forse perché sta mappa non è male adesso però bisogna vedere la risposta di Z1 che ovviamente deve recuperare perché in questo caso sono in svantaggio contro i loro compagni di Org che invece sono già sul 2 a 1 vedremo anche perché se Z0 va sul 3 a 1 già mette insomma un po' di distacco un po' di di ansia su un team che magari di ansia per ora non ne ha avuta così tanta adesso anche loro cercheranno di portarsi a casa al Montepremi di conseguenza qua giocano al 100% entrambi assolutamente sì nel frattempo arriva la risposta con Bel è molto buona la Bel molto molto buona esatto però un Colte da loro non lo vediamo è vero è vero il Colte è una roba europea da loro non esiste non c'è non ce l'hanno se mettono un Colte è impazzisco ma sono più per gli squick loro è vero o forse Colte con le pistole gli sembra un po' troppo texano no eh dici che l'isna dura un po' Iris Iris ok vedi che a parte Colte avrebbe fatto fatica contro Iris però mi domandavo chissà se un Colte lo usano perché non lo abbiamo proprio mai visto perché in realtà è un pick raro e poi magari qualche volta lo usano anche loro sì però sono quei pick che magari se qualcuno lo deve mettere sicuramente non è un team Z è incredibile loro hanno dei brawler che proprio non utilizzano che magari da noi sono quell'ultima chance da loro non esiste infatti quando ci chiedono che cos'è il meta è sempre difficile dare una risposta esatta perché dire che il meta sono quei brawler che si usano adesso in questo momento è buzz ultimo pick buzz ultimo pick stavo per dirlo anch'io what the fuck ma io a questo punto purtroppo visti purtroppo si fa per dire visti i risultati dato che gli Z dominano il meta e il loro e Colt come dicono se la loro non esiste e non esiste e hanno ragione loro però in Italia se si usa il meta il meta è qualcosa che è anche italiano sì 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 però in questo caso cioè Colt non è meta è per carità no 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 è quell'ultima chance però parlando adesso al mondiale se Colt Z non lo considera bisogna prendere da loro sono loro quelli da osservare poi giustamente quando vai a fare le tue finali mensili noi in Europa non è che puoi sfoderare magari lo stile di gioco degli Z che magari non funziona nemmeno e comunque nel frattempo ragazzi siamo in questa situazione con un team Z One che ha fatto molti danni sulla cassa è quasi partita un buzz che secondo me è stato un pessimo pick infatti si vede che qua l'hanno proprio l'hanno proprio devastato con quella Colt eh sì 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 c'è anche il il la belle che con il dot può veramente ma sì ma hanno tantissimi counter qua io te lo dico questo è settimo set te lo dico questo è settimo set potrebbe essere anche una delle finali mondiali più combattute di sempre assolutamente assurdo beh sicuramente chi può dare battaglia a Z One se non Z Zero è davvero a questo punto sì il campo ha parlato come dico tante volte il campo ha parlato ragazzi eh sì e qua si dettampo spacca la cassa si dettampo qua fa la cassa e vanno sul set point sì qua netta la differenza nel draft purtroppo Buzz non è come su oddio com'era la mappa pit stop che lì per lì un attimo un lapsus anche perché dopo sette ore di live mi sta partendo tutto a voglia e diciamo che Buzz lì è stato il pick invece quello decisivo qua tutto tranne che decisivo sì qua è stato molto particolare e si è visto si è visto parecchio sì comunque ti ricordo che uno del forse l'errore più grande il sintetampo in tutta la competizione è stato fatto proprio con il Buzz contro i Totem perché praticamente ha fatto una doppia è vero è vero che è la giocata che ha lasciato perplesso tutto il mondo tutti i caster quel doppio è rimasto lì doppia ulti doppio liscio è rimasto un po' così diciamo che tra l'altro si è fatto un 20% con la colente zitto zitto con un tre colpi nel suo gameplay così frenetico gli si muoveva anche la cassa sì davvero attenzione qua ragazzi nel frattempo a Tensai che arrivano anche gli esserini famosi esserini di di Kuru e sì gli che tp hai visto la velocità è andato dritto eh qua però arriva lo stunno di Tensai e fa un bel lavoro qua solo Spider-Man sarebbe all'altezza di una giocata doppia però qua comunque per il team zero assolutamente con un push hanno recuperato praticamente quasi tutto e ancora e Sidetampo però qua utilizza tutto due ulti e un gadget è assurdo continuano a tenere Buzz sulla colette non le frega niente no loro sono su un altro pianeta pazzesca sta cosa chissà come si immaginava Tensai un matchup e guarda ancora e non va pure vincere il matchup contro la colette giustamente ha visto che Sidetampo ha il gadget dello scudo può avere un vantaggio si fa per dire perché comunque parliamo sempre di Buzz contro colette però ha la possibilità di spuntarla magari stava approfittando ecco Tensai sta approfittando della lane centrale che ha meno spazio e guarda che vanno a spuntare loro infatti di zero vanno a pareggiare che partite che partite ragazzi è qualcosa di assurdo ragazzi bellissimo che Buzz indipendentemente da chi ci sia punta solo la lane centrale e chiunque ci sia passa a una certa davvero io vi giuro ogni tanto è una cosa che viene spontanea mi metterei cioè mi metto nei loro panni anche una partita non lo so in ladder o un torneino in cui possiamo finire noi cioè se proviamo a fare una roba del genere vieni sponchillato con una cattiveria allucinante è una roba che è inconcepibile per qualsiasi player normale di questo gioco ragazzi non non c'è niente da fare abbiamo comunque al momento attuale un leggerissimo vantaggio per il team zero che in realtà va subito a fare una bella serie di colpi con la Eve ok tra l'altro Eve utilizzata rigorosamente con il colpo che fa spawnare l'aglienotto ok io per un attimo ho perso la voce ho perso tutto ho sentito ho sentito non ti preoccupare non ti preoccupare che poi torna tutto ma quello che non torna è questo momento Dani assolutamente assolutamente sicuramente essere qua di persona poter commentare lo scontro fra i due titani di di Bro Stars è una cosa che non ricapita la difesa perfetta e nel frattempo ragazzi abbiamo Daniele che sta morendo lentamente lo lascio un attimino di riprendere va tranquillo Daniele riposati un attimo che ci sono qua io Daniele si è spento ragazzi poteva poteva succedere ma tranquillo sono abituato già con Alessandra che muore di mal di denti in genere lei quindi io in genere sopravvivo respawna con calma respawna con calma quando ci sei ragazzi è caduto Daniele è caduto Daniele è caduto Daniele attenzione qua due mega hit di moglie tra l'altro Alessandra è in chat ha fatto una figuraccia il genere la prende in giro ma non mi caga mai invece qua era pronta corica miseria diciamo che l'aura dell'Izeta è stata talmente potente talmente potente che Daniele sono cascato anch'io sotto il passaggio dell'Izeta guarda io non ti dico cosa ho mangiato in questi giorni ma di questo ne parleremo in un altro momento perché qua ragazzi nel frattempo il push di Moya Goku e si detampo riesce a portare in perfetta parità la cassa ma attenzione perché sotto Kuru riesce a distruggere la cassa dell'Izeta One e quell'urlo mi è costato caro anche a me ho alzato un pochino la voce anch'io me ne sono ventito torno a casa che parlo così no ragazzi comunque sia l'Izeta Zero per assurdo non ci credo neanche loro stanno andando in vantaggio importante sopra per un attimo anche loro hanno guardato l'iPad ma chi è che ha vinto un attimo non lo capisco neanche loro tra un po' e ora comunque te l'ho detto loro se la sono giocata parecchia tutto l'anno devono stare attenti a crearci queste situazioni perché non siamo più all'altezza di reggere mamma mia davvero mamma mia davvero ragazzi servirebbe un po' di trucco un po' di trucco sì davvero ci vorrebbe un barbatrucco ragazzi no no solo trucco Daniele ragazzi fuori controllo mi attacco all'unica cosa che mi è rimasta non so se può essere stato quel signore dalle tre lettere quel mister tre lettere è stato quel cos'altro ti ha cambiato non lo so non sei più come eri prima non sei più come eri prima guarda come sono sono contentissimi hanno una carica comunque non si stanno trattenendo o stanno prendendo la cosa sotto piede è una roba pazzesca vanno su 3 a 1 tra l'altro eh sì cioè perché non la stanno prendendo sotto gamba ecco e oltretutto qua Z1 era il team favorito diciamo abbastanza anche nostro e per il pubblico sì è così metà su Tensai ma io a questo punto non so se è Tensai il MVP quest'anno direi che comunque il player più forte del mondo potrebbe per forza Siete Tampo io invece ti dico che potrebbe rimanere Siete Tampo anche se effettivamente a paragone con l'altro team Z è un po' andato in ombra se dovesse vincere ovvio che che questo darebbe una bella una bella scossa al al suo titolo eh perché potrebbe cominciare a bacillare eh potrebbe diventare uno dei suoi compagni che in questo momento è avversario potrebbe potrebbe diventare uno di loro il il nuovo player più forte del mondo beh sicuramente Tensai e Aciapi sentono la pressione che arriva dalla possibilità di riconfermarsi come campioni del mondo comincia a diventare golosa la situazione anche perché su BO7 un attimo ha avuto di defiance ma ne serve 4 4 ne servono eh BO7 eh no è 4 3-7 eh sì ah sì 4 è soddisfare eh sì ha ragione perché se uno vinci 4-7 è vero eh non ce la fai recuperare è vero quindi sono effettivamente sul set della vittoria eh questo set qua è interessante praticamente con questo formato si è allungato di un set la vittoria da 3 a 4 sì 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 assolutamente allora molto rapidamente Z Division 1 piccano Max e bannano Max Otis e Penny dall'altra parte invece intanto arriva anche lì lista lista pick che ogni volta lista molto rapidi molto rapidi sì sì ma io mi immagino il social invece e bannano Zero Pocho Squeak e Meg molto temuti anche da loro eh la Laura di Sitte Tampo si fa sentire dall'altra parte però arriva un bellissimo Crow che è molto primo pick eh sì molto molto buono dall'altra parte non ho capito vabbè hanno risposto con un ringhio è una bella è una bella si sono dovuti affidare a un long ma perché proprio Bea quando c'è il croco paura dei tank c'è una bella combo tra Bea e ringhio eh sì perché la va a potenziare il 3k diventa un 3k quasi 4 il Crow diventa però cioè il Crow è pericoloso a prescindere e vediamo come se la gestiona è il Crow può contare Bea con la ulti molto bene ma comunque Bea si è utilizzata bene col gadget può fare qualcosa attenzione non mi sarei mai aspettato il Brock dopo il il gas mi aspettavo qualcosa ma sai cos'è che con l'incendiario magari può bruciare un po' zonare un po' io qua per assurdo mi sarei aspettato un Griff un Griff supportato da un gas nella maniera in cui sanno fare loro penso potrebbe essere qualcosa che su Brostar se non si è ancora mai visto ho anche un Carl eh qua ci stava non lo so sai e ora qua cosa vanno a mettere qua Mortis Janet un attimo Mortis ho pensato di essere europeo invece no giapponesi anche lì Mortis comunque è vero un Mortis no beh ti avrebbe raccounterato perché Crow Jump Brock Jump e Tensai col gas si mette uno scudo che c'ha One eh sì esatto esatto per assurdo Mortis è tanto forte in ladder così perché ma cambio di programma la finale best of one no best of nove eh best of one ci stiamo fino a domani no perché a forza di dire zero one zero one eh beh Graxone va bene ci sta mi sembra mi sembra giusto mi sembra giusto mi sembra giusto allora nel frattempo vediamo eh molto rapidamente i gear c'è c'è la velocità c'è la velocità giustamente qua ci sta anche e c'è Sitte Tampo che ci sfodera la sua Jeanette vediamo il Crow vedo già che sta dando problemi un po' a tutti e e la Bea la Bea difficile eh anche perché qua devi andare a colpire dei player che insomma magari non si fanno colpire così tanto facilmente anche essendo tutti nello stesso punto o quasi nello stesso spazio di campo Mojagoku vedo che di hit ne prende pochi purtroppo attenzione qua a Kenji perché va wow qua c'è bella presa di posizione da parte Kenji qua prende una doppia hit sia da da Kuro che da Tensai e sparisce per assurdo lì 0 star dominando lì 0 e allora a questo punto mi viene da dire era proprio Tensai e Aciapi che davano quel che in più a Sitte Tampo erano loro che erano quelli che davano il boost cioè il player più forte del mondo non era niente senza i suoi compagni questo è il messaggio che ci sta dando Brawl Stars in questo momento e anche perché giustamente si gioca in 3 però Sitte Tampo sembrava così tanto devastante ma era proprio l'intesa che aveva con Tensai Aciapi una doppia vittoria qua sarebbe una conferma pazzesca ma stanno giocando in maniera impressionante sembra di vederli i Z a 0 contro un team non giapponese cioè non contro i Z veramente veramente bravi anche bello draft io rimango comunque della scelta che Crow contro Bea è veramente forte magari Z non sono ovviamente io la persona adatta per consigliare un brawler a queste 6 persone ma io per esempio avrei scelto Bell dato che mi avevano messo Crow vabbè c'è stato un grande deficit sulla gittata guarda Dani Dani disperato ragazzi gli Z di Vision Zero sono al match point ragazzi guarda anche Grax è pronto ci potremmo essere ci potremmo essere Grax ha già la colina mi raccomando Graxone portami da bere hai capito portami una bella bottiglia d'acqua grazie comunque nel frattempo nel frattempo ragazzi che do messaggi in codice a Graxone c'è uno start favorevole per i One qua Z1 che ovviamente adesso devono giocarsi tutto per tutto cosa che non è mai successa nella loro road to finale mondiale vediamo cosa andranno a combinare anche perché secondo me è arrivato un bel colpaccio dalla eh ma io noto effettivamente tanta difficoltà a Moyagoku a mettere le hit quelle importanti arrivano i colpi normali ma 3k arriva difficilmente il Brock comunque sai che alla fine è un bel pick mi è piaciuto il Brock è quel pick bello qua Ciapi per chi l'hanno di più ci sono dovuti andare si era salvato aveva 300 di vita ma mi portava nessuno mamma mia però Tensai ha schivato la ulti di Bea rimane da solo Tensai usa lo scudo sopravvive vabbè vabbè devo dire che tra Tensai schiacciato in mezzo due tra Tensai a Ciapi effettivamente non so chi sta dando più spettacolo e giustamente mi sa che il player più forte del mondo potrebbe essere uno di loro due eh sì ragazzi è veramente uno scontro tra titani comunque sia ce lo stiamo godendo tutto e qua provano a riprendere la è assurdo sono praticamente perfetta parità ragazzi ma comunque il bello è che a max range moyagoku non mette un hit sono imprendibili a Ciapi è qualcosa di fenomenale schiva tutto sta schivando giustamente l'unica cosa che non riesce a schivare sono i colpi di sidetampo perché arrivano in un range di campo impossibile da schivare ma il resto non hanno cioè non prendono un colpo della Bea o power non entra il 3k può jumpare a Ciapi allo scudo è pronto è pronto è qua ragazzi a Ciapi grande grande jump da parte sua riesce ancora a lanciare alcune hit il 7tampo che viene power appato parecchio vantaggio il 7tampo qua va molto molto dritto c'è anche uno zoom che partita che partita ragazzi una bella ultima parte di Kuro che potrebbe essere importante perché praticamente spoiler la posizione di Mojagoku infatti viene chillato il Giapa ragazzi attenzione ci siamo 0 vanno a vincere il mondiale ci siamo di Z0 vinto il mondiale di Z0 Daniele ma come è possibile Tensai e Aciapi ma cosa è successo Tensai e Aciapi riconfermati campioni del mondo ma in che senso ragazzi ma in che senso ma che prestazione e adesso l'MVP ma chi è l'MVP voglio capirlo voglio capire ragazzi abbiamo bisogno di voi diteci chi è l'MVP perché io non lo so non lo so ragazzi ma Ferre ma cosa abbiamo appena visto un 4 a 1 per Z0 cosa hanno combinato questi ragazzi io sono senza parole Daniele stanno per alzare la coppa ed eccoli qua sono i nuovi campioni del mondo di Brawl Stars ragazzi complimenti di Z Division 0 e allora sono automaticamente loro il team da battere sono automaticamente loro il nuovo team il nuovo boss finale sì diciamo proprio di sì contro ogni aspettativa ragazzi tutti dicevano Z Division 1 invece comunque nonostante il finale molto molto particolare diciamolo hanno comunque superato le aspettative inaspettato inaspettato io veramente mi mi complimento con questi ragazzi fenomenali ci hanno regalato uno spettacolo assurdo c'era almeno The Match se lo vuoi votare ma vabbè ormai non si fa in tempo eh vediamo un po' ed è Tensai come pensavo io Tensai Tensai ragazzi ufficialmente potrebbe arrivare la notizia che Tensai è il nuovo player più forte del mondo Tensai potrebbe essere il nuovo player più forte del mondo mamma mia veramente potrebbe essere lui Daniele e allora a questo punto un altro annuncio qualcuno è riuscito a superare Sidetampo qualcuno è riuscito a superare Sidetampo e proprio il suo ex teammate questo sembrerebbe sembrerebbe proprio quello che comunque niente da togliere al povero Sidetampo che è arrivato secondo ma ha comunque sfoderato delle performance impressionanti ma la performance generale del team ZZero oggi è stata superiore oggi non ce n'era per nessuno mamma mia ragazzi pazzesco e pensare che questi tre ragazzi hanno rischiato di perdere contro Chasmac hanno rischiato è vero pensa cosa sarebbe successo se Chasmac avesse battuto questi tre il ZZV Zero o magari se i totem avessero battuto il ZZV One insomma cosa sarebbe successo ma infatti e allora a maggior ragione i Chasmac e i totem vanno a testa alta tornano a casa a testa alta perché sono andati da un passo da eliminare quelli che adesso sono i player più forti del mondo io quello che voglio farvi capire ragazzi è che comunque tanti match sono stati vinti sì dal team favorito ma non era così semplice come 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 era sulla carta tanti match sono stati vinti ma comunque sono stati combattuti tantissimo sono stati combattuti tantissimo fino alla fine e sarebbe passato veramente una cavolata un dettaglio per cambiare l'esito di una partita di un set di un match di un game di una posizione di un mondiale esatto di tutto ragazzi e invece tutto è andato dritto per la strada di questi player vestiti in bianco e quest'org quest'anno domina più dell'anno scorso c'è l'anno scorso campione del mondo Z quest'anno in finale entrambi i team che vabbè l'anno scorso non c'erano quest'anno sì sarebbe qua tensaia qualche problema sì sì è più grossa di lui è pesante è pesante ma poi immagina la tensione che ha rilasciato in questo momento cioè non ce la fai a tenere niente anche l'iPad in questo momento pesa 300 kg comunque ragazzi massimo rispetto anche tra i team appena hanno vinto si sono stretti la mano è veramente veramente qualcosa di assurdo questo 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 personaggio che è arrivato sul palco credo che sia un traduttore è il traduttore per i ragazzi perché ricordiamo che comunque purtroppo c'è un po' di difficoltà nel linguaggio anche perché dal giapponese all'inglese c'è una bella differenza e giustamente i ragazzi di Z entrambi in inglese sanno giusto il minimo indispensabile per salutare gli altri rivali e giusto magari se qualcuno come noi gli chiede una foto giusto quello eh sì esatto ma quello ormai ci avevano fatto l'abitudine perché le l'hanno chiesta veramente in tanti e ragazzi questo è stato lo spettacolo che vi abbiamo portato questo è stato questa è la conclusione di un cammino ragazzi che per noi caster come per tanti ragazzi che hanno giocato oggi è iniziato un anno fa è iniziato a gennaio del duemila e venti ventidue e adesso si prenderà una pausa e si prenderà una pausa faremo il Natale ok e ovviamente il mese di dicembre ragazzi sarà di scarico e poi verso fine gennaio ma neanche a gennaio ci saranno gli acquisti le vendite i nuovi team ci sarà un un recap di tutta la insomma situazione squadre e da febbraio dovrebbe ripartire una nuova Brawl Stars Championship anche se scusa Dani se ti interrompo un'ultima cosa io tutti gli anni che ho cassato il mondiale ho visto un annuncio della BSC ah è vero non c'è ancora stato manca un trailer ma se non lo fanno vuol dire che allora non ci sarà più BSC il prossimo anno è possibile no diciamo che per i canali non privati però non so se c'è rientrato anche te per chi si qualifica le varie BSC già stato fatto l'annuncio ci saranno vari cambiamenti che ovviamente non vi stiamo qua a spoilerare ci sono stati fatti però ci sarà la BSC 2023 in tutte le varie regioni mi sarei aspettato un annuncio più che altro questo ma io mi aspettavo l'anno scorso hanno fatto quel bel filmato con una bellissima canzone il trailer con l'annuncio vediamo che comunque la canzone che abbiamo ascoltato anche se non era magari poi ispirata a tutti i team come avevano detto è clamorosa mi è piaciuta tantissimo ma devo dire che con le colonne sonore sono sempre molto bravi però io a questo punto le facciamo vedere questi? vogliamo fargli vedere ragazzi io ho sempre voluto una cosa tantissimo ho voluto sempre avere questi i biglietti per commentare e quest'anno ne abbiamo fatte andare tantissimi diciamo che abbiamo un po' di appunti abbiamo un po' di appunti abbiamo voluto essere più professionali possibile io allora a questo punto prima che sia troppo tardi io ti faccio i complimenti Dani un bel un abbraccio con Dani ci deve stare ragazzi siamo arrivati alla fine di questo cammino che per veramente per un anno abbiamo anzi per due anni infatti se posso ti volevo ringraziare perché l'anno scorso era un anno quest'anno sono due ci siamo riconfermati e veramente è qualcosa di fantastico assolutamente non potevo aspirare a collega migliore assolutamente abbiamo avuto l'anno scorso quella finale di Bucharest un po' così dove ero riuscito ad andare subito a traversa te giustamente hai fatto come tutti gli altri sono rimasto a casa ma quest'anno finalmente ci siamo beccati la voce non c'è più non c'è più non ce la facciamo più questa questa live che è conclusa la vedete hanno già mandato il text thanks for watching ci vediamo nel 2023 è appunto conclusa noi ci becchiamo alla prossima ragazzi un saluto tra tutti ciao belli ciao ragazzi chiudi vai